Conversazioni con Dio Volume secondo Introduzione Questo è un documento straordinario, è un messaggio di Dio, nel quale Dio stesso offre una rivoluzione sociale, sessuale, scolastica, politica, economica e teologica di portata planetaria, tale che non abbiamo mai visto e neppure osato immaginare, se non di rado. Questa proposta parte dai nostri desideri di abitanti del pianeta. Abbiamo dichiarato che vorremmo creare una vita migliore per tutti, elevare la nostra coscienza, creare un mondo nuovo. Dio non ci condanna qualunque cosa decidiamo, ma se scegliamo questa ci mostrerà la via. Non ci costringerà in ogni modo ad accettare i suoi consigli, né ora né mai. Le parole di questo libro sono per me allo stesso tempo accattivanti, fastidiose, provocatorie, rincuoranti. Accattivanti perché mi lasciano senza fiato per la loro vasta portata, fastidiose perché mi mettono davanti a me stesso in modo inquietante, provocatorie perché mi presentano una sfida che nessuno mi aveva mai proposto prima, quella di diventare migliore e più grande, di essere la fonte di un mondo in cui la rabbia, la gelosia, i problemi sessuali, le disparità economiche, l'ineguaglianza sociale, la segretezza politica e i giochi di potere, non faranno più parte delle esperienze umane. Dio dice di sì e aggiunge che per riuscirci dobbiamo soltanto sceglierlo. Questo libro è davvero un dialogo con Dio, è il secondo di una trilogia e riporta una conversazione con la divinità che continua da oltre cinque anni. Forse non crederete che si tratti davvero della parola di Dio, ma non importa. Ciò che conta è che questo materiale abbia un valore, porti una maggiore comprensione, un risveglio, riaccenda i desideri o stimoli utili ai cambiamenti nella nostra vita quotidiana. Dio sa che qualcosa deve cambiare. Non possiamo andare avanti in questo modo. Il primo volume della trilogia Conversazioni con Dio si occupava di molti problemi personali e cambiò la mia vita. Cambiò una quantità di vite. In poche settimane divenne un bestseller e a un anno dall'uscita vendeva 12.000 copie al mese. Ovviamente l'autore del libro era piuttosto famoso e ciò ha reso il volume così interessante e influente. Sono profondamente grato di essere parte di questo processo attraverso il quale alcune grandi verità vengono ricordate da migliaia di persone. All'inizio ero terribilmente spaventato. La gente avrebbe potuto credermi pazzo, in preda al delirio di onnipotenza, oppure avrebbe potuto decidere di mettere in pratica i miei consigli. Perché questo mi intimoriva? Semplice. Sapevo che tutto ciò che avevo scritto poteva anche essere sbagliato. Poi cominciarono ad arrivare le lettere da tutto il mondo. E allora seppi, sentii dentro di me, che era giusto, era esattamente ciò che tutti avevano bisogno di sentire. Ora è arrivato il momento di pubblicare il secondo volume e mi rendo conto di essere ancora spaventato. Qui si affrontano aspetti che travalicano la vita individuale e si propongono considerazioni geopolitiche di portata mondiale. Credo pertanto che questo libro contenga una quantità di idee con cui il lettore medio non sarà d'accordo. Temo che non vi piacerà ciò che leggerete. Ho paura di sollevare un vespaio, di provocare una tempesta. E ancora una volta che tutto ciò che ho scritto sia sbagliato. Certo, ormai non dovrei più avere paura. Non ho, forse, letto anch'io il primo volume? Eppure, ecco di nuovo la mia umanità. Nel rendere pubbliche queste trascrizioni, il mio obiettivo non è scuotere le persone, ma soltanto comunicare a voi ciò che Dio ha detto a me in risposta alle mie domande. Io ho assicurato che lo avrei fatto e non posso infrangere la promessa. Neanche voi potete farlo. Avete sicuramente deciso di permettere che tutte le vostre idee e convinzioni siano messe in discussione. Avete preso l'impegno profondo di crescere. Solo chi ha fatto questa promessa può aver scelto questo libro. Affrontiamo insieme questa avventura. Non c'è nulla da temere. Basta restare fedeli a ciò che siamo. E messaggeri. Se non lo fossimo, io non avrei scritto questo libro e voi non lo stareste leggendo. Siamo messaggeri e abbiamo un lavoro da portare a termine. Prima di tutto, dobbiamo assicurarci di aver compreso chiaramente il messaggio divino. Poi dobbiamo integrarlo nella nostra vita quotidiana e infine dobbiamo trasmetterlo agli altri con il nostro esempio. Questo libro non è piacevole come il primo che era l'abbraccio amorevole di Dio. È quasi come uno strattone, anche se è ugualmente affettuoso. Una sveglia, una sfida a passare allo stadio successivo. C'è sempre un grado superiore. La vostra anima è venuta sulla terra per fare le esperienze più ricche, non quelle più povere. Per questo non vuole lasciarvi riposare. La scelta è sempre vostra, ma l'anima farà in modo che non diventiate mai compiacenti o troppo soddisfatti di voi stessi e non vi lascerà sprofondare nell'apatia. Ci sono troppe cose da cambiare nel mondo e c'è sempre un'altra montagna da scalare, una nuova frontiera da esplorare, una nuova paura da vincere. Per queste ragioni il libro può essere meno piacevole del precedente. Se vi sentite sconfortati, restate col vostro sconforto, aggrappatevi alla barca quando comincia a rollare, ma poi vivete secondo un nuovo paradigma o meglio contribuite a crearne uno nuovo attraverso l'esempio e la meraviglia della vita che avete già vissuto. Conversazioni con Dio Libro secondo, capitolo primo Grazie per essere qui. Certo, avevate un appuntamento, ma avreste potuto anche non venire. E invece siete arrivati, nell'ora e nel luogo convenuti. Grazie. Forse avete agito inconsciamente, senza neppure sapere che cosa stavate facendo e perché, in tal caso una piccola spiegazione può essere d'aiuto. Questo libro è arrivato nelle vostre mani proprio al momento giusto. Ora forse non ve ne rendete conto, ma quando lo avrete terminato ne sarete assolutamente sicuri. Tutto accade secondo un ordine e l'arrivo di questo volume nella vostra vita non fa eccezione. Questo libro è un contatto reale con Dio. Dio converserà con voi attraverso me. Qualche anno fa non avrei detto una cosa simile. La dico adesso perché ho già avuto un dialogo con Dio e so che non solo è possibile, ma avviene continuamente. Dovete capire che in parte siete stati voi stessi a far sì che ciò accadesse. Noi siamo la causa degli eventi della nostra vita e siamo i co-creatori insieme con il grande creatore delle circostanze che li producono. La prima volta che ho parlato con Dio a nome vostro è stata nel 1992-93. Gli avevo scritto una lettera rabbiosa chiedendo perché la mia vita era diventata un monumento alla lotta e al fallimento. Stava andando tutto a rotoli, dalle relazioni sentimentali al lavoro, dal rapporto con i miei figli alla salute. Nella mia missiva domandavo le ragioni di tutto questo e che cosa potevo fare per migliorare la mia esistenza. Con mio grande stupore ricevetti una risposta, che poi è diventata un libro, conversazioni con Dio. Forse ne avete sentito parlare o magari l'avete letto, quindi non avete bisogno di ulteriori preamboli. Se invece non lo conoscete, spero che accada presto, perché spiega nei particolari come è iniziato tutto questo e risponde a molte domande sulla nostra vita personale. Denaro, amore, sesso, Dio, salute e malattia, cibo, relazioni sociali, il lavoro giusto e molti altri aspetti dell'esistenza quotidiana, di cui il presente volume non si occupa. Il processo con cui mi arrivano le informazioni è semplicissimo. Scrivo su un foglio una domanda qualsiasi, di solito la prima che mi viene in mente. Appena l'ho messa nero su bianco nella mia mente si forma la risposta, come se qualcuno me la sussurrasse all'orecchio. È come scrivere sotto dettatura. Tutto il materiale contenuto nel libro è stato scritto nell'arco di un anno. Ve lo propongo così, come mi è stato dato. È la domenica di Pasqua e io sono qui, secondo le istruzioni ricevute. Ho la matita in mano, il blocco degli appunti sulla scrivania davanti a me e sono pronto a cominciare. Devo dirvi che è stato Dio a chiedermi di essere qui. Abbiamo un appuntamento? Dobbiamo iniziare il secondo volume della trilogia di cui Lui, voi e Dio stiamo facendo un'esperienza comune. Non ho idea dei temi specifici che toccherà questo libro. Non ho un progetto e non potrei averlo perché non sono io a decidere. È Dio. Il giorno di Pasqua di un anno fa Dio cominciò a parlare con me. So che può sembrare ridicolo, ma è proprio ciò che è successo. Non molto tempo fa quella conversazione si è interrotta. Mi è stato detto di prendermi una pausa e di tornare oggi per un altro appuntamento. Anche voi avete un appuntamento. Oggi troveremo Dio insieme. È il miglior modo perché il primo passo verso la scoperta che non siamo separati da Lui consiste nel capire che non siamo separati dagli altri esseri umani. Finché non comprendiamo che tutti noi siamo uno, non potremo sapere che anche noi e Dio siamo uno. Dio non è mai separato da noi e noi pensiamo soltanto di essere separati da Lui. È un errore comune. Crediamo di essere separati dagli altri. Ho scoperto che il modo più rapido per trovare Dio è trovare gli altri. Smettiamo di nasconderci dagli altri e da noi stessi. Il modo migliore per smettere di nascondersi è dire la verità a tutti e sempre. Iniziate subito a dire la verità e non fermatevi più. Cominciate col confessarvi quella su voi stessi. Poi ditevi la verità su qualcun altro. Quindi dite la verità su voi stessi a un'altra persona. Continuate dicendo la verità su qualcun altro proprio a quel qualcun altro. e infine ditela a tutti su ogni cosa. Questi sono i cinque stadi del dire la verità e rappresentano il sentiero verso la libertà. La verità vi renderà liberi. Questo libro parla della verità, non della mia, ma di quella di Dio. Suppongo che anche questo dialogo si svolgerà nello stesso modo. Io farò le domande e Dio risponderà. Ma preferisco chiederlo direttamente a lui. Dio, andrà così? Sì? Ah, ne ero sicuro. Solo che in questo libro sarò io a indicare alcuni temi senza aspettare le tue domande. Nell'altro volume, come sai bene, non l'ho fatto. Già, Dio, e perché questo cambiamento? Perché stai scrivendo questo libro su mia richiesta. Per il primo volume avevi un programma. Ora invece non ne hai alcuno a parte quello di fare la mia volontà. Esatto, Dio, ma come posso non fare la tua volontà se la mia volontà è la tua? Questa è un'ottima domanda per iniziare il nostro dialogo. facciamo un passo indietro. In realtà io non ho mai detto che la mia volontà fosse la tua. Ma certo che lo hai detto. Nel primo volume mi hai detto chiaramente la tua volontà è la mia. È vero, ma non è la stessa cosa. Davvero? Avrei giurato di sì? Dire la tua volontà è la mia non è lo stesso che affermare la mia volontà è la tua. Se tu facessi sempre la mia volontà, anzi, se avessi fatto la mia volontà anche per un giorno soltanto, saresti già un illuminato e probabilmente ora non staresti scrivendo questo libro. In realtà, per lo più, non sai neppure quale sia la mia volontà. Allora, Dio, perché non mi dici tu qual è? Lo faccio, ma tu non mi senti e quando mi senti non ascolti e quando ascolti non credi a ciò che senti e anche quando credi a ciò che senti non segui le istruzioni, quindi dire che la mia volontà è la tua è impreciso. D'altra parte, è vero che la tua volontà è la mia. Primo, perché io la conosco. Secondo, perché l'accetto. Terzo, perché la lodo. Quarto, perché la amo. Quinto, perché la possiedo e la chiamo mia. Ciò significa che tu hai il libero arbitrio e io rendo mia la tua volontà attraverso un amore incondizionato. Perché la mia volontà sia la tua, tu dovresti fare lo stesso. Ma in tutta la storia dell'umanità solo pochissimi l'hanno fatto in modo coerente e sempre. Altri l'hanno fatto quasi sempre. Moltissimi lo fanno di tanto in tanto e praticamente chiunque lo ha fatto almeno una volta anche se ci sono individui che non l'hanno fatto mai. E io, Dio, a quale categoria appartengo? Che cosa importa a quale categoria vuoi appartenere? Decidilo tu a quale vuoi appartenere d'ora in poi. Non è questa la domanda giusta, Dio? Sì. E tu che cosa rispondi? Rispondo che mi piacerebbe essere nella prima categoria e fare sempre la tua volontà. Oh, ciò è lodevole, auspicabile e forse impossibile. Perché, Dio? Perché devi ancora crescere molto prima di riuscirci. Eppure ti dico questo, potresti riuscirci, potresti diventare Dio in questo stesso istante se scegliessi di farlo. La tua crescita non deve necessariamente richiedere molto tempo. E allora perché finora è durata tanto? Già, perché? Che cosa aspetti? Non crederai che sia io a trattenerti? No, non lo credo, Dio, so di essere io a farlo. Bene, la chiarezza è il primo passo verso la padronanza del tuo destino. E come posso arrivare alla padronanza totale? Continuo a leggere questo libro, stiamo andando proprio in quella direzione. Capitolo secondo Ma quanto ci vuole, Dio? Chi legge il libro crede che sia stato scritto di getto, non sa che più di venti settimane separano questo capitolo dal precedente e che a volte i momenti di ispirazione arrivano a sei mesi di distanza l'uno dall'altro? Quanto tempo sarà ancora necessario? Bene, allora prendiamo il tempo come primo argomento. Iniziamo da qui. D'accordo, Dio, ma già che ci siamo perché a volte mi occorrono mesi per scrivere un solo paragrafo? Perché le tue visite sono così distanziate? Mio caro figlio, io sono sempre con te, in ogni momento sei tu che non sempre te ne rendi conto. E perché? Perché a volte non so che sei con me se non sei mai lontano? Perché la tua vita è assorbita da altre vicende, diciamolo, negli ultimi cinque mesi sei stato molto occupato. È vero, certo, sono successe moltissime cose e quelle cose erano più importanti di me. No, Dio, io non intendevo dire questo. Ti invito a esaminare le tue azioni. Sei stato molto preso dalla vita concreta e hai prestato pochissima attenzione alla tua anima. Beh, sì, è stato un periodo difficile. Proprio per questo avresti dovuto rendere partecipe anche l'anima. Con il mio aiuto tutto sarebbe stato molto più facile. Cerca di non perdere il contatto. Io ci provo, Dio, ma a volte mi perdo nei miei drammi e allora non so perché non trovo più il tempo per te. Non prego, non medito e di sicuro non scrivo. Come posso smettere di comportarmi così? Smetti di comportarti così. Ho capito, ma come si fa? Smetti di comportarti così smettendo di comportarti così. Non è così semplice. Oh sì, lo è. Oddio, io vorrei che lo fosse. Allora lo sarà perché i tuoi desideri sono i miei. Cerca di ricordarlo sempre, figlio prediletto. La tua volontà è la mia. Va bene, allora desidero che questo libro sia finito entro marzo. Siamo a ottobre e non desidero altre interruzioni di cinque mesi nei nostri dialoghi. E così sia. Bene, a meno che non sia così. È proprio necessario Dio fare questi giochetti? No, ma finora è questo il modo in cui hai condotto la tua vita. Continui a cambiare idea. Ricorda, l'esistenza è un continuo processo di creazione. Crei la tua realtà, minuto per minuto. La decisione che prendi oggi spesso non è quella che prenderai domani, ma ecco un segreto di tutti i maestri. Continuo a scegliere sempre la stessa cosa. Sempre? Una volta non è abbastanza? Sempre, finché non si manifesta nella tua realtà. Per alcune persone possono volerci anni, per altre settimane, per coloro che sono vicini a diventare maestri bastano giorni, ore, addirittura minuti. Per i maestri la creazione è istantanea. Quando vedrai diminuire la distanza tra volere e sperimentare, saprai di essere sulla strada per diventare un maestro. hai detto, Dio, la decisione che prendi oggi spesso non è quella che prenderai domani. E allora, stai dicendo che non dovremmo mai cambiare idea? Cambiate idea ogni volta che volete, ma ricordate che ogni cambiamento di idea produce un cambiamento di direzione nell'intero universo. Quando scegliete qualcosa, mettete in moto forza al di là della vostra comprensione. Tali forze e il processo da queste generato fanno parte della straordinaria rete di energie interattive che voi chiamate vita e che sono in essenza me. Quindi ogni volta che cambio parere ti complico le cose? Nulla è difficile per me, ma puoi rendere le situazioni molto difficili per te stesso, perciò prendi una decisione su ogni cosa e non deviare dal tuo proposito finché non lo hai manifestato nella tua realtà. Rimani concentrato, se scegli qualcosa, sceglila con tutta la tua forza, con tutto il cuore, non essere debole, va avanti, muoviti verso di lei, sii deciso. In altre parole, non devo accettare un no come risposta. Esatto, e se un no fosse la risposta giusta, forse ciò che vogliamo non è per noi, se si tratta di qualcosa che non è nel nostro interesse non ce la concederai, non è così? No, io vi concederò qualunque cosa chiediate che sia buona o cattiva per voi. Ma mi è stato insegnato che non si può avere sempre ciò che si desidera, che Dio ci dà solo ciò che bene rapporto, io non vi do nulla, siete voi a produrre le cose, nel primo volume ho spiegato nei particolari come fate, in secondo luogo, io non giudico ciò che chiedete, non definisco nulla buono o cattivo, e voi dovreste fare altrettanto, siete esseri creativi, fatti a immagine e somiglianza di Dio, potete avere tutto ciò che scegliete, ma potete anche non avere tutto ciò che volete, anzi, se volete fortemente una cosa, probabilmente non la otterrete mai, lo so Dio, l'hai spiegato nel primo volume, l'atto stesso di volere qualcosa la allontana da noi, sì, e ricordi perché? Perché il pensiero è creativo e il pensiero di volere è un'affermazione di fronte all'universo, l'affermazione di una verità che poi l'universo produce nella mia realtà. Infatti, è così che funziona, se dici voglio la tale cosa, l'universo risponde va bene e ti dà esattamente quell'esperienza, ovvero l'esperienza di volere quella cosa. Qualunque cosa tu metta dopo il pronome io, diventa un comando creativo. Il genio nella lampada, cioè Dio, esiste soltanto per obbedire, io produco ciò che voi chiedete e voi chiedete esattamente ciò che pensate, sentite e dite. È semplicissimo. Scusa, ma allora potresti ripetermi perché impiego tanto tempo a creare la realtà che scelgo? Oh, per una quantità di ragioni, perché non credi di poter avere ciò che hai scelto, perché non sai che cosa scegliere perché continui a cercare di capire ciò che sarebbe meglio per te, perché vuoi la garanzia anticipata che le tue scelte saranno giuste e perché continui a cambiare idea. Insomma, non dovrai cercare di capire ciò che è meglio per me? Meglio è un termine relativo che dipende da infinite variabili. Ma questo rende le scelte molto difficili, Dio. Ogni volta che prendi una decisione dovresti riflettere. Questa decisione è un'affermazione di ciò che sono? È un annuncio di ciò che scelgo di essere? Tutta la tua vita dovrebbe essere così. Anzi, è così. Ma tu puoi far sì che quell'affermazione sia il risultato di una scelta oppure del caso. Una vita di scelta è una vita di azioni consapevoli. Una vita casuale è una vita di reazioni inconsapevoli. Una reazione non è altro che un'azione compiuta in passato. Quando reagisci non fai altro che valutare i dati ricevuti. Cercare la stessa esperienza o una molto simile nei meandri della memoria e agire nello stesso modo in cui hai agito quella volta. Questo è un lavoro della mente non dell'anima. Quando perdi tempo a cercare di capire che cosa è meglio per te non stai facendo altro che questo perdere tempo. Agire agire dal punto di vista dell'anima e non da quello mentale è un grande risparmio di tempo. Le decisioni vengono prese in fretta e le scelte sono attivate rapidamente perché l'anima crea a partire dall'esperienza presente senza la revisione e l'analisi e la critica delle esperienze passate. Ricorda l'anima crea la mente reagisce. L'anima sa che la tua esperienza presente ti è stata inviata da Dio ancor prima che tu ne avessi coscienza. Prima che tu chieda io ti ho già risposto. Ogni adesso è un glorioso dono di Dio. Per questo si chiama presente. L'anima cerca intuitivamente le circostanze perfette per guarire i pensieri sbagliati e portarti l'esperienza di chi sei realmente. Ciò accade perché l'anima capisce che tu e io siamo uno anche se la mente nega questa verità e il corpo agisce in base a tale negazione. Quindi nei momenti in cui devi prendere grandi decisioni esci dalla mente cerca nell'anima se perdi tempo a cercare di capire che cosa sia meglio per te le tue scelte saranno caute le decisioni lentissime e il viaggio avverrà in un mare di aspettative nel quale annegherai se non starai molto attento. Che risposta mio dio ma come faccio ad ascoltare l'anima come posso sapere che cosa sto ascoltando? L'anima ti parla attraverso i sentimenti ascoltali seguili onorali mi pare di essermi spesso cacciato nei guai proprio per onorare i miei sentimenti il fatto è che sulla crescita hai apposto l'etichetta guaio mentre definisci l'inerzia sicurezza ti dico questo i tuoi sentimenti non potranno mai metterti nei guai perché sono la tua verità se vuoi vivere senza mai seguirli filtrandoli sempre attraverso gli ingranaggi della mente fa pure decidi basandoti su un'analisi razionale ma non aspettarti gioia da questo né la celebrazione di chi sei realmente ricorda la vera celebrazione lascia da parte l'intelletto se ascolti la tua anima saprai che cosa è meglio per te quando crei un'esperienza basata sulla tua verità presente invece di reagire a un'esperienza fondata su una verità passata produci un nuovo te stesso perché ci vuole tanto tempo per creare la verità che hai scelto perché non vivi secondo la tua verità conosci la verità e la verità ti renderà libero ma una volta che l'hai conosciuta non continuare a cambiare idea esci dalla mente torna in te torna a ciò che senti non a ciò che pensi i tuoi pensieri sono soltanto creazioni della mente i tuoi sentimenti invece sono reali sono il linguaggio dell'anima e l'anima è la tua verità ora lo hai capito questo significa che dobbiamo esprimere tutti i sentimenti anche se sono negativi o distruttivi i sentimenti non sono mai negativi o distruttivi sono semplicemente delle verità ciò che importa è il modo in cui tu esprimi la tua verità se lo fai con amore è raro che ci siano risultati negativi e quando ci sono è perché qualcun altro ha scelto di sperimentare la tua verità in modo negativo e distruttivo in casi del genere non c'è nulla che tu possa fare per cambiare il risultato evitare di esprimere la tua verità non è mai giusto eppure le persone lo fanno di continuo hanno tanta paura di dover affrontare possibili dispiaceri che nascondono completamente la loro verità ricorda ciò che più conta è come è stato inviato il messaggio non come viene ricevuto non puoi assumerti la responsabilità del modo in cui un'altra persona accetta la tua verità puoi soltanto cercare di comunicarla al meglio e non intendo soltanto nel modo più chiaro possibile ma anche nel modo più amorevole compassionevole sensibile coraggioso e completo e io ti aiuterò sempre a comunicare così se me lo chiedi quindi esprimi pure quelli che definisci i tuoi sentimenti negativi ma non in modo distruttivo se non li esprimi non scompariranno ma resteranno in te e la negatività tenuta dentro danneggia il corpo ed affatica l'anima ma Dio se un'altra persona ascolta i pensieri negativi che ho su di lei ciò influenzerà necessariamente il nostro rapporto anche se glieli comunico nel modo più amorevole possibile ti ho detto di esprimere i tuoi sentimenti negativi di liberartene ma non ho detto come o verso chi non c'è bisogno di comunicare la negatività alla persona verso cui la provi a meno che il non farlo comprometta la tua integrità o spinga l'altro a credere a una menzogna la negatività non è mai una verità finale anche quando sembra esserlo nasce sempre dalla parte di te che non è ancora guarita per questo è importante lasciare uscire la negatività liberarla a tutti voi sarà capitato di aver pronunciato parole negative solo per scoprire che una volta dette non sembravano più vere tutti voi avete espresso paura irritazione rabbia solo per rendervi conto che una volta esternate tali emozioni non rivelano più il vero modo in cui vi sentite i sentimenti sono il linguaggio dell'anima certo ma dovete assicurarvi di ascoltare quelli veri e non delle contraffazioni costruite dalla mente ah ma allora adesso non posso neppure fidarmi dei miei sentimenti perfetto pensavo che i sentimenti fossero la via verso la verità pensavo che questo fosse il tuo insegnamento e lo è ma la realtà è più complessa di quanto tu ora riesca a comprendere alcuni sentimenti sono autentici cioè nascono dall'anima mentre altri sono costruiti dalla mente in altre parole sono pensieri mascherati da sentimenti tali pensieri si basano sulle tue esperienze precedenti e sull'osservazione degli altri vedi qualcuno che fa una smorfia mentre gli estraggono un dente e nella stessa situazione tu farai altrettanto magari non sentirai alcun dolore ma lo farai ugualmente la tua reazione non ha nulla a che vedere con la realtà è basata su qualcosa che ti è accaduto in passato o sull'esperienza altrui la più grande sfida degli esseri umani è quella di essere qui ed ora smettete di creare pensieri sul momento che state vivendo e vivete quel momento ricordate voi stessi vi siete inviati quel momento è un regalo e contiene il seme di una grande verità che desiderate ricordare eppure non appena è arrivato avete iniziato a costruirci sopra dei pensieri e invece di essere nel momento ve ne situate al di fuori e lo giudicate quindi reagite cioè agite come avevate già reagito in passato leggete queste due parole reattivo creativo sono quasi uguali solo una t è trasformata in c e questa piccola modifica è la chiave di tutto voglio dire che quando affronti ogni momento senza pensieri fondati su esperienze precedenti puoi decidere ciò che sei invece di reagire come in passato la vita è un processo di creazione e tu continui a viverla come se fosse un processo di reazione ma Dio come può un essere umano ignorare le sue esperienze precedenti non è normale rispondere sulla base di ciò che già conosci sull'argomento può essere normale ma non è naturale normale indica la modalità in cui qualcosa viene fatto di solito naturale è il modo in cui sei quando non cerchi di essere normale non sono la stessa cosa in ogni momento puoi fare ciò che fai di solito oppure ciò che viene naturalmente ti dico questo nulla è più naturale dell'amore se agisci con amore agisci in modo naturale se reagisci con paura rancore e rabbia la tua azione sarà forse normale ma non naturale come posso agire con amore se tutte le mie esperienze precedenti mi gridano che quel particolare momento sarà doloroso ignorale ed entra nel momento si qui e ora vedi che cosa puoi fare adesso per creare un nuovo te stesso ricorda questo è ciò che stai facendo qui sei venuto in questo mondo in questo tempo in questo luogo per sapere chi sei e per fare di te stesso chi desideri essere ma scusa Dio non è un po' come quell'uomo che saltò dal tetto di un grattacielo convinto di poter volare ignorò tutte le esperienze precedenti proprie e altrui e si lanciò gridando sono Dio non mi sembra un atteggiamento intelligente ti pare ti dico questo gli uomini hanno fatto molto più che volare hanno guarito malattie hanno fatto risorgere i morti un solo uomo lo ha fatto e tu credi davvero che tali poteri sull'universo fisico siano stati concesi a un solo uomo beh solo un uomo ha dimostrato di averli non è così chi ha diviso le acque del mar rosso Dio e chi ha invocato Dio per poterlo fare Mosè esatto e chi mi ha invocato per guarire gli ammalati e risuscitare i morti Gesù e tu credi di non potermi chiedere quegli stessi miracoli beh suppongo di sì e io li farei per te non lo so questo è ciò che ti distingue da Mosè e da Gesù oh beh molti sono convinti che tu esaudirai le loro richieste se le fanno nel nome di Gesù sì è vero molti lo credono sono convinti di non aver potere ma credono nel potere di Gesù quindi avanzano le loro richieste in suo nome anche se lui ha detto perché vi stupite anche voi farete queste stesse cose e molte di più tutti voi immaginate di non essere degni perciò chiedete nel nome di Gesù o della Vergine Maria o di un santo protettore o del Dio del sole o del Dio dell'Oriente usereste qualsiasi nome eccetto il vostro eppure io vi dico chiedete e vi sarà dato cercate e troverete bussate e vi sarà aperto saltate dal tetto di un edificio e volerete sono esistite persone capaci di levitare ci credi? beh ne ho sentito parlare e persone capaci di passare attraverso i muri ad uscire dal proprio corpo sì sì lo so ma io non ho mai visto qualcuno passare attraverso un muro e non consiglio a nessuno di provarci e non penso neppure che dovremmo lanciarci dai tetti probabilmente non fa bene alla salute l'uomo di cui parli non è morto perché non poteva volare avrebbe potuto farlo se si fosse collegato al giusto stato dell'essere ma viveva in un mondo illusorio in cui immaginava di essere diverso da tutti gli altri dichiarando sono Dio ha iniziato la sua dimostrazione con una menzogna sperava di rendersi più grande di voi tutti più potente il suo è stato un atto dell'io e l'io cioè l'individuo separato non può mai dimostrare ciò che è uno cercando di dimostrare di essere Dio quell'uomo ha mostrato solo la sua separazione da tutte le cose per questo ha fallito Gesù invece dimostrava la divinità per mezzo dell'unità e vedeva l'unità ovunque guardasse la sua coscienza e la mia erano una e in tale stato qualunque cosa lui volesse si manifestava nella sua realtà divina capisco quindi per fare miracoli l'unica cosa necessaria è la coscienza di Cristo questo dovrebbe rendere tutto più semplice già più semplice di quanto pensi molti hanno acquistato quella coscienza non solo Gesù di Nazareth puoi averla anche tu e come? cercando di averla scegliendo di averla ma è una scelta che devi fare ogni giorno ogni minuto deve diventare lo scopo della tua vita in realtà in realtà lo è già solo che non lo sai ancora ma come posso arrivare a essere ciò che voglio partendo da ciò che sono te lo ripeto cerca e troverai bussa e ti sarà aperto ho cercato e bussato per 35 anni mi dispiace ma queste parole mi hanno annoiato io direi piuttosto che hai cercato e bussato di tanto in tanto per 35 anni in passato quando eri molto giovane ti rivolgevi a me solo quando eri nei guai quando avevi bisogno di qualcosa col passare del tempo hai capito che quello non era il modo giusto di avere un rapporto con Dio e hai cercato di instaurarne uno migliore ma anche allora di tanto in tanto più avanti negli anni hai compreso che l'unione con Dio può essere raggiunta solo attraverso la comunione con Lui e hai adottato pratiche e comportamenti mirati a quello scopo ma lo hai fatto ancora una volta in modo sporadico meditavi celebravi rituali mi chiamavi col canto e la preghiera evocavi in te il mio spirito ma solo quando ne avevi voglia se ti sentivi ispirato e anche se hai avuto delle esperienze gloriose di me passavi il 95% del tuo tempo nell'illusione di essere un'entità separata e solo per brevi momenti sperimentavi la realtà ultima pensi tuttora che la tua vita ruoti intorno alle riparazioni della macchina alle bollette del telefono e a ciò che vuoi ottenere dai rapporti sociali credi che lo scopo dell'esistenza siano i drammi che tu hai creato e non il creatore di tali drammi devi imparare perché continui a creare drammi ma sei ancora troppo occupato a recitarli dici che hai compreso il significato della vita ma non vivi questa comprensione dici di conoscere la strada verso la comunione con Dio ma non la imbocchi poi mi dici di aver cercato e bussato per 35 anni è ora che tu smetta di sentirti deluso da me e inizi a vederti come realmente sei ti dico questo vuoi acquistare la coscienza di Cristo agisci come Cristo ogni minuto di ogni giorno sai come fare Cristo stesso ti ha mostrato il cammino sii come lui in ogni circostanza e se hai bisogno di aiuto io ti guido continuamente se davvero cerchi l'unione e la comunione con me io sono la voce interiore che sa dove bisogna svoltare quale sentiero prendere quale risposta dare quale realtà creare ti basta soltanto ascoltarmi ma non so come fare oh che sciocchezza lo stai facendo proprio adesso semplicemente fallo sempre non posso andarmene in giro con un blocco per appunti non posso fermarmi all'improvviso e scriverti sperando che tu mi conceda una delle tue risposte illuminanti certo che puoi se qualcuno ti dicesse che puoi avere un legame diretto con Dio a condizione che tu abbia sempre con te carta e penna non lo faresti beh naturalmente sì eppure hai appena detto che non puoi allora qual è il tuo problema che cosa stai dicendo qual è la tua verità inoltre non hai neppure bisogno di carta e penna io sono sempre con te non vivo nell'inchiostro ma dentro di te è questa la verità Dio posso davvero crederci certo è ciò che ti ho sempre chiesto di credere ciò che ogni maestro compreso Gesù ti ha detto è l'insegnamento principale la verità ultima sarò sempre con voi fino alla fine dei tempi credi a questa affermazione ora sì più che mai bene allora usami se per te il tacquino e la penna sono gli strumenti che funzionano meglio allora portali sempre con te ogni giorno ogni ora avvicinati a me recita un rosario bacia una pietra inginocchiati verso oriente canta un inno muovi un pendolo fletti un muscolo o scrivi un libro fa qualunque cosa sia necessaria ognuno di voi ha le sue costruzioni ognuno mi ha compreso creato a modo suo per alcuni sono un uomo per altri una donna altri credono che sia uomo e donna allo stesso tempo e per altri ancora non sono nessuno dei due c'è chi mi considera pura energia chi puro amore e chi non ha idea di come io sia sa soltanto che sono e così è io sono sono il vento che vi scompiglia i capelli il sole che vi scalda il corpo la pioggia che danza sul vostro viso sono l'idea brillante che arriva all'improvviso il sentimento che vi ha spinti a compiere l'azione più amorevole della vostra vita sono la parte di voi che cerca di provare di nuovo quel sentimento qualunque rituale cerimonia meditazione pensiero canto parola o azione vi serva per ricollegarvi con me sceglietela fate questo il ricordo di me capitolo 3 parla l'autore per riassumere ciò che mi stai dicendo ho individuato questi punti principali la vita è un continuo processo di creazione un segreto di tutti i maestri è non cambiare continuamente idea ma scegliere sempre la stessa cosa non accettare un no come risposta noi attiriamo ciò che pensiamo sentiamo e diciamo la vita può essere un processo di creazione oppure di reazione l'anima comprende ciò che la mente non può neppure concepire smetti di cercare di capire che cosa è meglio per te come puoi guadagnare di più perdere il meno possibile ottenere ciò che vuoi e inizi a muoverti secondo ciò che sei realmente i tuoi sentimenti sono la tua verità ciò che è meglio per te e ciò che è vero per te i pensieri non sono sentimenti ma idee su come dovresti sentirti quando i pensieri e i sentimenti si confondono la verità si oscura per tornare ai tuoi sentimenti esci dalla mente e torna in te una volta compresa la tua verità vivila i sentimenti negativi non sono veri sentimenti ma pensieri basati su esperienze precedenti tue o di altri le vicende passate non sono utili indicatori della verità perché la verità pura è creata qui e ora e non può essere una reazione per cambiare le tue risposte vivi nel presente qui e ora e non nel passato o nel futuro il passato e il futuro esistono solo nel pensiero il momento presente è l'unica realtà restaci cerca e troverai fa tutto quanto è necessario per restare collegato a Dio o alla verità non interrompere le pratiche le preghiere le meditazioni i rituali o qualunque altra cosa tu faccia per restare in contatto con tutto ciò che esiste come sto andando Dio molto bene hai capito credi di poter vivere seguendo questi principi ci proverò ora possiamo riprendere da dove eravamo rimasti parlami del tempo non c'è tempo migliore del presente adesso è l'unico tempo che esiste e che cosa mi dici allora di ieri e domani ti dico che sono costruzioni della tua mente nella realtà ultima non esistono ogni cosa accaduta sta accadendo anche ora e tutto ciò che succederà succede adesso non capisco non puoi almeno non completamente ma puoi cominciare a capirlo il tempo non è un continuum è un elemento della relatività che esiste in senso verticale non orizzontale non immaginarlo come una linea da sinistra a destra che parte dalla nascita di un individuo e termina con la sua morte il tempo non inizia in un punto finito dell'universo per dirigersi poi verso un altro punto finito in realtà va su e giù come la spoletta di un fuso che rappresenta l'eterno adesso esiste un solo momento questo l'eterno adesso tutto sta accadendo ora e io ne sono glorificato non c'è attesa per la gloria di Dio è tutto qui tutto adesso tutto non c'è inizio e non c'è fine il tutto di ogni cosa semplicemente è dentro questo è si cela il vostro più grande segreto lì potete inviare la vostra coscienza in ogni tempo e luogo a piacere vostro vuoi dire Dio che possiamo viaggiare nel tempo? certo molti l'hanno fatto e tutti voi lo fate ogni notte durante i sogni spesso non ne siete coscienti e non lo ricordate ma l'energia vi resta attaccata come colla e talvolta altre persone sensibili a tale energia possono leggere gli eventi del vostro passato e futuro voi chiamate tali persone veggenti a volte quell'energia lascia un residuo talmente forte che anche voi nella vostra coscienza limitata vi rendete conto di essere già stati qui tutto il vostro essere è scosso all'improvviso dalla certezza di avere già fatto questo stai parlando del déjà vu sì e di quella sensazione sorprendente quando incontri una persona e ti sembra di conoscerla da sempre di fatto è esattamente così conosci quella persona da tutta l'eternità l'eternità è adesso spesso hai guardato in alto o in basso dal tuo posto sulla spoletta del fuso e hai visto gli altri elementi della trama e hai scorto anche te stesso perché una parte di te è in ogni tessera del mosaico ma com'è possibile ti dico questo tu sei sempre stato e sempre sarai non è mai esistito un tempo in cui non eri e non esisterà mai ma allora cosa mi dici del concetto di anime vecchie alcune anime non sono più vecchie di altre nulla è più vecchio di qualcos'altro io ho creato tutto contemporaneamente e tutto esiste adesso l'esperienza di vecchio e giovani di cui parli si riferisce allo stadio di coscienza di un'anima o meglio di un aspetto dell'essere ogni parte possiede la coscienza del tutto ma tale consapevolezza deve essere risvegliata l'anima all'aspetto individuale del tutto diventa in primo luogo cosciente di se stessa quindi gradualmente di tutti gli altri aspetti e poi del fatto che non esistono gli altri che tutto è uno infine diventa cosciente di me della mia magnificenza sei davvero grande Dio grazie io penso altrettanto di te e questo è l'unico punto su cui non siamo d'accordo tu non pensi di essere grande e come potrei pensarlo quando vedo tutti i miei difetti i miei errori e il male che è in me ti dico questo il male non esiste tu sei perfetto così oh vorrei tanto che fosse vero e lo è il sceme non è meno perfetto dell'albero il neonato non è meno perfetto dell'adulto anche se non sa fare alcune cose un bambino commette errori si alza in piedi muove qualche passo cade si tira su aggrappandosi alla gamba della mamma ma questo lo rende imperfetto al contrario quel bambino è la perfezione stessa proprio come te ma un bambino non ha fatto ancora nulla di male non ha disobbedito consapevolmente non ha danneggiato se stesso e gli altri non conosce nemmeno la differenza tra il bene e il male neanche tu oh io la conosco benissimo so che è sbagliato uccidere che è giusto amare che è sbagliato fare del male e che è giusto guarire che è sbagliato prendere ciò che non è mio usare un'altra persona per i miei scopi essere disonesto oh potrei mostrarti molti esempi in cui ciascuna di queste cose sbagliate sarebbe giusta se con ciò intendi signore che esistono eccezioni alla regola sono d'accordo se ci sono eccezioni allora non c'è una regola stai cercando di dirmi che non è sbagliato uccidere danneggiare gli altri e rubare tutto dipende dal perché lo fai oh d'accordo d'accordo capisco a volte uno deve agire in modo sbagliato per raggiungere un giusto fine ma ciò non rende buoni tali comportamenti ma non li rende neppure cattivi sono soltanto mezzi per raggiungere un fine vuoi dire Dio che il fine giustifica i mezzi tu che cosa ne pensi secondo me non è assolutamente così e così sia non ti rendi conto di che cosa stai facendo stai creando le regole va benissimo è proprio ciò che devi fare la vita è questo un processo in cui decidi chi sei e poi ne fai esperienza a mano a mano che espandi la tua visione stabilisci altre norme adatte al tuo nuovo io le regole non possono limitare il tuo vero io che è infinito come l'universo ma puoi elaborare un concetto di te stesso immaginando e accettando dei limiti in un certo senso questo è l'unico modo in cui puoi conoscerti come individuo ciò che è illimitato non può esistere in un luogo specifico perché è ovunque e se è dappertutto non si trova in nessun posto in particolare Dio è ovunque perciò non è in un punto preciso perché per poter essere lì non dovrebbe essere in nessun altro posto il che per Dio è impossibile esiste soltanto una cosa impossibile per Dio vale a dire non essere Dio Dio non può non essere né può essere diverso da se stesso io sono in ogni luogo e poiché sono in ogni luogo non sono da nessuna parte e se non sono da nessuna parte dove sono? io sono qui e ora oh signore questo mi piace avevi già spiegato questo punto nel libro precedente ma continua pure grazie è molto gentile da parte tua ora capisci che hai creato tutte le tue idee di giusto e sbagliato solo per poter definire chi sei e che cambi i tuoi confini a seconda di come cambia la tua idea di chi sei? sì capisco ma non mi sembra di aver modificato molto i miei confini personali per me rubare e uccidere sono sempre state azioni sbagliate i concetti fondamentali sui quali noi umani ci regoliamo sono sempre stati gli stessi dall'inizio dei tempi e la maggior parte di noi li trova giusti e allora come mai vi fate la guerra? eh perché c'è sempre qualcuno che infrange le regole esiste sempre una mela marcia per alcuni sarà molto difficile accettare ciò che sto per dire ma non posso lasciarvi vivere secondo questi schemi se il nostro dialogo deve avere una qualche utilità perciò in questo libro affronteremo direttamente alcuni argomenti scottanti anche se all'inizio potranno sembrare un po' indigesti sei pronto? credo di sì allora ti dico non esistono me le marce esistono solo persone che non hanno il tuo punto di vista che costruiscono un modello diverso del mondo nessuno fa nulla di sbagliato almeno secondo la propria idea del mondo allora signore il modello è piuttosto confuso io so che cosa è giusto e sbagliato e se gli altri non lo sanno non per questo io sono pazzo i pazzi sono loro purtroppo questo è proprio l'atteggiamento che dà origine alle guerre è vero signore lo so lo so l'ho detto apposta stavo solo ripetendo ciò che ho udito dire da tante persone ma come posso rispondere a questo atteggiamento che cosa dovrei dire puoi ribattere che le idee di giusto e sbagliato cambiano enormemente a seconda della cultura dell'epoca della religione del luogo addirittura della persona puoi dimostrare loro che ciò che una volta era considerato giusto per esempio mandare al rogo con l'accusa di stregoneria oggi è ritenuto sbagliato quindi quando pensano che qualcuno abbia fatto qualcosa di sbagliato il giudizio dipende non tanto da ciò che quella persona ha fatto ma dal tempo e dal luogo in cui l'ha fatto ora ripeterò una cosa che ho già detto nel primo libro e che molti hanno faticato a capire Hitler è andato in paradiso eh signore non sono certo che la gente lo accetterà lo scopo di questo volume e degli altri che compongono la trilogia che stiamo creando è proprio preparare le persone ad accogliere un nuovo paradigma una nuova comprensione una visione più ampia d'accordo allora adesso ti porrò la domanda che sicuramente molti vorrebbero farti come è possibile che Hitler sia andato in paradiso è stato condannato all'inferno da tutte le religioni del mondo innanzitutto non poteva andare all'inferno perché l'inferno non esiste quindi resta solo un altro posto dove può essere andato ma non voglio eludere la domanda il vero problema è stabilire se Hitler ha agito in modo sbagliato o no l'idea che fosse un mostro si basa sul fatto che ha ordinato di uccidere milioni di esseri umani dico bene? certo e se ti dicessi che ciò che voi chiamate morte è la cosa più bella che vi possa capitare? beh signore lo troverei difficile da accettare credi davvero che sia meglio vivere sulla terra che in paradiso? ti dico questo al momento della morte scoprirai la più grande libertà la più grande pace la più grande gioia e il più grande amore che tu abbia conosciuto dovremmo punire Soravolpe per aver fatto fuori Fratel Coniglietto? signore tralasci che per meravigliosa che sia la vita dopo la morte non si può porre fine all'esistenza di qualcun altro contro la sua volontà siamo qui perché abbiamo qualcosa da imparare e non è giusto morire all'improvviso per colpa di un folle innanzitutto non siete certo qui per imparare qualcosa rileggi il primo libro la vita non è una scuola e il vostro scopo non è apprendere ma ricordare inoltre si muore all'improvviso per un'infinità di motivi un uragano un terremoto ma questo è diverso signore in quei casi si tratta di un atto di Dio qualunque evento è un atto di Dio non potresti neppure sollevare un dito se io non lo volessi ma approfondiamo l'idea della morte ingiusta è ingiusto che una vita sia stroncata da una malattia beh questa è una causa naturale e non come quando un essere umano ammazza i suoi simili altrettanto dicasi per un incidente è un fatto sfortunato tragico ma è la volontà di Dio e cercare di comprenderla sarebbe blasfemo oltre che inutile e tu come fai a sapere queste cose perché se Dio avesse voluto darci questa comprensione l'avremmo dimmi un po tu credi all'onnipotenza di Dio si signore tranne che per quanto riguarda Hitler vero ciò che ha fatto lui non era la volontà di Dio no Hitler l'ha violata la volontà divina e come credi che abbia potuto farlo se la mia volontà è onnipotente beh tu gli hai permesso di farlo se gliel'ho consentito allora era la mia volontà beh signore sembrerebbe di sì ma perché tu avresti voluto no ecco la tua volontà era che lui avesse il libero arbitrio il modo in cui l'ha usato era la sua volontà esatto la mia volontà è che tutti voi abbiate il libero arbitrio ma non che siate puniti per l'eternità se non fate la scelta che io vorrei se così fosse il vostro libero arbitrio non sarebbe molto libero non credi non si tratta di una punizione è soltanto una legge di natura la legge delle conseguenze vedo che conosci bene le speculazioni teologiche che mi considerano un dio vendicativo ma non mi ritengono responsabile di questo chi ha creato le leggi naturali e se siamo d'accordo che l'ho fatto io perché le avrei create per poi darvi il potere di violarle se la mia volontà fosse non far soffrire le mie meravigliose creature perché avrei permesso il dolore e perché vi tenterei giorni e notte per spingervi a infrangere le mie leggi ma signore non sei tu a tentarci è il diavolo stai di nuovo cercando di non considerarmi responsabile non capisci che l'unico modo che hai per dare un senso logico alla tua teologia è rendermi impotente non ti rendi conto che se le tue costruzioni hanno un senso le mie non possono averlo ti piace davvero l'idea di un dio che ha creato un essere ed è incapace di controllarlo no signore io non ho detto che non puoi tenere a bada il diavolo tu puoi avere tutto sotto controllo sei dio ma scegli di non farlo permetti al diavolo di tentarci perché vuoi che veniamo a te seguendo una libera scelta non perché non abbiamo altre possibilità vedi nella tua realtà il bene non può esistere senza il male quindi tu credi che nella mia debba essere lo stesso ma ti dico questo dove ci sono io non c'è mai alcunché di cattivo e il male non esiste ci sono solo il tutto di tutte le cose la suprema unità e la consapevolezza l'esperienza di questa unità il mio è il regno dell'assoluto dove una cosa non esiste in rapporto a un'altra ma è indipendente il mio è il luogo dove tutto ciò che esiste è amore allora non dobbiamo sopportare le conseguenze di tutto ciò che pensiamo diciamo e facciamo sulla terra certo che si guardati intorno no ma io intendo dire dopo la morte la morte non esiste la vita continua incessantemente per i tempi dei tempi semplicemente cambia forma va bene signore allora riformulerò la domanda il nostro cambiamento di forma non ha conseguenze dopo che avete cambiato forma le conseguenze cessano di esistere c'è solo la conoscenza le conseguenze sono un elemento della relatività nell'assoluto non esistono perché dipendono da un tempo lineare nel regno dell'assoluto ci sono soltanto pace amore e gioia in quel regno saprete finalmente la buona novella che il vostro diavolo non esiste e che voi siete ciò che avete sempre pensato di essere pura bontà e amore nel mondo relativo un mondo di giudizi e di condanne altri vi hanno giudicato e sulla base di quei giudizi voi avete giudicato voi stessi perciò ora volete che sia Dio a giudicarvi ma io non lo farò e poiché non potete capire un Dio che non agisce come farebbe un essere umano vi sentite perduti la vostra teologia è il tentativo di ritrovarvi Dio tu sostieni che le nostre teologie sono insensate ma come potrebbero funzionare senza un sistema di ricompensa e castigo tutto dipende da quale pensi sia lo scopo della vita se credi sia una prova per determinare se siete degni allora le tue teologie cominciano ad avere senso se credi che la vita sia un'opportunità un processo attraverso il quale puoi scoprire o ricordare che sei degno e lo sei sempre stato allora le tue teologie sono assurde se credi che Dio sia un essere con un io che richiede attenzione adorazione apprezzamento e affetto ed è disposto a uccidere per ottenerlo le tue teologie funzionano se credi che Dio non abbia bisogno di nulla e sia la fonte di tutte le cose il fulcro di ogni saggezza e amore allora le tue teologie cadono a pezzi ti dico questo lo scopo della vita non è compiacere Dio ma conoscere e ricreare chi siete nel fare ciò compiacete Dio e la glorificate perché hai detto sei un essere femminile io non sono né maschio né femmina a volte uso il pronome femminile per strapparti alle tue idee parrocchiali se pensi che Dio sia una cosa allora penserai che non sia un'altra e questo sarebbe un grosso errore in ogni modo Hitler è andato in paradiso per le seguenti ragioni numero 1 non esiste l'inferno quindi non c'era altro luogo dove potesse andare numero 2 le sue sono state semplicemente azioni sbagliate di un essere non evoluto e gli errori non devono essere puniti ma corretti offrendo a chi li ha commessi una possibilità di evoluzione numero 3 gli errori di Hitler non hanno provocato alcun danno agli esseri morti per causa sua quelle anime sono state liberate dai loro legami terreni come farfalle uscite dal bozzolo la tua affermazione secondo cui quelle morti sono state in ogni caso premature quindi in qualche modo ingiuste suggerisce che nell'universo possano accadere cose che non dovrebbero succedere ma dato ciò che io sono questo è impossibile Dio non sbaglia da molto moltissimo tempo quando riuscirai a vedere la perfezione in ogni cosa non solo in quelle che preferisci ma anche soprattutto in quelle che non ti piacciono avrai ottenuto la consapevolezza propria di un maestro lo so signore abbiamo già parlato di tutto questo nel primo libro ma ho voluto fare queste domande a beneficio di chi non l'ha letto ora però prima di andare avanti vorrei parlare ancora un po' delle complesse teologie create dagli esseri umani per esempio da bambino mi hanno insegnato che era un peccatore che tutti gli uomini lo erano e che tale condizione era inevitabile noi siamo nati nel peccato è un concetto interessante come sono riusciti a fartelo credere beh mi hanno parlato di Adamo ed Eva durante il catechismo mi hanno spiegato che forse noi non abbiamo commesso alcun peccato un neonato non è un peccatore ma Adamo ed Eva l'hanno fatto e noi abbiamo ereditato la loro colpa e la loro natura cattiva Adamo ed Eva hanno mangiato il frutto proibito acquistando la conoscenza del bene e del male in tal modo hanno condannato tutti i loro discendenti ad essere separati da Dio al momento della nascita ognuno di noi viene al mondo con questo peccato originale nell'anima il libero arbitrio ci permette di scegliere se vogliamo seguire la strada di Adamo ed Eva disobbedendo così a Dio oppure vincere la nostra naturale tendenza al peccato e fare ciò che è giusto ignorando le tentazioni terrene e cosa accade se invece peccate beh accade che tu ci manderai all'inferno ah a meno che non ci pentiamo capisco se compiamo un atto di contrizione dicendo che siamo profondamente pentiti tu ci salverai dall'inferno ma non da tutta la sofferenza dobbiamo prima passare un certo periodo in purgatorio in modo da purificarci dei nostri peccati e quanto dovreste restare in questo purgatorio beh dipende più abbiamo peccato più dobbiamo restarci così mi è stato detto già in ogni caso è molto meglio che andare all'inferno perché l'inferno è per l'eternità se moriamo in stato di peccato veniale invece ci andiamo in purgatorio ma se trapassiamo in stato di peccato mortale finiamo direttamente all'inferno puoi farmi un esempio delle varie forme di peccato certo signore i peccati mortali sono reati gravi come uccidere violentare rubare i peccati veniali sono offese minori come non andare a messa la domenica oppure in passato mangiare carne il venerdì aspetta un momento il dio di cui parli vi mandava in purgatorio per aver mangiato carne il venerdì sì ma solo fino agli anni sessanta ora non più ma stai parlando sul serio certo signore e che cosa è successo negli anni sessanta per cui un peccato ha smesso di essere tale il papa ha detto che non lo era più ah capisco e dio vi costringe ad adorarlo dicendovi di andare a messa la domenica altrimenti sarete puniti beh non andare a messa è peccato e se non lo confessi e muori con quella colpa devi andare in purgatorio e scusami ma se si tratta di un bambino innocente che non conosce tutte queste regole in base alle quali dio concede il suo amore beh se un bambino muore prima di essere battezzato va nel limbo dove va nel limbo non è un luogo di castigo ma non è neppure il paradiso non sei con dio ma almeno non sei nemmeno con il diavolo ma perché quel bambino innocente non può stare con dio non ha fatto nulla di male è vero ma non è stato battezzato e per poter andare in paradiso è necessario essere battezzati altrimenti dio non può accettarci per questo è importante battezzare i neonati il più presto possibile subito dopo la nascita ma chi ti ha detto tutte queste cose dio attraverso la sua chiesa quale chiesa la chiesa cattolica ovviamente quella è la chiesa di dio se sei cattolico e ti capita di frequentare un'altra chiesa anche quello è peccato credevo che il peccato fosse non andare in chiesa sì ma lo è anche frequentare quella sbagliata e quale sarebbe qualunque chiesa che non sia la cattolica romana lo so per certo perché da giovane volevo andare al matrimonio di un amico ma le sore mi dissero di non farlo perché era in una chiesa sbagliata e non ci andasti ci andai pensai che tu dio ti saresti mostrato nell'altra chiesa come nella mia meno male allora vediamo abbiamo il paradiso l'inferno il purgatorio il limbo i peccati mortali e quelli veniali c'è altro? beh ci sono la cresima la confessione la comunione l'esorcismo l'estrema unzione le feste comandate in cui è indispensabile andare a messa ma ancora obblighi e che cosa vi succede se non ci andate? beh commettiamo un peccato e se moriamo avendolo sulla coscienza andiamo in purgatorio per questo è importante confessarsi il più spesso possibile alcuni lo fanno tutte le settimane altri addirittura ogni giorno così se dovesse capitare loro di morire è un'esistenza vissuta costantemente nella paura certo dio vedi è proprio questo lo scopo della religione inculcare in noi il timor di dio per far sì che ci comportiamo bene resistendo alle tentazioni ah e se commetti un peccato e poi hai un incidente e muori all'improvviso non c'è problema basta recitare il mio colpa mio dio mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati d'accordo d'accordo basta così no aspetta signore questa è solo una delle religioni del mondo non vuoi esaminarne altre? non importa mi sono già fatto un'idea bene spero che nessuno pensi che sto mettendo in ridicolo le sue credenze dicendo le cose come stanno non deridi proprio nessuno capitolo 4 parla l'autore abbiamo iniziato parlando del tempo e siamo finiti a discutere delle religioni organizzate è vero ma parlando con dio è difficile mantenere il dialogo entro limiti ristretti vediamo se riesco a riassumere i temi che abbiamo toccato nel capitolo precedente esiste solo il presente solo questo momento il tempo non è un continuum è un aspetto della relatività che esiste in un paradigma verticale con eventi disposti l'uno sull'altro contemporanei noi viaggiamo costantemente attraverso le varie realtà di questo regno del tempo non tempo tutto il tempo di solito durante il sonno il déjà vu è uno dei modi in cui talvolta ce ne accorgiamo non c'è mai stato un tempo in cui non esistevamo né mai ci sarà il concetto di età dell'anima si riferisce a diversi stadi di consapevolezza non ad una unità di misura temporale il male non esiste siamo perfetti come siamo il concetto di sbagliato è una creazione della mente che si basa sull'esperienza relativa creiamo le nostre regole a mano a mano che andiamo avanti adattandole alla realtà presente e se vogliamo evolverci deve essere così Hitler è andato in paradiso tutto quello che accade è volontà di Dio non soltanto gli uragani i tornado i terremoti ma anche Hitler il segreto della comprensione è conoscere lo scopo che si cela dietro ad ogni evento dopo la morte non c'è un castigo e le conseguenze di ogni azione esistono solo nell'esperienza relativa non nel regno dell'assoluto le teologie umane sono il tentativo di spiegare un Dio che non esiste l'unico modo perché tali teologie abbiano senso è accettare un Dio privo di significato come ti sembra Dio ho fatto un buon riassunto eccellente mi fa piacere Dio perché ho un altro milione di domande per esempio perché Hitler è andato in paradiso l'hai già spiegato ma ho bisogno di ulteriori chiarimenti qual è il fine degli eventi e in che modo questo scopo più vasto si applica ad Hitler e ad altri dittatori parliamo allora innanzitutto dello scopo tutto ciò che accade tutte le esperienze mirano a creare opportunità sarebbe sbagliato considerare le opere del demonio castighi divini ricompense celesti eccetera eccetera è ciò che pensiamo facciamo e siamo in rapporto a tali eventi a dare loro un significato i fatti e le esperienze sono creati da voi individualmente o collettivamente la coscienza genera l'esperienza voi state cercando di elevare la vostra coscienza e potete usare ogni esperienza come strumento per comprendere chi siete poiché la mia volontà è lasciarvi sperimentare chi siete vi permetto di vivere qualunque evento voi scegliate di tanto in tanto altri giocatori si uniscono a voi in questa partita cosmica come brevi incontri personaggi secondari compagni di squadra temporanei o a lungo termine parenti e familiari persone care o compagni di tutta la vita voi attraete queste persone e viceversa è un'esperienza creativa biunivoca che esprime le scelte e i desideri di entrambe le parti non incontrate mai nessuno accidentalmente le coincidenze non esistono la vita non è un prodotto del caso le esperienze e gli eventi di portata planetaria sono la manifestazione della coscienza collettiva e derivano dalle scelte e dai desideri del gruppo nel suo insieme che cosa intendi per gruppo signore? la coscienza di gruppo è molto potente e se non fate attenzione spesso può sopraffare quella individuale per questa ragione se volete che le vostre esperienze sulla terra siano armoniose dovreste sempre cercare di formare una coscienza di gruppo dovunque andiate e qualunque cosa facciate se vi trovate in un gruppo la cui coscienza non riflette la vostra e non siete in grado di cambiare la situazione è saggio allontanarsi altrimenti sarà il gruppo a trascinarvi anche contro la vostra volontà se non riuscite ad individuare un gruppo la cui coscienza sia in armonia con la vostra createne uno avvicinando persone con un grado di consapevolezza simile al vostro il vostro mondo e le condizioni in cui si trova sono un riflesso dell'interazione delle coscienze di tutti coloro che ci vivono se vi guardate intorno vedrete che c'è una quantità di lavoro da fare a meno che siate soddisfatti del vostro mondo così com'è sorprendentemente molti lo sono ed è per questo che il mondo non cambia la maggior parte delle persone è contenta di vivere in una società fondata sulla prevalenza del più forte sul potere sulla competizione in un mondo in cui i disaccordi vengono risolti con la guerra e la vittoria è ritenuta al massimo bene e più definiscono sbagliato ciò che è diverso da loro in particolare non sono tollerate le differenze religiose ma anche quelle sociali economiche e culturali le classi privilegiate giustificano lo sfruttamento di quelle inferiori affermando che le loro vittime stanno meglio di prima in tal modo i ceti dominanti non si pongono il problema di come dovrebbero essere trattati tutti gli esseri umani limitandosi ad apportare lievi miglioramenti ad una situazione terribile e traendone in cambio vantaggi vergognosi quasi tutti ridono se si suggerisce la possibilità di vivere in modo diverso da quello attuale e sostengono che è la competizione il sistema del chi vince e prende tutto a rendere grande una civiltà molti credono che non esistano altre possibilità che questa sia la natura umana e agire altrimenti spegnerebbe lo spirito che guida l'uomo verso il successo nessuno si domanda successo in che cosa per questo i più non si curano delle masse che soffrono degli oppressi della rabbia dei vinti o delle necessità altrui e pensano solo a se stessi e ai loro cari la maggioranza non si rende conto che sta distruggendo la terra con azioni mirate a elevare il tenore di vita non capisce che i guadagni veloci alla lunga possono causare delle perdite la gente si sente minacciata da concetti quali la coscienza di gruppo il bene collettivo una visione mondiale un dio non separato dalla sua creazione questa paura di tutto ciò che unisce e la celebrazione di tutto ciò che separa producono divisione disarmonia e discordia eppure non riuscite a imparare dall'esperienza e continuate a comportarvi nello stesso modo con identici risultati l'incapacità di vivere la sofferenza altrui come se fosse propria non fa che produrre dolore la separazione genera indifferenza e un senso di falsa superiorità mentre l'unità favorisce la compassione e una genuina eguaglianza come ho detto gli eventi che accadono da 3.000 anni sul vostro pianeta riflettono la coscienza collettiva il termine che meglio descrive il vostro grado di coscienza è primitivo è vero ma mi sembra che abbiamo di nuovo divagato rispetto alla domanda originale non esattamente tu mi hai chiesto di Hitler l'esperienza hitleriana è stata il risultato di una coscienza di gruppo e sarebbe troppo comodo addossare le colpe a lui solo Hitler non avrebbe potuto fare nulla senza la collaborazione o la sottomissione di milioni di persone i tedeschi devono assumersi un enorme carico di responsabilità per l'olocausto ma gran parte del fardello ricade anche sull'intero genere umano che è rimasto indifferente e ha deciso di agire solo quando in Germania la sofferenza è arrivata a un punto tale che neppure il più inveterato isolazionista ha potuto continuare a ignorarla la coscienza collettiva ha preparato il terreno al movimento nazista Hitler ha raccolto il momento ma non l'ha creato è importantissimo imparare questa lezione una coscienza di gruppo fondata sulla separazione e sulla superiorità produce necessariamente una perdita di compassione di massa seguita inevitabilmente dalla perdita della coscienza un rigido nazionalismo porta ad ignorare le condizioni degli altri gruppi e a considerarli responsabili dei propri problemi giustificando così la rappresaglia e la guerra l'orrore dell'esperienza itleriana sta non tanto in ciò che il dittatore ha fatto all'umanità quanto in ciò che l'umanità gli ha permesso di fare non è stupefacente che sia apparso un Hitler ma che tanta gente lo abbia seguito è vergognoso non solo che quell'uomo abbia ucciso milioni di ebrei ma anche che sia stato fermato solo dopo milioni di morti lo scopo dell'esperienza itleriana era mostrare l'umanità a se stessa nel corso della storia avete avuto moltissimi grandi maestri che vi hanno fornito straordinarie opportunità di ricordare chi siete realmente mostrandovi le massime e le minime potenzialità umane ricordate la coscienza è tutto e crea l'esperienza la coscienza di gruppo ha un grande potere e produce risultati meravigliosi o terribili la scelta aspetta sempre a voi se non siete soddisfatti della coscienza del vostro gruppo cercate di cambiarla il modo migliore di farlo è dare l'esempio e se non basta formate un vostro gruppo siate la fonte della coscienza che desiderate fare esperire agli altri tutto comincia da voi sempre volete che il mondo cambi modificate il vostro mondo Hitler vi ha dato un'ottima opportunità di farlo l'esperienza hitleriana come quella di Cristo vi rivela profonde verità su voi stessi tuttavia quelle grandi coscienze si tratti di Buddha Gengis Khan Hitler Krishna Attila o Gesù vivono soltanto finché dura il vostro ricordo di loro per questo gli ebrei dedicano monumenti all'olocausto e chiedono che non sia mai dimenticato perché c'è un po' di Hitler in tutti voi è solo una questione di grado un genocidio è sempre tale ad Auschwitz come in altre parti del mondo quindi Hitler è stato inviato per darci una lezione sugli orrori che l'uomo può commettere su quanto in basso può cadere Hitler non vi è stato mandato è stato creato da voi dalla vostra coscienza collettiva senza la quale non sarebbe esistito questa è la lezione l'esperienza hitleriana è scaturita dalla consapevolezza della separazione della superiorità del noi contro loro la coscienza della fraternità divina dell'unità dell'unicità del nostro invece che del mio origina l'esperienza di Cristo quando il dolore è nostro e non solo tuo la gioia è nostra e non soltanto mia quando tutto è nostro allora l'esperienza di vita è vera ma Dio allora perché Hitler è andato in paradiso perché non ha fatto nulla di sbagliato ha fatto semplicemente ciò che ha fatto ti ricordo che per molti anni milioni di persone hanno pensato che le sue azioni fossero giuste se manifesti un'idea pazzesca e dieci milioni di persone sono d'accordo con te probabilmente penserai di non essere poi tanto pazzo alla fine il mondo decise che Hitler aveva sbagliato in altre parole le persone ridefinirono chi erano e chi sceglievano di essere in rapporto all'esperienza vissuta con il dittatore sono esistiti altri Hitler ed altri Cristo e ce ne saranno ancora siate sempre vigili perché tra voi vivono persone con un grado alto basso di consapevolezza quale coscienza scegliereste per voi stessi? io signore e continuo a non capire perché Hitler si è andato in paradiso com'è possibile che sia stato ricompensato per ciò che ha fatto? in primo luogo ricorda che la morte non è una fine ma un inizio non è un orrore ma una gioia è il momento più felice della vita perché ne rappresenta il proseguimento così magnifico gioioso saggio e colmo di pace da essere difficile da descrivere è impossibile da capire perciò come ti ho già spiegato innanzitutto devi comprendere che Hitler non ha fatto soffrire nessuno ma ha posto fine al dolore di tante persone Uda disse la vita è sofferenza e aveva ragione ma Dio se anche io accettassi questa spiegazione resta il fatto che Hitler non sapeva di agire a fin di bene pensava di fare del male niente affatto continui a non capire che in realtà era convinto di aiutare il suo popolo nessuno fa nulla di sbagliato seguendo la propria concezione del mondo se credi che Hitler si comportasse da pazzo e ne fosse consapevole non coglie affatto la complessità dell'esperienza umana lui pensava di operare per il bene del suo popolo che era d'accordo con lui questa è la vera follia voi avete dichiarato che Hitler ha sbagliato in tal modo avete raggiunto una più profonda conoscenza di voi stessi e questo va bene ma non condannate Hitler per avervi permesso di comprendere meglio chi siete qualcuno doveva farlo non potete conoscere il caldo senza il freddo l'alto senza il basso la sinistra senza la destra non biasimate l'uno e benedite l'altro farlo significa non capire per secoli l'umanità ha condannato Adamo ed Eva per aver commesso il peccato originale in verità non si è trattato di un peccato ma della benedizione originale perché senza aver mangiato il frutto proibito senza la conoscenza del bene e del male non sapreste neppure che esistono due possibilità di fatto prima della cacciata di Adamo ed Eva queste opportunità non esistevano non c'era il male quello era il paradiso ma voi non lo sapevate non potevate sapere che cos'è la perfezione perché non conoscevate nient'altro allora dovreste condannare o ringraziare Adamo ed Eva e io cosa dovrei fare con Hitler secondo te ti dico questo l'amore la compassione la saggezza il perdono l'intenzione e lo scopo di Dio sono tanto vasti da comprendere anche il delitto più atroce e il criminale più efferato forse non sarai d'accordo ma non ha importanza hai appena imparato ciò che volevi sapere capitolo 5 parla l'autore nel libro precedente hai promesso che in questo volume avresti affrontato molti grandi temi quali il tempo e lo spazio l'amore e la guerra il bene e il male oltre ad offrirci considerazioni geopolitiche di vasta portata e avevi promesso che avresti spiegato nei particolari l'esperienza umana del sesso è vero nell'altra conversazione abbiamo affrontato problemi più personali questa volta ci occupiamo della vostra vita sulla terra mentre il prossimo volume chiuderà la trilogia trattando le grandi verità la cosmologia il tutto il viaggio dell'anima nell'insieme questi libri contengono i miei migliori consigli su ogni cosa da come allacciarvi le scarpe alla comprensione dell'universo e sul tempo Dio hai già detto tutto? ho spiegato quello che dovete sapere il tempo non c'è tutto esiste e accade simultaneamente il libro che stai scrivendo è già scritto ed è proprio da lì che trai le informazioni che stai trascrivendo questo è il significato della frase prima che tu chieda io ti avrò già risposto è certo Dio queste idee sul tempo sono interessanti ma piuttosto esoteriche a cosa ci servono nella vita reale? un'autentica comprensione del tempo vi permette di vivere molto più serenamente nella vostra realtà relativa in cui il tempo è sperimentato come movimento flusso piuttosto che come costante siete voi a muovervi non il tempo il tempo è immobile esiste solo un momento ma questo è difficile da credere com'è possibile? oh la vostra scienza lo ha già provato teoricamente se sali su un'astronave e voli abbastanza a lungo e velocemente puoi compiere un giro intorno alla Terra in tempo per vederti decollare ciò dimostra che il tempo non è movimento ma un campo che attraversate a bordo dell'astronave Terra dite che in un anno ci sono 365 giorni ma che cos'è un giorno? avete deciso arbitrariamente che un giorno è il tempo che l'astronave Terra impiega a compiere una rivoluzione intorno al suo asse come sapete che è una rivoluzione completa? non potete sentir girare la Terra avete scelto come punto di riferimento il Sole e definite giorno il lasso di tempo in cui la porzione di astronave su cui vi trovate è illuminata poi buia e quindi di nuovo illuminata avete diviso il giorno in 24 ore ancora in modo arbitrario le ore potrebbero essere 10 o 73 ogni ora a sua volta è stata suddivisa in 60 minuti e ogni minuto in 60 secondi un giorno avete notato che la Terra ruotava anche intorno al Sole così avete accuratamente calcolato che sono necessarie 365 rivoluzioni della Terra su se stessa perché il vostro pianeta compia una rotazione intorno al Sole e avete definito questo numero anno avete poi creato le settimane e i mesi e siete riusciti a far sì che ogni anno avesse un uguale numero di mesi ma non che tutti i mesi avessero lo stesso numero di giorni non avete trovato il sistema per dividere un numero dispari 365 per uno pari 12 e perciò avete deciso che alcuni mesi avessero più giorni degli altri tuttavia nemmeno questo risolveva il problema perché si accumulava un resto di tempo di cui non sapevate che cosa fare avete quindi deciso che di tanto in tanto un anno avrebbe avuto un giorno in più e l'avete chiamato anno bisestile e avete organizzato tutta la vostra vita secondo questa costruzione e la mia spiegazione del tempo sarebbe difficile da credere per misurare ulteriormente il passaggio del tempo avete stabilito l'esistenza dei decenni e dei secoli curiosamente basati sul numero 10 e non più sul 12 ma ciò che realmente avete fatto sin dall'inizio è stato misurare dei movimenti attraverso lo spazio così vediamo che non è il tempo a passare ma sono gli oggetti a muoversi nel campo statico da voi chiamato spazio il tempo è semplicemente il vostro modo di calcolare i movimenti gli scienziati comprendono profondamente questa connessione perciò parlano di continuum spazio temporale il vostro Einstein e altri hanno capito che il tempo è una costruzione mentale un concetto relativo il tempo è ciò che è in rapporto allo spazio che esiste tra gli oggetti dato che come sapete l'universo è in espansione oggi la Terra impiega più tempo per ruotare attorno al Sole che un miliardo di anni fa perché lo spazio da coprire evidentemente è maggiore insomma i minuti le ore i giorni le settimane i mesi gli anni sono più lunghi adesso di quanto lo fossero per esempio nel 1492 i vostri strumenti registrano queste discrepanze e ogni anno tutti gli orologi del mondo sono regolati secondo quello che chiamate il meridiano di Greenwich per ovviare al problema di un universo che non vuole stare fermo Einstein teorizzò che non era il tempo a muoversi ma lui stesso a spostarsi nello spazio ad una determinata velocità quindi per alterare il tempo doveva solo modificare lo spazio tra gli oggetti o la velocità con cui lui si muoveva nello spazio tra un oggetto e l'altro la teoria generale della relatività ha dato un contributo determinante alla vostra comprensione del rapporto fra spazio e tempo ora comincerai a capire perché se tu compissi un lungo viaggio in astronave al ritorno potresti scoprire che per te sono trascorsi solo dieci anni mentre per i tuoi amici sulla terra ne sono passati trenta se però gli scienziati riusciranno a sviluppare un sistema di propulsione estremamente potente potresti davvero tornare sulla terra prima di essere partito in altre parole il tempo sull'astronave passerebbe più rapidamente che sul vostro pianeta se trovi una piega nel tessuto spazio-temporale Einstein ed altri credevano in questa possibilità ed erano nel giusto sarà improvvisamente lanciato nello spazio in un momento infinitesimale un tale fenomeno non potrebbe davvero portarti indietro nel tempo a questo punto non dovrebbe più essere tanto difficile per te capire che il tempo è soltanto una vostra costruzione mentale tutto ciò che è accaduto e che accadrà sta succedendo adesso la capacità di osservare un evento dipende dal tuo punto di vista nello spazio per esempio se tu fossi al mio posto potresti vedere tutto chiaramente proprio ora hai capito? eh sì Dio sto cominciando a capire almeno teoricamente bene ho usato un linguaggio semplice comprensibile anche ad un bambino forse non è molto scientifico ma ti aiuta a capire dunque Dio la velocità degli oggetti fisici è limitata ma in teoria quelli non fisici come i pensieri o l'anima possono muoversi attraverso lettere a velocità incredibili precisamente ed è ciò che accade spesso nei sogni e in altre esperienze psichiche ora puoi capire anche il déjà vu probabilmente hai già vissuto quella situazione ma se tutto è già accaduto ne consegue che non ho il potere di cambiare il mio futuro è questa la predestinazione? no non lasciarti ingannare non è affatto vero sei sempre in grado di esercitare il libero arbitrio la scelta rimane tua riuscire a leggere il futuro o chiedere ad altri di farlo per te devi accrescere e non limitare la capacità di vivere l'esistenza che vuoi ma in che modo non mi è chiaro se vedi un evento o un'esperienza futura che non ti piace non sceglierli opta per un altro cambia il tuo comportamento in modo da evitare il risultato indesiderato ma come posso riuscirci se è già accaduto? non è ancora successo a te ti trovi in un punto del continuum spazio temporale dove non sei consapevole di quell'evento non sai che si è verificato non hai ricordato il tuo futuro questa smemoratezza è il segreto del tempo è ciò che vi rende possibile giocare al grande gioco della vita ma ne parlerò a fondo più avanti se non ricordi il tuo futuro l'evento non ti è ancora accaduto una cosa accade solo quando è sperimentata ed è sperimentata solo quando è conosciuta mettiamo che tu abbia potuto gettare uno sguardo sul tuo futuro la parte non fisica di te il tuo spirito si è spostato in un altro luogo del continuum spazio temporale e ha riportato indietro un'energia residua alcune impressioni o immagini dell'evento in questione tu puoi sentire tali immagini oppure un'altra persona che ha sviluppato doti metafisiche può vedere le energie e le immagini che ti ruotano intorno se non ti piace ciò che senti del tuo futuro semplicemente allontanatene in quell'istante cambi la tua esperienza e tutti voi tirate un sospiro di sollievo aspetta un attimo Dio che cosa intendi per tutti voi devi sapere e ormai sei pronto per capirlo che esisti simultaneamente in ogni stadio del continuum spazio temporale in altre parole la tua anima è sempre stata è sempre e sempre sarà in mondi senza fine Amen Ma davvero esisto in più luoghi? Certo esisti ovunque e in ogni tempo Dunque ci sono un me futuro e un me passato? Come ti ho appena spiegato il futuro e il passato non esistono ma se usiamo questi termini in senso relativo la risposta è sì Insomma Dio io sono più persone allo stesso tempo No sei sempre uno ma sei molto più vasto di quanto pensi e riguardo alle esperienze che vuoi cambiare modificando ciò che il tuo io futuro ha già sperimentato il tuo io passato probabilmente non dovrà sperimentarle mai Allo stesso modo anche il tuo io futuro è stato aiutato dal suo io futuro permettendoti di evitare ciò che lui non aveva potuto evitare Mi segui? Sì è estremamente interessante ma ora ho un'altra domanda che cosa mi dici delle vite passate se sono sempre stato me stesso nel passato e nel futuro come posso essere stato qualcun altro in una vita passata? Tu sei un essere divino capace di avere contemporaneamente più di un'esperienza e di dividerti in tutti te stesso che vuoi puoi vivere la stessa vita ogni volta che lo desideri in modi diversi e puoi anche vivere vite diverse in tempi diversi così mentre sei te stesso qui ed ora puoi essere anche altri in tempi e luoghi diversi accidenti le cose si complicano sempre di più esatto e abbiamo soltanto grattato la superficie sappi questo sei un essere di proporzioni divine senza limiti una parte di te ha scelto di conoscersi per mezzo della tua identità presente ma questi non sono assolutamente i confini del tuo essere anche se questo è ciò che pensi e perché lo penso devi pensarlo altrimenti non potrai fare ciò che hai deciso di fare in questa vita che ti sei dato e che cosa devo fare me l'hai già detto ma vorrei sentirlo di nuovo qui e ora stai usando questa vita e tutte le altre vite per decidere scegliere e creare chi sei realmente e per sperimentare la tua attuale idea di te stesso ti trovi in un eterno momento di creazione e realizzazione dell'io attraverso un processo di espressione le persone gli eventi e le circostanze della tua vita sono gli strumenti che hai attratto per modellare la più grande versione della più grande visione che tu abbia mai avuto di te stesso questo processo di creazione e ricreazione è continuo infinito e stratificato tutto accade adesso e su molti livelli nella tua realtà lineare vedi la tua esperienza strutturata secondo un passato un presente ed un futuro immagini di avere una sola vita o forse anche diverse vite ma certamente non più di una alla volta ma se non esistesse il tempo allora vivresti tutte le tue vite contemporaneamente ed è proprio ciò che stai facendo hai mai avuto una strana sensazione rispetto a qualche evento futuro così forte che hai deciso di non agire in tal senso tu la chiameresti premonizione dal mio punto di vista è semplicemente una consapevolezza improvvisa di qualcosa che hai già sperimentato nel tuo futuro il tuo io futuro ti dice questo non è stato per niente divertente non farlo stai vivendo qui e ora quelle che tu chiami vite passate anche se naturalmente non ne sei consapevole ed è giusto che tu non lo sia sarebbe molto difficile giocare il gioco della vita se tu avessi una piena coscienza di ciò che accade su ciascun livello il processo dipende da tutte le sue patti compresa la tua mancanza di consapevolezza totale in questa fase abbraccia il processo e muoviti attraverso questo in pace saggiamente e con gioia usalo trasformalo da qualcosa che ti tocca sopportare in uno strumento con cui creare la più splendida esperienza di ogni tempo la realizzazione del tuo io divino ma come Dio come posso farlo nel modo migliore non sprecare i momenti preziosi della tua realtà presente cercando di svelare tutti i segreti della vita beh se sono segreti c'è un motivo concedi a Dio il beneficio del dubbio usa il tuo adesso per lo scopo più alto la creazione e l'espressione di chi sei realmente decidi chi sei chi vuoi essere e poi fa tutto ciò che è in tuo potere per esserlo usa ciò che ti ho detto sul tempo come la struttura portante su cui appoggiare le costruzioni della tua idea più grandiosa se ti arriva un'impressione dal futuro seguila se hai un'idea rispetto a una tua vita passata vedi se può servirti in qualche modo non ignorarla ma soprattutto se ti viene presentato un modo per creare manifestare esprimere sperimentare il tuo io divino in una gloria maggiore proprio qui e ora seguilo è un modo ti sarà certamente presentato perché lo hai chiesto scrivere questo libro è un segno della tua richiesta perché non potresti stenderlo qui e ora senza una mente e un cuore aperti e un'anima pronta alla conoscenza altrettanto vale per coloro che lo stanno leggendo perché anche loro lo hanno creato in quale altro modo potrebbero sperimentarlo tutti stanno creando tutto ciò che è sperimentato in questo momento perché io sono tutti voi comprendi la simmetria riesci a scorgere la perfezione è tutto in una sola frase noi siamo tutti uno capitolo 6 Dio parlami dello spazio lo spazio è tempo stato dimostrato in verità non esiste uno spazio puro vuoto ogni cosa è qualcosa anche nello spazio più vuoto ci sono vapori sottilissimi nonché energia pura che si manifesta sotto forma di vibrazioni oscillazioni movimenti del tutto secondo una particolare frequenza l'energia invisibile è lo spazio che tiene insieme la materia una volta secondo il vostro modello lineare del tempo tutta la materia dell'universo era concentrata in una minuscola particella di una densità inimmaginabile quella che voi ora chiamate materia in realtà è composta principalmente di spazio tutti gli oggetti solidi sono composti dal 2% di materia solida e dal 98% di aria lo spazio tra le particelle di materia in tutti gli oggetti è enorme lo si può paragonare a quello tra i corpi celesti nel cielo notturno e questi sono gli oggetti che chiamate solidi c'è stato un momento in cui l'intero universo era realmente solido non esisteva alcuno spazio tra le particelle di materia quindi tutta la materia occupava un'area grande come la capocchia di uno spillo prima di allora c'è stato un tempo in cui non esisteva neppure la materia ma solo una forma estremamente pura di energia ad altissima frequenza che voi chiamate antimateria era il tempo in cui l'universo fisico che conoscete non esisteva ancora all'inizio l'energia pura che sono io vibrava ed oscillava tanto rapidamente da formare la materia tutta la materia dell'universo anche tu e tutti voi potete ripetere questa impresa in realtà lo fate tutti i giorni i vostri pensieri sono vibrazioni pure che creano la materia fisica se un numero sufficiente di persone coltivasse lo stesso pensiero potreste influenzare e perfino creare intere parti del vostro universo fisico come ho già spiegato nel primo libro l'universo signore è in espansione sì ha una velocità che non puoi neppure immaginare e continuerà a espandersi per sempre no a un certo punto le energie che guidano l'espansione si dissiperanno e le energie di coesione addenseranno di nuovo tutta la materia vuoi dire che ci sarà una contrazione dell'universo sì tutto andrà a posto letteralmente e avrete di nuovo il paradiso niente materia pura energia in altre parole è me alla fine tutto torna a me ma ciò significa che noi non esisteremo più non in forma fisica ma esisterete sempre non potete non esistere perché siete ciò che esiste e che cosa accadrà dopo la contrazione dell'universo tutto il processo inizierà da capo ci sarà un altro big bang e nascerà un altro universo che si espanderà e poi finirà e così via per l'eternità queste sono l'inspirazione e l'espirazione di dio tutto ciò è interessante ma non ha molto a che fare con la mia vita quotidiana infatti queste spiegazioni semplificate servono soprattutto a farti comprendere che tutte le cose sono cicliche comprese all'esistenza capire come funziona l'universo può aiutarti a esplorare la vita dell'universo che hai dentro di te la vita si muove a cicli tutto è ciclico prendendo coscienza di questo accrescerai la tua capacità di godere del processo senza limitarti a sopportarlo esiste un ritmo vitale naturale e tutto si muove seguendolo perciò è scritto per ogni cosa c'è una stagione ed esiste un tempo per ogni cosa sotto il cielo le donne comprendono benissimo i ritmi vitali perché sono in sintonia con la vita e sono capaci di seguire il flusso molto più degli uomini che vogliono spingere tirare e dirigere il flusso le donne invece lo sperimentano e lo usano per produrre armonia spesso le donne lasciano il corpo con grazia mentre molti uomini lottano contro la morte le donne hanno più cura del loro corpo mentre gli uomini lo trattano malissimo e queste differenze si ripercuotono anche nella vita come ogni regola ovviamente ha le sue eccezioni sto parlando in termini generali ma se osservi la vita scoprirai che contengono una buona parte di verità questo però mi intristisce Dio mi induce a pensare che le donne siano esseri superiori che abbiano più numeri degli uomini lo yin e lo yang fanno parte del glorioso ritmo della vita un aspetto dell'essere non è migliore o più perfetto di un altro ognuno è soltanto questo un aspetto ovviamente gli uomini incarnano altri riflessi della divinità che le donne invidiano è stato detto che essere uomini è il banco di prova quando qualcuno lo è stato abbastanza a lungo ha sofferto per la propria stupidità ha inflitto dolore attraverso le proprie creazioni ha fatto tanto male da desiderare di fermarsi e sostituire l'aggressività con la ragione il disprezzo con la compassione per vincere senza che nessuno perda ecco allora quell'essere può diventare una donna devi imparare che non è la forza a creare il diritto che la vera forza non è esercitare l'autorità su qualcuno ma con qualcuno e che il potere assoluto non richiede nulla agli altri quando lo avrai compreso meriterai di incarnarti in un corpo di donna perché ne avrai finalmente colto l'essenza allora è vero signore che le donne sono migliori degli uomini no non sono migliori ma diverse sei tu che giudichi nella realtà oggettiva il meglio e il peggio non esistono esiste solo ciò che è e ciò che desideri essere il caldo non è meglio del freddo l'alto non è meglio del basso te l'ho già detto perciò la femmina non è migliore del maschio è solo ciò che è proprio come te in ogni caso nessuno dei due è limitato entrambi potete essere ciò che desiderate essere e scegliere ciò che volete sperimentare entrambi siete fatti di tutto il maschile e il femminile sono presenti in ognuno di voi esprimete e vivete l'aspetto di voi stessi che più desiderate ma sappiate che vi sono aperte tutte le possibilità a proposito del maschile e del femminile nel libro precedente avevi promesso di parlare in modo particolareggiato dell'aspetto sessuale di questa dualità sì penso che sia arrivato il momento di parlare del sesso capitolo 7 allora perché hai creato due sessi come dobbiamo comportarci rispetto a quell'esperienza incredibile che chiamiamo sessualità certamente non con vergogna e nemmeno con timore o sensi di colpa neppure con lussuria perché la lussuria non è una passione né con abbandono perché l'abbandono non è libertà né con aggressività perché l'aggressività non è entusiasmo e ovviamente il sesso andrebbe vissuto senza idee di controllo potere o dominio perché non hanno nulla a che vedere con l'amore ma si può usare il sesso soltanto per una gratificazione personale la risposta è sì perché gratificazione personale è sinonimo di amore per se stessi così bistrattato nei secoli che non c'è da meravigliarsi se la sessualità è pervasa dai sensi di colpa vi è stato detto di non usare per la vostra soddisfazione personale è qualcosa che di per sé è intensamente gratificante è una contraddizione evidente ma poiché non sapete come risolverla avete deciso che dovete almeno sentirvi colpevoli per la gratificazione che provate durante e dopo l'atto sessuale una famosa cantante rispose ad un intervistatore che le chiedeva un commento sul suo incredibile successo e sulle ricchezze che le aveva procurato mi sento quasi in colpa perché il mio lavoro mi diverte moltissimo l'implicazione è chiara se vi piace dedicarvi a qualcosa facendolo non dovreste anche ricavarne denaro la maggior parte delle persone si guadagna da vivere con qualcosa che odia o comunque svolgendo un lavoro duro che è tutto tranne che gioia infinita insomma il messaggio del mondo è se qualcosa ti gratifica almeno sentiti in colpa quando la fai meno di tutto in assoluto devono piacervi le gioie del corpo e tra queste specialmente come vi sussurrava la nonna il sesso in realtà amare il sesso va benissimo anche amare se stessi è giusto anzi è praticamente un dovere non dovete diventare dipendenti dal sesso o da qualsiasi altra cosa ma amarlo è giusto ripetete dieci volte al giorno amo il sesso amo il denaro ancora più difficile sarà ripetere amo me stesso ecco una serie di altre cose che secondo la morale corrente non dovete amare mentre dovreste farlo sono 1 potere 2 gloria 3 fama 4 successo 5 vittoria volete altri esempi provate con queste altre cose se le amate dovreste davvero sentirvi colpevoli l'adulazione degli altri essere i migliori avere di più sapere come e sapere perché ne avete avuto abbastanza? aspettate ecco la colpa più grande di tutte dovreste provarla dovreste provarla se pensate di conoscere Dio non è interessante? per tutta la vita vi hanno fatto sentire in colpa per ciò che volete più intensamente eppure vi dico amate 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 le cose che desiderate perché sarà il vostro amore adattarle a voi quelle cose sono il materiale della vita se le amate amate la vita quando dichiarate di desiderarle annunciate di aver scelto tutto il bene che la vita ha da offrire scegliete quindi il sesso tutto quello che riuscite a fare e il potere tutto quello che sapete accumulare e tutta la fama che siete in grado di ottenere e tutto il successo che vi è possibile raggiungere e scegliete di vincere ogni volta che potete ma non optate per il sesso in luogo dell'amore consideratelo una celebrazione dell'amore non scegliete il potere sugli altri ma con gli altri né la fama come fine a se stessa ma come mezzo per raggiungere uno scopo superiore non cercate il successo a spese altrui ma vedetelo quale strumento con cui assistere gli altri non scegliete di vincere ad ogni costo fate in modo di non nuocere agli altri e anzi di portare loro dei benefici scegliete pure di essere adulati ma riversate anche la vostra adulazione su tutti decidete di essere non migliori degli altri ma di come eravate prima optate per avere di più ma solo per dare di più cercate di comprendere i come e i perché per poter dividere la conoscenza con gli altri soprattutto scegliete di conoscere Dio e il resto verrà da sé per tutta la vita vi hanno insegnato che è meglio dare che ricevere eppure non potete dare ciò che non avete datevi abbondante piacere e avrete piacere in abbondanza da donare agli altri i maestri del sesso tantrico lo sanno bene per questo incoraggiano la masturbazione che per molti di voi invece è un peccato la masturbazione accidenti hai proprio passato i limiti come posso parlare di un argomento del genere in un messaggio che proviene da Dio mi sembra di capire che hai un'opinione sulla questione beh Dio non proprio ma molti lettori potrebbero averla e sentirsi offesi io non offendo nessuno deliberatamente le persone sono liberi di sentirsi offese oppure no è una loro scelta ma credi sia possibile parlare apertamente della sessualità umana senza che qualcuno si offenda no ma non bisogna esagerare penso che i più non siano pronti ad ascoltarti parlare della masturbazione se questo libro dovesse limitarsi a trattare ciò che i più sono pronti a udire da me sarebbe molto breve la maggior parte delle persone non è mai pronta a prestare ascolto a Dio di solito passano almeno duemila anni d'accordo allora continua credo che abbiamo superato il trauma iniziale bene parlavo della masturbazione che tutti praticano ma di cui nessuno parla solo per illustrare meglio questo punto datevi molto piacere e avrete piacere in abbondanza da donare agli altri i maestri tantrici sanno che se vi avvicinate all'esperienza dell'amore fisico bramosi di sesso la vostra capacità di dare piacere al partner e di sperimentare una unione prolungata di anime e corpi sarà molto minore i praticanti tantrici quindi spesso si procurano piacere da soli prima di darselo mutuamente spesso lo fanno in presenza del compagno e con la sua guida amorevole poi quando la brama iniziale è stata soddisfatta possono placare anche la sete più profonda quella di una estasi ottenuta attraverso un'unione prolungata l'esperienza che voi chiamate coito può accadere alla fine di un incontro d'amore della durata di un paio d'ore oppure può anche non avvenire affatto per quasi tutti voi invece il coito è praticamente l'unico atto possibile in un esercizio della durata di 20 minuti quando vi va bene oddio io non credevo che questo libro si sarebbe trasformato in un manuale di educazione sessuale non lo è ma non sarebbe male se lo fosse avete quasi tutti molto da imparare sul sesso e su come esprimerlo in ogni caso il principio è lo stesso per tutti i punti che ho toccato prima per esempio se ti concedi il piacere del potere della ricchezza e della fama avrai più potere ricchezza e fama da dividere con gli altri dimmi perché ci sono cose che ti fanno sentire bene mi arrendo dimmelo tu perché sentirsi bene è il modo che l'anima ha di gridare io sono questo ora moltissima gente ridicolizza l'idea di fare ciò che fa sentire bene dicono che sia la strada verso l'inferno ma io ti assicuro che è la via per il paradiso naturalmente molto dipende da quali sono le esperienze che ti fanno stare bene eppure ti garantisco che nessuna evoluzione ha mai avuto luogo attraverso la negazione se devi evolverti ciò non avviene quando eviti tutto ciò che ti fa stare bene al contrario ti evolvi proprio perché ti sei concesso tutti i piaceri e hai scoperto qualcosa di più grande come puoi conoscere il più grande se non hai mai sperimentato il più piccolo la religione ti dice che è possibile e ti chiede di credere alla sua parola per questo le religioni alla fine falliscono ti chiedono di imparare dall'esperienza altrui mentre la spiritualità ti spinge a cercare la tua esperienza la religione non tollera la spiritualità perché potrebbe condurti a conclusioni personali sentirvi bene è il vostro modo di riaffermare che il vostro ultimo pensiero era verità che la vostra ultima parola era saggezza e che la vostra ultima azione era amore per misurare i vostri progressi per capire fin dove vi siete voluti osservate che cosa vi fa stare bene ma non cercate di accelerare la vostra evoluzione negandolo o allontanandovene negare se stessi significa autodistruggersi sappiate anche questo regolarsi non vuol dire negare se stessi controllare il proprio comportamento è una scelta attiva basata sulla decisione di essere ciò che si è scelto di diventare se dichiari per esempio di essere una persona rispettosa dei diritti degli altri decidere di non rubare violentare e uccidere non è una negazione di sé ma una dichiarazione di sé se ti fa stare bene agire da irresponsabile danneggiare offrire chi ti sta intorno allora non sei ancora un essere molto evoluto la chiave di tutto è la consapevolezza raggiungerla e diffonderla tra i giovani è compito degli anziani spetta invece ai messaggeri di Dio a cuire la consapevolezza di tutti i popoli facendo capire loro che ciò che viene fatto a uno è fatto a tutti perché siamo tutti uno se comprendi questo è praticamente impossibile che fare del male a qualcuno ti faccia stare bene i comportamenti irresponsabili spariscono è all'interno di questi parametri che gli esseri in evoluzione cercano di sperimentare la vita perciò vi dico concedetevi tutto ciò che l'esistenza ha da offrire e scoprirete che è molto di più di quanto abbiate immaginato tu sei ciò che sperimenti sperimenti ciò che esprimi ed esprimi ciò che devi esprimere hai quello che ti permetti di avere d'accordo ma adesso possiamo tornare alla mia domanda sì ho creato due sessi per la stessa ragione per cui ho messo in ogni cosa lo yin e lo yang l'uomo e la donna sono lo yin e lo yang fatti carne e rappresentano la più alta espressione vivente di questi due principi sono necessari come tutti gli altri dualismi per sperimentare la vita nel modo che conoscete come possiamo esprimere al meglio quella che chiamiamo energia sessuale con amore con disponibilità gioiosamente giocosamente oltraggiosamente appassionatamente in modo sacro romantico umoristico spontaneo creativo sfacciato sensuale e ovviamente spesso dio alcuni sostengono che il solo scopo legittimo della sessualità umana sia la procreazione sciocchezze la procreazione è il felice risultato non la premessa logica dell'esperienza sessuale l'idea che il sesso serva solo per mettere al mondo i bambini e che quindi non si debbano avere rapporti se non si desiderano figli viola la natura umana la natura che io vi ho dato ho infuso in ogni cosa un'energia che trasmette il suo segnale all'universo ogni persona animale pianta roccia ogni oggetto emana energia come un trasmettitore tali onde di energia irradiano attraverso le pareti sopra le montagne oltre la luna e nell'eternità non si fermano mai ogni pensiero che avete avuto colora questa energia ogni parola che avete pronunciato le dà forma ogni gesto che avete compiuto la influenza la vibrazione la frequenza la lunghezza d'onda delle vostre emanazioni cambiano costantemente in rapporto ai vostri pensieri umori sentimenti parole e azioni avete sicuramente sentito dire di qualcuno che ha buone vibrazioni è un'espressione molto azzeccata l'aria è satura di energia e forma una matrice di vibrazioni personali intrecciate talmente complessa che per voi è impossibile anche immaginarla quest'onda è il campo di energie combinate in cui vivete è potente e agisce su ogni cosa anche su voi stessi tu sei influenzato dalle vibrazioni che ricevi e ne invii altre che si ripercuotono sulla matrice la quale a sua volta modifica il campo energetico di tutti gli altri esseri questi creano e inviano vibrazioni diverse da quelle ricevute e influenzano la matrice la quale agisce su di te e così via puoi pensare che si tratti di fantasie ma non ti è mai capitato di entrare in una stanza dove l'aria era così pesante che si poteva tagliare con un coltello oppure hai mai sentito di due scienziati che lavoravano contemporaneamente allo stesso problema ed un tratto sono arrivati ad una identica soluzione simultaneamente e in modo indipendente questi sono eventi comuni alcune delle manifestazioni più ovvie della matrice la vostra psicologia popolare definisce coscienza collettiva la matrice di energia che influenza ogni cosa sul vostro pianeta la guerra e la pace i sollevamenti geofisici e la stabilità planetaria il diffondersi delle malattie o l'estendersi del benessere tutto è il risultato della coscienza anche gli eventi e le situazioni della vostra vita individuale è un discorso tanto affascinante Dio ma che cosa ha a che fare questo con il sesso abbi pazienza ci sto arrivando il mondo partecipa ad un continuo scambio di energia la tua tocca tutti gli altri e quell'altrui tocca a te a un certo punto queste energie si incontrano per essere più chiari immagina due persone in una stanza lontane l'una dall'altra le chiameremo Tom e Mary l'energia personale di Tom trasmette a 360 gradi nell'universo e una parte di questa raggiunge Mary la quale a sua volta emette la propria energia che arriva anche a Tom ma le loro energie si incontrano a metà strada ricorda che si tratta di energie fisiche che possono essere misurate e sentite e formano una nuova unità energetica che chiameremo Tom e Mary Tom e Mary potrebbero definire tale energia il corpo tra noi perché effettivamente si tratta di un corpo di energia a cui entrambi sono collegati con cui instaurano uno scambio attraverso i cavi che esistono nella matrice questa esperienza di Tom e Mary è la verità di Tom e Mary e li attrae verso una santa comunione perché entrambi provano la gioia sublime del corpo tra loro dell'unito dell'unione benedetta pur restando distanti entrambi sentono fisicamente ciò che sta accadendo nella matrice e di colpo vogliono avvicinarsi l'uno all'altro a questo punto entra in gioco il loro addestramento il mondo li ha abituati a essere cauti a diffidare dei sentimenti a difendersi dalla possibilità di soffrire a trattenersi ma l'anima vuole conoscere Tom e Mary e subito i due sono irrevocabilmente attratti dal corpo tra loro a un osservatore casuale sembrerà che Tom e Mary vogliono avvicinarsi l'uno all'altra ma in realtà desiderano raggiungere Tom e Mary quel luogo di unione divina che esiste già tra di loro il punto in cui sanno di essere uno si muovono dunque verso questa sensazione e a mano a mano che si avvicinano l'energia che entrambi inviano a Tom e Mary deve coprire una distanza minore facendosi così più intensa a un tratto si trovano abbastanza vicini il corpo tra loro è incandescente e vibra a una velocità impressionante il cavo è più grosso e splendente e trasferisce una incredibile quantità di energia possiamo dire che i due bruciano di desiderio si avvicinano ancora di più e infine si toccano la sensazione così intensa da risultare quasi insopportabile i due percepiscono tutta l'energia di Tom e Mary la sostanza compatta intensamente unita del loro essere combinato se vi aprite alla sensibilità più elevata quando vi toccate potete sperire questa energia sublime sotto forma di formicolio che a volte vi attraverserà tutto il corpo oppure come una sensazione di calore nel punto del contatto anche questa percepibile in tutto il corpo ma soprattutto nel chakra inferiore ora i due si abbracciano annullando la distanza e Tom Mary e Tomary si trovano a occupare quasi lo stesso spazio i due sentono Tomary tra loro e vogliono avvicinarsi ancora di più fondersi con Tomary io ho creato i corpi dell'uomo e della donna in modo che questo sia possibile il corpo di Tom è pronto a entrare in quello di Mary e quello di Mary è pronto a ricevere quello di Tom ora il formicolio e il calore sono di una intensità intollerabile Tom Mary e Tomary diventano uno nella carne l'energia fluisce tra loro urgente e appassionata si muovono e sembra che lottino per avvicinarsi ancora di più sempre di più poi deflagrano e i loro corpi entrano in convulsione le vibrazioni li pervadono dalla punta dei piedi a quella dei capelli nell'esplosione della loro unicità hanno conosciuto il Dio e la Dea l'Alfa e l'Omega il tutto e il nulla l'essenza della vita l'esperienza di ciò che è i due sono diventati uno e spesso da questa unione nasce una terza entità fisica è una manifestazione concreta di Tomeri sangue del loro sangue Tom e Mary hanno creato la vita non ti ho già detto che siete tutti dei? Oddio questa è la più bella descrizione della sessualità umana che io abbia mai sentito vedi la bellezza dove desideri scorgerla e la bruttezza dove hai paura di vedere la bellezza ti stupirebbe sapere quante persone giudicherebbero male ciò che ho appena detto no Dio non ne sarei sorpreso so bene di quanta paura e negatività il mondo ha rivestito la sessualità in ogni modo le tue parole sollevano un'infinità di domande beh sono qui proprio per rispondere ma prima permettimi di aggiungere qualcosa la danza che ho descritto l'interazione energetica che ti ho spiegato si verifica continuamente in e con ogni cosa anche se con l'aumentare della distanza fra te e una certa cosa l'energia diventa sempre meno intensa non sei mai totalmente scollegato esiste un punto fra te e ogni altra persona luogo oggetto in cui le energie si incontrano formando una terza unità meno densa ma non meno reale qualunque cosa sul pianeta e in tutto l'universo emette energia in ogni direzione e questa si mescola tutte le altre intrecciandosi in strutture di una complessità che neppure i vostri computer più avanzati possono analizzare il continuo incrocio e scambio di energie è ciò che tiene insieme il mondo fisico è la matrice di cui parlavo prima ed è tramite questa matrice che vi scambiate segnali significati energie curative a volte create da singoli individui ma principalmente dalla coscienza collettiva queste innumerevoli energie si attraggono fra loro più precisamente secondo la legge dell'attrazione il simile attrae il simile pensieri analoghi si attirano lungo la matrice e se un certo numero di energie simili si unisce le vibrazioni si fanno più pesanti rallentano e alcune diventano materia i pensieri creano la forma fisica e quando molte persone pensano la stessa cosa c'è un'alta probabilità che i loro pensieri diano forma ad una realtà per questo la preghiera collettiva è tanto potente ma anche i sentimenti negativi possono avere degli effetti per esempio gli Stati Uniti d'America sono nati sotto la protezione divina indivisibile libera e giusta non è un caso che siano diventati la nazione più prospera della terra come non lo è che stiano perdendo tutto ciò che hanno creato con tanta fatica perché hanno smarrito la propria visione di sé le espressioni sotto la protezione divina e indivisibile indicavano la verità universale dell'unità una matrice unica molto difficile da distruggere ma la matrice è stata indebolita la libertà religiosa è diventata bigottismo e sconfina nell'intolleranza la libertà personale è pressoché scomparsa e la responsabilità individuale non esiste quasi più la nozione stessa di responsabilità individuale è stata distorta fino a trasformarla in ognuno per sé questa è la nuova filosofia che crede di rifarsi alla tradizione dell'individualismo americano ma il sogno americano era fondato su una nozione di responsabilità individuale la cui più alta espressione era il concetto di amore fraterno a rendere grande l'America non era il fatto che ognuno lottava per la propria esistenza ma che ciascuno accettava la sua responsabilità individuale per la vita di tutti tuttavia più l'America è cresciuta più gli americani sono diventati avidi hanno visto che potevano avere molto e hanno voluto sempre di più ma c'era solo un modo per riuscirci qualcun altro doveva avere sempre di meno a parte i diseredati nessuno ammetteva che l'America non fosse più la terra delle opportunità o meglio che tali opportunità tendessero a escludere istituzionalmente molte persone a causa del sesso o del colore della pelle gli americani sono diventati arroganti anche nei rapporti internazionali aiutando gli altri solo quando ciò serviva a rafforzare il proprio potere ora l'ideale di amore fraterno su cui l'America era stata fondata non esiste quasi più e se qualcuno tra i non privilegiati osa chiedere la sua parte riceve in cambio un netto rifiuto ovviamente ciascuno deve essere responsabile di se stesso ma l'America come il resto del mondo può funzionare davvero soltanto se ogni persona si considera responsabile anche per tutti gli altri dunque la coscienza collettiva produce risultati collettivi esatto è stato dimostrato moltissime volte nel corso della vostra storia la matrice attrae le energie simili avvicinando tra loro anche gli oggetti fisici tali oggetti devono poi respingersi altrimenti si fonderebbero per sempre perdendo la loro presente forma fisica e assumendone un'altra se si lasciassero attrarre dalla fusione permanente non potrebbero più avere rapporti con gli altri esseri ma si fonderebbero con loro sperimentando l'unicità eterna questo è lo stato da cui tutti siamo venuti e proprio perché lo abbiamo lasciato ne siamo costantemente attratti questo movimento avanti e indietro è il ritmo dell'universo e di tutto ciò che si trova nell'universo quindi è anche il ritmo del sesso cioè dello scambio sinergico di energia siete continuamente spinti a unirvi poi sperimentate una repulsione che vi spinge lontano da quell'unione scegliete di restare liberi in modo da poterla esperire se ne diventaste parte integrante non potreste più conoscerla come unione perché non conoscereste la separazione detto altrimenti se Dio vuole conoscersi come tutto ciò che esiste deve conoscersi come entità separata in voi e in ogni altra unità di energia dell'universo Dio conosce se stesso come parte del tutto dandosi in tal modo la possibilità di conoscersi come il tutto nella propria esperienza posso sperimentare ciò che sono soltanto sapendo ciò che non sono ma poiché sono il tutto sono anche ciò che non sono questa è la dicotomia divina da cui deriva l'affermazione sono ciò che sono il modo di attrazione e repulsione di cui parlavo si ripete in tutto ciò che vive quindi anche negli eventi che creano la vita i vostri corpi danzano in un movimento di unione e separazione tanto istintivo da lasciare pochissimo spazio ad un'azione cosciente e deliberata a un certo punto il moto diventa automatico nessuno deve dire ai vostri corpi come agire lo fanno da soli con tutta l'urgenza della vita è la vita stessa che si esprime e produce una nuova esistenza questo dolce ritmo divino scandisce anche quelli che definite cicli vitali i raccolti crescono secondo questi cicli le stagioni vanno e vengono i pianeti seguono la loro orbita le stelle esplodono e implodono per poi tornare a esplodere interi universi inspirano ed espirano tutto accade secondo cicli ritmici che seguono le frequenze del dio e della dea del tutto perché dio è il tutto e la dea è tutte le cose è tutto ciò che è che fu e che sarà per l'eternità amen capitolo 8 queste nostre conversazioni mi lasciano sempre più interrogativi che risposte ora dio oltre alle domande sul sesso io ne ho anche sulla politica c'è chi dice che siano tutti uguali che i politici non fanno altro che cercare di fot... aspetta un attimo dio non avrai mica intenzione di essere osceno no volevo solo sconvolgerti un po' ma dio non puoi parlare in questo modo e allora perché voi lo fate? beh la maggior parte di noi non si esprime così non è assolutamente vero le persone timorate di dio non lo fanno ah capisco per non offendere dio avete bisogno di temerlo in ogni caso chi vi dice che una semplice parola possa recarmi offesa e perché un termine che indica l'atto sessuale spesso è usato anche come insulto questo dovrebbe suggerirvi qualcosa su come vivete il sesso tra gli aborigeni australiani e polinesiani e in altre culture che definite pagane o primitive il sesso è vissuto in modo molto aperto d'altro canto quelle comunità hanno un enorme rispetto per la vita la violenza sessuale non esiste e l'assassinio è praticamente sconosciuto la vostra società invece considera il sesso che è una funzione umana naturale qualcosa da fare di nascosto mentre uccide senza alcun ritegno questa è la vera oscenità avete reso il sesso un tabù un fatto sporco vergognoso imbarazzante no non è vero Dio i più ritengono il sesso una cosa privata che sarebbe sconveniente esibire per alcuni è un elemento sacro del rapporto amoroso mancanza di privacy non significa assenza di sacralità la maggior parte dei riti umani più sacri è celebrata in pubblico non confondiamo il sacro col privato gli episodi più riprovevoli spesso accadono in privato mentre di fronte agli altri esibite i comportamenti migliori non sto dicendo che dobbiate fare sesso in pubblico voglio solo farti notare che privato non significa automaticamente sacro riguardo alla sconvenienza è un concetto che ha inibito la gioia dell'umanità più di ogni altro eccetto forse quello di un Dio punitivo sembra a Dio che tu non creda nell'idea di un comportamento appropriato il problema è che qualcuno fissa degli standard quindi il vostro comportamento viene immediatamente limitato diretto dettato dalle idee altrui su ciò che deve può darvi gioia è un concetto più che limitante è distruttivo e non solo in campo sessuale non c'è nulla di più triste di un uomo e una donna che vorrebbero sperimentare qualcosa ma non lo fanno perché credono che sia sconveniente non evitate mai di fare qualcosa in tutti gli aspetti della vita solo perché viola le regole di ciò che qualcun altro considera appropriato ma è il nostro senso di ciò che è giusto o sbagliato a tenere insieme la società come potremmo vivere altrimenti la sconvenienza non ha nulla a che vedere con i valori relativi di giusto e sbagliato potete concordare tutti che non si deve uccidere ma è ugualmente sbagliato correre nudi sotto la pioggia forse sarete d'accordo che è sbagliato desiderare la donna ad altri ma lo è anche desiderare la propria donna e avere con lei esperienze particolarmente piacevoli spesso i comportamenti appropriati non vi fanno sentire meglio e raramente vi causano grande gioia tornando al sesso Dio stai dicendo che tutto è accettabile a patto che le persone interessate siano consenzienti e non dovrebbe essere così per ogni cosa ma a volte noi non sappiamo chi toccherà il nostro cuore o come dovete fidarvi della vostra sensibilità e se non siete sicuri cercate di sbagliare per eccesso d'amore la domanda cruciale in ogni decisione è che cosa farebbe l'amore in questo caso se amate qualcuno non agirete mai in modo da danneggiarlo se nutrite dei dubbi aspettate finché non avrete le idee più chiare ma questo comportamento si presta al ricatto morale basta che l'altro dica che un certo atteggiamento lo ferirebbe e ti trovi immediatamente limitato solo da te stesso non vorresti fare spontaneamente solo quello che non recherà alcun danno a coloro che ami ma se sono io a sentirmi danneggiato se non faccio una certa cosa allora devi dire alla persona che ami la tua verità che ti senti frustrato è sminuito e hai bisogno del suo consenso per agire devi sforzarti di raggiungere un compromesso e se non è possibile allora ti ripeterò un concetto che ti ho già spiegato tradire te stesso per non tradire un altro è comunque un tradimento è il massimo tradimento il vostro Shakespeare lo ha detto con altre parole sii sincero con te stesso e come alla notte segue il giorno non sarai falso con nessuno ma Dio l'uomo che fa sempre ciò che vuole diventa molto egoista non posso credere che tu lo desideri davvero tu presumi che una persona farà sempre la scelta più egoista ma ti dico questo l'uomo è capace di fare la scelta più elevata e non sempre è quella che apparentemente serve agli altri vuoi dire che a volte dobbiamo pensare prima a noi stessi che al prossimo questo dovete farlo sempre poi a seconda di ciò che intendete sperimentare opererete una scelta quando il vostro scopo è elevato lo sarà anche la vostra scelta pensare prima a voi stessi non significa essere egoisti ma consapevoli la crescita è possibile solo attraverso l'esercizio della libertà se vi limitate a seguire le regole imposte da qualcun altro alla fine avrete obbedito ma non sarete cresciuti contrariamente a quanto credete non è l'obbedienza che voglio da voi d'accordo allora posso farti altre domande sul sesso spara se il sesso è un aspetto così meraviglioso dell'esperienza umana perché tanti maestri spirituali predicano e praticano l'astinenza per la stessa ragione che li porta a condurre una vita semplice coloro che si evolvono fino ad un elevato grado di comprensione trovano un equilibrio tra i desideri fisici l'anima e la mente siete esseri composti di tre parti ma molti sperimentano soltanto quella corporea dopo i trent'anni anche la mente viene dimenticata nessuno legge scrive insegna o impara più l'intelletto non riceve nuovi stimoli e si limita a fare il minimo necessario tentate di tutto per addormentarlo televisione film letteratura da strapazzo basta che vi impedisca di pensare vivete per lo più solo sul piano fisico nutrite il corpo lo vestite ve ne prendete cura molti non leggono un buon libro da cui si possa imparare qualcosa da anni ma sanno a memoria tutti i programmi televisivi della settimana la verità è che quasi nessuno vuole pensare per questo scegliete governi e religioni che non richiedono un pensiero indipendente rendimi le cose facili dimmi che cosa devo fare la gente desidera questo quali sono le regole quali sono i miei limiti ho bisogno che qualcuno me lo dica alla fine restate delusi e disgustati avete seguito le regole e fatto ciò che vi è stato suggerito che cosa è andato storto e quando tutto comincia a non andare per il verso giusto quando trascurate la mente il più grande strumento creativo che abbiate a disposizione è ora che smettiate di farlo alcuni di voi una piccola minoranza hanno compreso di avere un corpo e una mente hanno trattato bene il loro intelletto eppure anche tra questi pochissimi hanno imparato a usare la mente per più di un decimo delle sue potenzialità se sapeste di che cosa è capace non smettereste mai di gioire delle sue meraviglie e della sua forza ma se il numero di coloro che riescono a equilibrare il corpo e la mente è ridotto lo è ancor più la quantità di persone che vedono se stesse composte da corpo mente e spirito state nutrendo la vostra anima vi siete almeno accorti di averne una state crescendo o appascendo la vostra anima è abbandonata come la vostra mente quando è stata l'ultima volta che avete pianto di gioia o che avete scritto una poesia suonato uno strumento ballato sotto la pioggia dipinto un quadro cucinato una torta riparato qualcosa parlato fino all'alba fatta all'amore per ore magari su una spiaggia o in un bosco e quando è stata l'ultima volta che avete cercato Dio se vivete come esseri ad una sola dimensione ricercate soprattutto le soddisfazioni del corpo denaro sesso potere stimoli fisici sicurezza fama successi finanziari vivendo come esseri a due dimensioni includete tra i vostri desideri quelli che derivano dalla mente amicizia creatività stimoli intellettuali nuove idee nuove mete crescita personale se vivete come esseri a tre dimensioni trovate finalmente un equilibrio vi preoccupate anche dell'anima e cercate un'identità spirituale uno scopo nella vita la relazione con Dio l'evoluzione la crescita spirituale evolvendovi verso stati di coscienza più alti realizzate sempre più pienamente ogni aspetto del vostro essere ma evolversi non vuol dire abbandonare alcuni aspetti del sé a favore di altri significa anzi allargare la propria visione ma allora perché tanti maestri propugnano la completa sfinenza sessuale perché non credono che gli esseri umani possano trovare un equilibrio ritengono che l'energia sessuale sia troppo potente per essere controllata e che l'astinenza sia l'unica via verso l'evoluzione spirituale e non uno dei possibili esiti di tale evoluzione eppure Dio non è forse vero che alcuni esseri estremamente evoluti hanno rinunciato al sesso sì ma mai forzatamente non si tratta di abbandonare qualcosa che vuoi ma che credi che non sia buono è piuttosto un ritrarsi come ci si trattiene dal prendere una seconda porzione di dolce non perché il dessert non sia buono e nemmeno perché non è buono per te semplicemente perché per quanto squisito sia sei sazio quando sarai in grado di abbandonare il sesso per questa ragione forse lo farai o forse no puoi anche decidere che non ne hai avuto abbastanza e desiderare ancora quell'esperienza insieme con tutte le altre del tuo essere ciò va benissimo le persone sessualmente attive possono raggiungere la stessa evoluzione spirituale la stessa illuminazione di quelle che praticano l'astinenza l'evoluzione spinge ad abbandonare la dipendenza dal sesso i comportamenti automatici la compulsione all'atto allo stesso modo spariranno anche le preoccupazioni per il denaro il potere la sicurezza e le altre realtà corporee ma il vostro apprezzamento genuino per quegli aspetti della vita non scomparirà e non deve scomparire disdegnare le gioie dell'esistenza anche le più elementari significa disdegnare me il creatore perché se definite empio ciò che ho creato definite empio anche me mentre se considerate sacra la mia creazione la santificate e così glorificate anche me ogni tipo di esperienza sessuale tra adulti consenzienti è giusta a Dio? Sì anche le perversioni o il sesso senza amore o quello tra omosessuali? innanzitutto chiariamo ancora una volta che Dio non disapprova nulla non sto qui seduto a giudicare definendo alcuni comportamenti buoni ed altri cattivi solo voi potete decidere quello che è necessario al vostro cammino evolutivo tuttavia devo specificare che nessuna azione che causa dolore a un altro essere conduce ad un'evoluzione rapida e nessuna azione che riguarda anche altre persone può essere intrapresa senza il loro consenso ora rispondo alle tue domande sesso perverso se non danneggia qualcuno ed è praticato consensualmente perché no sesso senza amore quando mi viene posta questa domanda vorrei entrare in una stanza piena di gente e dire chi di voi non ha mai alci la mano d'altra parte ogni esperienza vissuta senza amore non è la via più rapida verso la dea che si tratti del sesso o di mangiare un piatto di spaghetti se lo fate senza amore perdete il lato più straordinario ciò non è sbagliato ma è senz'altro svantaggioso se desiderate volvervi rapidamente sesso gay molti affermano che io sia contrario alle esperienze omosessuali ma in realtà io non giudico qualunque sia la vostra scelta un tempo si pensava che il matrimonio tra persone di razza diversa fosse non solo sconsigliabile ma contrario alla volontà di dio e incredibilmente alcuni ancora oggi ne sono convinti e i sostenitori di tale idea si appellavano all'autorità della bibbia come fa chi è contrario ai rapporti omosessuali vuoi dire che il matrimonio tra persone di razza diversa è giusto la tua domanda è assurda ma lo è anche di più la certezza di molti che la risposta sia no tuttavia io non giudico so che vorreste che lo facessi ciò renderebbe tutto più facile non ci sarebbero decisioni da prendere basterebbe obbedire ne farebbe le spese e la creatività ma quanto stressi meno vorrei farti qualche domanda a dio anche sul sesso in relazione ai bambini a che età è giusto permettere ai bambini di prendere coscienza della propria sessualità i bambini sono consapevoli di se stessi come esseri sessuali vale a dire come esseri umani fin dalla nascita molti genitori cercano di scoraggiare tale consapevolezza se la mano del bambino scivola verso il posto sbagliato la allontanano se il bimbo cerca di darsi piacere col proprio corpo in modo innocente reagiscono con orrore e trasmettono quella sensazione al figlio il punto non è quando introdurre il bambino al sesso ma quando smettere di chiedergli di negare la sua identità di essere sessuale quando i figli raggiungono un'età variabile tra i 12 e i 17 anni la maggior parte dei genitori abbandona la lotta ma a quel punto il danno è fatto ai bambini è stato inculcato il principio che devono vergognarsi del sesso e degli organi a questo preposti ad alcuni non viene neppure insegnato il nome di tali organi li chiamate pisellino patatina e altre assurdità pur di evitare di dire semplicemente pene e vagina avendo imparato che tutto ciò che riguarda il sesso deve essere nascosto i ragazzi arrivano alla pubertà senza sapere come comportarsi non hanno avuto alcuna preparazione e ovviamente reagiscono in modo goffo ed inappropriato per questa ragione molti di loro entrano nell'età adulta con una quantità di tabù inibizioni e fissazioni riguardo al sesso nelle società illuminate i bambini non sono mai repressi o corretti quando cominciano a trovare piacere nella propria natura sessuale e neppure la sessualità dei genitori viene loro nascosta i corpi nudi sono visti e trattati come qualcosa di naturale di cui non bisogna affatto vergognarsi in alcune comunità la madre e il padre si accoppiano senza nascondersi alla vista dei figli che cosa più di questo può dare ai bimbi un'idea della bellezza e delle gioie dell'espressione sessuale dell'amore come ho già detto spesso voi definite queste società pagane eppure la violenza sessuale e i delitti passionali non sono praticamente esistenti in queste società la prostituzione è considerata assurda e nessuno ha mai sentito parlare di inibizioni e disfunzioni sessuali attualmente una tale apertura non è raccomandabile per la vostra società ma è arrivato il momento che le cosiddette civiltà moderne del pianeta eliminino la repressione la vergogna e i sensi di colpa che circondano l'espressione della sessualità hai qualche suggerimento su come riuscirci smettete di insegnare ai bambini fin dalla più tenera età che tutto ciò che si riferisce ad alcune funzioni naturali del corpo è riprovevole ed è sbagliato permettete loro di scorgere il vostro lato romantico lasciate che vedano come vi abbracciate e vi toccate quanto si amano i loro genitori esprimere fisicamente l'amore è naturale quando i vostri figli cominciano a provare impulsi sessuali fate in modo che li colleghino a un senso di gioia senza sentirsi in colpa e per l'amor del cielo non nascondete loro i vostri corpi se vi vedono nuotare in un fiume senza niente addosso o se vi scorgono mentre uscite nudi dal bagno non fatevi prendere dal panico dovete smetterla con la frenesia di coprirvi di togliere ai piccoli ogni opportunità di considerarvi esseri sessuali i figli pensano che il padre e la madre siano sessuati perché questa è l'immagine che i genitori hanno dato loro e poiché i bambini imitano i genitori immaginano che sia giusto comportarci così parlate di sesso con i vostri figli ridetene insieme mostrate loro come celebrare la sessualità potete farlo dal momento della nascita con il primo bacio il primo abbraccio che ricevono da voi grazie grazie Dio speravo proprio che facessi luce sulla questione ma qual è il momento opportuno per approfondire l'argomento sesso con i figli ve lo diranno loro ogni bambino lo esprimerà se avete occhi per vedere e orecchi per ascoltare e se avrete fatto chiarezza in voi stessi troverete il modo di parlarne adeguato all'età dei vostri figli come si arriva ad avere le idee chiare? fate tutto ciò che è necessario iscrivetevi a un seminario andate da uno psicoterapeuta frequentate un gruppo di discussione leggete libri sull'argomento ma soprattutto riscoprite voi stessi e gli altri come maschi e femmine riguadagnate e reclamate la vostra sessualità celebratela godetela possedetela appropriatevi di una sessualità gioiosa e saprete incoraggiare i vostri figli a fare altrettanto grazie grazie mille ho un'altra domanda sulla sessualità umana in generale esiste qualcosa che potremmo definire un eccesso di sesso? ovviamente no ma esiste un eccessivo bisogno del sesso il mio consiglio è godete di tutto non mancate di nulla e questo vale anche per le persone? specialmente per le persone aver bisogno di qualcuno è il modo più rapido di uccidere un rapporto ma a tutti noi piace sentirsi necessari allora imparate essere diversi il regalo più prezioso che possiate fare ad un altro è il potere di non aver bisogno di voi capitolo 9 passiamo ora ad un altro argomento Dio avevi promesso di parlare di alcuni aspetti generali della vita sulla terra sì voglio che questo secondo volume affronti alcuni dei problemi più importanti del vostro pianeta e non ce n'è uno più grande dell'educazione dei figli ovviamente tutto è relativo e io non esprimo giudizi ma tra ciò che dite e fate in proposito c'è un forte scarto capisco lo so ma forse ci sarà un momento forse anche prima della fine di questo libro in cui mi accuserai di giudicare non lo farei mai Dio vedremo per tornare al punto ho osservato che moltissimi hanno frainteso il significato lo scopo e la funzione dell'educazione nonché del modo migliore in cui impartirla questa è un'affermazione forte puoi spiegarci meglio gran parte dell'umanità ha deciso che lo scopo dell'educazione è trasmettere la conoscenza generalmente quella accumulata da una determinata famiglia tribù società o nazione ma in realtà l'educazione non ha molto a che vedere con la conoscenza davvero avrei detto il contrario e con che cosa ha a che fare allora con la saggezza con la saggezza proprio così d'accordo mi arrendo e allora qual è la differenza la saggezza è conoscenza applicata perciò non dovremmo dare ai nostri figli la conoscenza ma la saggezza innanzitutto non si deve ignorare la conoscenza a favore della saggezza sarebbe un errore fatale ma non bisogna neppure fare il contrario ciò ucciderebbe l'educazione come di fatto sta accadendo sul vostro pianeta intendi dire Dio che stiamo tralasciando la saggezza per la conoscenza esatto per lo più insegnate ai vostri figli che cosa pensare invece di come puoi spiegarti meglio per favore certo quando date la conoscenza ai bambini dite loro che cosa pensare rivelate loro ciò che credete che debbano sapere quella che ritenete la verità se invece date ai figli la saggezza non inculcate ciò che devono sapere o ciò che è vero ma insegnate come arrivare da soli alla loro verità ma senza conoscenza non può esserci saggezza è vero infatti ho detto che non bisogna trascurare la conoscenza in favore della saggezza ma bisogna cercare di trasmetterne meno possibile da una generazione all'altra lasciate che i bambini la scoprano da soli sappiate che la conoscenza si perde ma la saggezza non si dimentica mai quindi vuoi dire che le nostre scuole dovrebbero insegnare il meno possibile dovrebbero piuttosto spostare l'attenzione dalla conoscenza alla saggezza oggi molti genitori considerano pericolose le lezioni di pensiero critico e di logica e a ragion veduta dato il loro modo di pensare perché se i bambini riescono a sviluppare dei processi mentali autonomi molto probabilmente abbandoneranno la morale i standard e il genere di vita dei loro genitori per proteggere il vostro modo di vivere avete costruito un sistema educativo basato sullo sviluppo dei ricordi invece che delle capacità ai bambini insegnate a ricordare i fatti e gli schemi mentali della società a cui appartengono invece di guidarli alla scoperta delle loro verità personali allora credi che noi mentiamo ai nostri figli? certamente basta prendere in mano un manuale di storia per rendersene conto la storia è scritta da persone che presentano il mondo da un particolare punto di vista e ogni tentativo di allargare la visione è rifiutato e definito revisionista gran parte della storia è scritta per spiegare ai bambini non ciò che è successo ma il modo in cui voi giustificate l'accaduto devo farti un esempio? sì negli Stati Uniti non insegnate ai vostri figli tutto ciò che c'è da sapere sulla decisione di sganciare le bombe atomiche su due città giapponesi uccidendo centinaia di migliaia di persone e provocando malattie terribili ma spiegate i fatti nel modo in cui volete che li vedano se qualcuno cerca di riequilibrare i giudizi considerando anche il punto di vista dei giapponesi strillate vi arrabbiate e chiedete che le scuole non pensino nemmeno di includere quelle opinioni nella presentazione degli eventi così facendo non insegnate storia ma politica la storia dovrebbe essere un racconto esauriente di ciò che è accaduto la politica invece è sempre il punto di vista di qualcuno la storia rivela la politica giustifica la storia scopre la politica copre e racconta soltanto un aspetto degli eventi non volete che i vostri figli vengano a conoscenza dei fatti ma che apprendano il vostro punto di vista credo che ora tu Dio stia esagerando davvero la maggior parte di voi non vuole che i bambini sappiano neppure le realtà elementari della vita quando le scuole iniziarono a spiegare il funzionamento del corpo umano ci fu una reazione furiosa da parte dei genitori adesso non bisogna dire ai bambini come si trasmette l'AIDS certo insegnate loro dal vostro punto di vista come evitare la malattia ma non esporreste mai i fatti nudi e crudi lasciandoli decidere da soli ma i bambini non sono pronti a questo devono essere guidati hai dato un'occhiata al tuo mondo ultimamente sì perché è il risultato di come avete guidato i vostri figli no se il mondo è marcio non è perché abbiamo cercato di inculcare nei nostri ragazzi vecchi valori ma perché abbiamo permesso loro di farsi influenzare da idee moderne ne sei convinto certo se avessimo tenuto fuori dalle scuole il cosiddetto pensiero critico e l'educazione sessuale ora non vedremmo tante ragazze madri diciassettenni in coda per ricevere il sussidio di disoccupazione in una società senza più valori se avessimo insistito per imporre la nostra morale invece di lasciare che i giovani si creassero la loro l'America non sarebbe una penosa imitazione della grande nazione che era un tempo e non dirmi che ciò che abbiamo fatto a Hiroshima e Nagasaki era sbagliato abbiamo posto fine alla guerra no? abbiamo salvato migliaia di vite da entrambe le parti è stata una decisione difficile ma andava presa così è la guerra capisco sì certo ma noi non dobbiamo riscrivere la nostra storia ciò di cui abbiamo davvero bisogno è un ritorno i bambini non sono pronti a questo devono essere educati al passato ai valori dei nostri padri hai finito? sì come sono andato? abbastanza bene questo è quello che pensano in tanti vero? oh puoi scommetterci e non solo in America basta cambiare il nome dei paesi e della guerra tutti pensano sempre di essere nel giusto addio prendiamo Berlino per esempio o la Bosnia tutti sono sicurissimi che i vecchi valori funzionassero meglio è che il mondo sta andando a rotoli per questo c'è un ritorno al nazionalismo in ogni parte del pianeta io ho cercato di dare voce a quei sentimenti a quelle preoccupazioni oh hai fatto un buon lavoro mi hai quasi convinto e allora che cosa hai da dire a quelli che la pensano in questo modo? credete davvero che 30 o 40 anni fa le cose andassero meglio? la memoria è selettiva ricordate il bello e non il brutto ma provate a pensare criticamente senza limitarvi a memorizzare ciò che altri vogliono farvi credere per tornare all'esempio di prima credete davvero che fosse assolutamente necessario bombardare Hiroshima? molti documenti riportano che il Giappone aveva manifestato agli Stati Uniti la volontà di porre fine alla guerra prima che la bomba atomica fosse sganciata che parte ha avuto la vendetta per l'orrore di Pearl Harbor nella decisione di lanciarla ugualmente? e anche ammettendo che quell'azione fosse necessaria lo era anche sganciare la seconda bomba? certo potreste aver ragione e tutto potrebbe essere avvenuto come lo raccontate ma non è questo il punto il punto è che il vostro sistema scolastico non lascia spazio a un pensiero critico su questo argomento come su molti altri voi volete che i giovani arrivino alle vostre conclusioni e così li condannate a ripetere i vostri errori ma che cosa pensi allora della convinzione di tanti che la nostra società si stia disgregando che ne dici dell'impressionante aumento di genitori adolescenti e di figli senza padre perché la società va a rotoli in effetti il vostro mondo sta andando in rovina su questo sono d'accordo ma la ragione va ricercata in quello che avete permesso che le scuole inculcassero nei vostri figli se avessero insegnato che esiste solo l'amore un amore incondizionato forse le cose sarebbero andate diversamente ma Dio noi non consentiamo nemmeno alle nostre religioni di farlo già e non permettete ai vostri figli di celebrare se stessi e i loro corpi o di sapere che sono innanzitutto esseri spirituali che abitano un corpo nelle società con una sessualità aperta si verificano pochissime nascite indesiderate e nessuna illegittima laddove la storia non è piegata al punto di vista del più forte gli errori del passato sono ammessi apertamente perché si eviti di ripeterli nelle culture in cui si insegnano il pensiero critico e come vivere meglio e non una sfilza di fatti da imparare a memoria anche le azioni giustificabili del passato sono esaminate da vicino nulla è accettato automaticamente ma come è possibile parlando ancora di Hiroshima come potremmo insegnare a vivere meglio invece che esporre semplicemente dei fatti gli insegnanti dovrebbero descrivere esattamente ciò che è accaduto includendo tutti gli avvenimenti dovrebbero ricercare le opinioni degli storici di entrambe le parti guidando i ragazzi a scoprire che su qualsiasi cosa c'è sempre più di un punto di vista non chiederebbero più agli studenti di imparare tutto a memoria ma direbbero avete sentito tutto ciò che c'era da sapere su questo episodio o almeno tutto ciò che siamo riusciti a scoprire che lezione traete da questa conoscenza se vi trovaste ad affrontare gli stessi problemi che furono risolti sganciando una bomba atomica che cosa fareste sapreste trovare una soluzione migliore oddio ma così è troppo facile con il senno di poi chiunque può dire io avrei agito in un altro modo e allora perché non lo fate in che senso perché non usate il senno di poi per imparare dal passato e agire diversamente te lo dico io perché permettere ai vostri figli di analizzare criticamente il vostro operato significherebbe correre il rischio che non approvino le vostre scelte naturalmente loro non sono comunque d'accordo con voi ma non possono esprimere la loro opinione a scuola perché la portano nelle strade organizzano manifestazioni appendono striscioni strappano le cartoline del richiamo alla leva bruciano le bandiere e il loro modo di gridare deve esserci un sistema migliore ma voi non le udite non volete farlo le ammonite non diteci che abbiamo sbagliato dovete capire che avevamo ragione ecco come educate i figli ma molti diranno che sono stati proprio i nostri figli con le loro idee liberali a ridurre il mondo com'è hanno sostituito i valori tradizionali con una moralità basata sul fai tutto quello che vuoi che minaccia di distruggere il nostro sistema di vita infatti i giovani stanno distruggendo il vostro modello di vita come sempre è accaduto il vostro compito è incoraggiarli non scoraggiarli non sono loro a distruggere la foresta amazzonica ad allargare il buco nell'ozono a sfruttare i poveri in ogni angolo del pianeta non sono i giovani a imporre tasse salatissime e usare il denaro per finanziare le guerre non sono le nuove generazioni a ignorare i problemi dei deboli e degli sfruttati a lasciar morire di fame migliaia di persone ogni giorno in un mondo che possiede risorse più che sufficienti per nutrire tutti i suoi abitanti non sono i giovani ad aver creato un sistema di valori basato sulla legge del più forte è una società che risolve i problemi con la violenza i vostri ragazzi vi chiedono vi implorano di porre fine a tutto questo eppure dio sono proprio loro a essere violenti che cosa mi dici delle gang di minorenni e del rifiuto dei giovani nei confronti della legge e dell'ordine ci stanno facendo impazzire le loro grida che vi supplicano di cambiare il mondo rimangono inascoltate i giovani sanno che la loro è una causa persa e che in ogni caso farete a modo vostro visto che non sono stupidi capiscono che se non possono battervi hanno solo un'altra opportunità unirsi a voi i ragazzi sono violenti e materialisti perché lo siete voi agiscono da pazzi perché lo fate voi si affrontano il sesso in modo irresponsabile per manipolare gli altri è perché vi hanno visti fare altrettanto l'unica differenza fra i giovani e i vecchi è che i primi agiscono senza nascondersi mentre i secondi occultano ciò che fanno e pensano che i giovani non se ne accorgano ma non è così i ragazzi vedono l'ipocrisia degli adulti e tentano disperatamente di cambiarla dopo aver fallito non possono fare altro che imitarvi sbagliano ma nessuno ha insegnato loro a comportarsi diversamente non hanno mai avuto la possibilità di analizzare criticamente i comportamenti degli adulti ma soltanto di memorizzarli e come dovremmo educarli allora? innanzitutto trattateli come spiriti sono spiriti in un corpo è una condizione cui non è facile adattarsi come testimoniano i neonati che urlano la loro disperazione per il fatto di trovarsi improvvisamente così limitati ascoltate il loro grido comprendetelo e fateli sentire il più illimitati possibile introduceteli nel mondo con dolcezza e affetto prestate molta attenzione a cosa offrite alla loro memoria i bambini ricordano tutto ciò che vedono e sperimentano perché li sculacciate appena escono dal ventre materno credete davvero che sia l'unico modo per aprire i loro polmoni? perché li allontanate dalla madre l'unica forma di vita che conoscono pochi minuti dopo la nascita non potreste aspettare appesarli misurarli visitarli dando loro il tempo di sentire il calore di chi ha dato loro la vita? perché insegnate ai bambini a vergognarsi del corpo e delle sue funzioni evitando di mostrarvi nudi e dicendo loro di non toccarsi mai per darsi piacere? quale messaggio trasmettete loro sul piacere e sul corpo? perché li iscrivete a scuola in cui la competizione è permessa e incoraggiata in cui si è ricompensati per essere i migliori per aver imparato di più e dove chi si muove secondo il proprio ritmo è a malapena tollerato? quali conclusioni credete che traggono da tutto questo? perché non insegnate loro il movimento la musica la gioia dell'arte il mistero delle favole e la meraviglia della vita? perché non fate emergere la vera natura dei bambini invece di cercare di costringerli a fare ciò che è innaturale? e perché continuate a imporre loro le regole e conclusioni prestabilite? insegnate concetti non materie costruite un nuovo curriculum intorno a tre concetti chiave consapevolezza onestà responsabilità offrite ai vostri figli questi principi fin dalla più tenera età e continuate a farlo finché termineranno gli studi elaborate il modello educativo su queste basi ma Dio come potremmo riuscirci? dalle elementari all'università tutte le materie di studio dovrebbero ruotare intorno a questi concetti anche la matematica andrebbe vista in quest'ottica l'aritmetica e l'algebra non sono astrazioni ma strumenti fondamentali per la vita il loro insegnamento dovrebbe essere strutturato in modo da attirare l'attenzione sui tre concetti fondamentali e sui loro corollari e quali sono i corollari? usa l'immaginazione vuoi dirmi qualche principio importante per la tua esistenza? beh direi l'onestà sì ma questo è un concetto fondamentale continua la lealtà per me è importante bene e poi? poi trattare bene gli altri ma non so come esprimere questo concetto non preoccuparti lascia fluire i pensieri andare d'accordo con il prossimo essere tolleranti non fare del male considerare tutti uguali questi sono i principi che mi piacerebbe insegnare ai miei figli benissimo vai avanti ecco credere in se stessi e aspetta direi procedere con dignità non saprei come definirlo altrimenti ma intendo il comportamento di una persona il rispetto per gli altri e per le strade che decidono di percorrere questi sono tutti i principi positivi e ne esistono molti altri che i vostri figli dovrebbero comprendere a fondo se vogliono evolversi fino a diventare esseri umani completi eppure voi non li insegnate nelle scuole non spiegate che cosa significa essere onesti responsabili consapevoli dei sentimenti altrui e rispettosi delle loro scelte dite che spetta ai genitori istillare questi concetti ma il padre e la madre possono trasmettere solo ciò che hanno ricevuto il risultato è che insegnate ai vostri bambini quello che i vostri genitori hanno fatto imparare a voi , così i peccati dei padri ricadono sui figli arrivi sempre alla stessa conclusione Dio ma non è tutta colpa nostra se il mondo è così com'è non è questione di colpa ma di scelta se non siete responsabili delle scelte dell'umanità allora chi lo è hai ragione ma non possiamo assumerci la responsabilità di tutto ti dico questo finché non lo farete non potrete cambiare nulla non dovete ripetere che loro hanno fatto questo e quello che loro non capiscono qualcuno ha detto abbiamo incontrato il nemico ed eravamo noi oh sì Dio certo abbiamo fatto gli stessi errori per centinaia di anni per millenni figlio mio gli istinti fondamentali dell'umanità non sono molto più evoluti di quello dell'uomo delle caverne eppure ogni tentativo di cambiare la situazione è accolto con disprezzo paura e rabbia e ora arrivo io a suggerire di insegnare nuovi valori nelle scuole eh sì Dio stiamo camminando sul filo del rasoio il problema è che non tutti sono d'accordo con questi concetti e con il loro significato per questo non è possibile insegnarli nelle scuole se ci provassimo i genitori impazzirebbero direbbero che stiamo inculcando dei valori e che la scuola non deve impicciarsi di ciò che non concerne strettamente l'istruzione invece io ti dico che se davvero volete costruire un mondo migliore la scuola è la sede più adeguata per insegnare quei concetti proprio perché è distaccata dai pregiudizi dei genitori hai visto che cosa ha provocato la trasmissione di padre in figlio dei vecchi valori il vostro pianeta è un disastro non avete appreso nemmeno i concetti elementari sui quali si basa una società civile non sapete risolvere i conflitti senza violenza non siete capaci di vivere senza paura non riuscite ad agire in modo disinteressato non siete in grado di amare in modo incondizionato tutto questo dopo migliaia e migliaia di anni ma esiste una via d'uscita a questa situazione Dio? sì è la scuola l'educazione dei bambini la vostra unica speranza risiede nelle generazioni future ma dovete smettere di condizionare i giovani perché agiscano come voi quelle soluzioni non erano adeguate non vi hanno condotti dove volevate andare se non state molto attenti finirete proprio dove siete diretti perciò fermatevi fate dietro front ampliate la visione che avete dell'umanità e insegnatela nelle scuole perché non provate a introdurre nei programmi di studio materie come queste che ora ti elenco comprensione del potere soluzione pacifica dei conflitti fondamenti dei rapporti d'amore personalità e costruzione di sé corpo mente spirito come funzionano creatività celebrare se stessi apprezzare gli altri gioia dell'espressione sessuale lealtà tolleranza differenze e affinità economia etica coscienza creativa e potere mentale consapevolezza e presa di coscienza onestà e responsabilità visibilità e trasparenza scienza e spiritualità ma molte di queste materie Dio si insegnano già sono le cosiddette scienze sociali non sto parlando di poche lezioni a quadrimestre ma di una revisione totale del piano di studi con corsi separati su ognuno di questi argomenti nelle società più evolute della vostra galassia e del vostro universo ne parleremo nel prossimo volume i concetti necessari per vivere sono offerti fin dalla nascita quelli che voi chiamate fatti sono considerati molto meno importanti e vengono insegnati a un'età più avanzata voi avete creato un mondo in cui un bimbo sa leggere prima di andare a scuola ma non ha imparato a non molestare il fratellino o è bravissimo con le moltiplicazioni ma non ha appreso che non c'è nulla di vergognoso nel suo corpo le vostre scuole esistono soprattutto per dare risposte ma sarebbe molto meglio se la loro funzione principale fosse porre domande che cosa vuol dire essere onesti responsabili e leali che cosa significa 2 più 2 uguale a 4 quali sono le implicazioni le società altamente evolute incoraggiano i bambini a crearsi da soli le risposte ma dio questo porterebbe al caos non sto dicendo che la scuola non debba insegnare niente di quello che avete imparato scoperto o deciso al contrario affermo soltanto che i studenti dovrebbero avere l'opportunità di osservare criticamente i risultati di tale sapere ma le vostre scuole invece di offrire dati da analizzare li presentano come l'unica verità gli eventi del passato non dovrebbero diventare il fondamento delle verità presenti ma solo il punto di partenza per porsi altri interrogativi la domanda più importante dovrebbe essere rispetto ai dati che ti abbiamo fornito sei d'accordo oppure no che cosa ne pensi ovviamente i bambini cercheranno una risposta sulla base dei valori dei genitori e la scuola dovrebbe incoraggiarli a esaminare questi valori a imparare a usarli e anche a metterli in dubbio i genitori che non lo accettano non amano i figli ma amano se stessi attraverso i figli oh ma come mi piacerebbe che esistessero scuole così alcune si avvicinano molto a questo modello davvero dio sì leggi le opere di rudolf steiner e studia i metodi della waldorf school da lui creata oh io conosco steiner e tu hai fatto queste osservazioni perché lo sai certo che lo so tutto ciò che è accaduto finora nella tua vita è servito per condurti a questo momento io non ho cominciato a parlare con te all'inizio di questo libro comunico con te da molti anni attraverso tutte le tue esperienze vuoi dire che le scuole steineriane sono le migliori no ma è un modello che funziona tenendo conto di ciò che l'umanità dice di voler essere e fare è solo un esempio tra molti di come si possa educare focalizzandosi sulla saggezza invece che sulla conoscenza è un modello che approvo molto diverso dagli altri per esempio nelle waldorf school i bambini hanno lo stesso insegnante alle elementari alle medie in questo modo il maestro o la maestra arrivano a conoscere ogni allievo come se fosse un figlio e il bambino può sperimentare un grado di fiducia e di amore capace di aprire porte insospettate alla fine del programma il maestro ricomincia con un altro gruppo di bambini un insegnante steineriano a volte lavora con non più di 4 o 5 gruppi in tutta la sua carriera ma il legame che ha instaurato con gli studenti va ben oltre le possibilità offerte dalle scuole tradizionali questo modello educativo riconosce che il rapporto umano e l'amore che uniscono allievi e docenti è più importante delle nozioni imparate a memoria ma secondo te Dio esistono altri validi modelli educativi? sì in questo campo state facendo progressi anche se molto lentamente il più vedono ancora come una minaccia le scuole che non insegnano i fatti ma almeno cominciate a considerare la possibilità di percorrere altre strade e questo è solo uno degli aspetti dell'esistenza umana che trarrebbero grandi benefici da alcuni mutamenti certo immagino che anche l'arena politica necessiti di cambiamenti senza dubbio capitolo 10 allora Dio parliamo di politica è sbagliato condurre una politica estera basata sugli interessi del proprio paese ti ripeto che dal mio punto di vista nulla è errato perciò non lo è impostare la politica estera sui propri interessi ma lo è fingere di non farlo quasi tutti i paesi si comportano così decidono di agire per una serie di motivi poi spiegano le loro scelte con ragioni completamente diverse e perché lo fanno che cosa li spinge a farlo perché coloro che comandano sanno che se gli elettori conoscessero i veri motivi smetterebbero di votarli sono rari i governi che non cercano deliberatamente di confondere la popolazione governare significa ingannare perché ben pochi si lascerebbero dirigere a meno che chi li comanda non li convinca che ogni decisione viene presa per il loro bene i governi incarnano alla perfezione il detto popolare secondo cui se una menzogna è abbastanza grossa ed è sostenuta sufficientemente a lungo diventa la verità chi esercita il potere deve nascondere accuratamente al pubblico il modo in cui ci è arrivato e tutto ciò che ha fatto e farà per tenersi la poltrona la verità e la politica non possono andare d'accordo poiché la politica è l'arte di dire soltanto ciò che serve a ottenere un determinato scopo la politica non è necessariamente cattiva ma è un'arte pratica l'uomo politico sa che la maggior parte della gente agisce in base ai propri interessi pertanto cerca di convincerti che il suo interesse è anche il tuo ma allora ma allora Dio i governi non fanno ciò che vuole la gente non si limitano a fornire il meccanismo attraverso il quale le persone si esprimono come società per esempio negli Stati Uniti c'è un'altra considerazione per la dignità umana la libertà individuale l'importanza di avere delle possibilità i diritti dei bambini perciò abbiamo chiesto al governo di emanare leggi che assicurino un reddito agli anziani perché possano mantenere la loro dignità anche dopo aver smesso di lavorare che garantiscano pari opportunità di lavoro a tutti anche a coloro di cui non approviamo lo stile di vita che vietino di far lavorare i bambini e non lasciano nessuna famiglia priva del necessario per condurre una vita dignitosa o queste sono senz'altro buone norme tuttavia nel provvedere ai bisogni delle persone bisogna prestare attenzione a non privarle della più grande dignità quella di esercitare il potere personale la creatività e l'ingegno per capire che sono in grado di farcela da sole è un equilibrio delicato e voi sembrate capaci soltanto di andare da un estremo all'altro o volete che il governo faccia tutto oppure volete cancellare tutte le leggi sociali sì questo è vero ma il problema è che in una società che dà le migliori opportunità solo a chi ha le credenziali giuste ci sono molti incapaci di provvedere a se stessi e allora per questo motivo secondo te i governi dovrebbero sostituire la coscienza individuale no i governi sono la coscienza delle persone ne sono l'espressione visibile è tramite loro che cerchiamo speriamo e decidiamo di correggere i mali della società è vero ma ti ripeto che non dovete soffocare in un mare di regole che cercano di garantire a tutti l'opportunità di respirare non potete assicurare la moralità e l'uguaglianza attraverso le leggi è necessario un mutamento della coscienza collettiva invece di una costrizione a rispettare la coscienza collettiva i comportamenti come le leggi devono nascere dall'essere devono essere un riflesso fedele di chi siete realmente mentre spesso rispecchiano ciò che i governanti pensano che voi dovreste essere ma non siete insomma i pochi eletti che istruiscono i molti ignoranti esatto e che cosa c'è di male in questo dio se alcuni tra i migliori esaminano i problemi della società e propongono delle soluzioni non fanno il bene di tutti dipende dalle motivazioni e dalla franchezza di chi ha il potere in genere nulla serve di più al bene comune del lasciare che le persone si governino da sole l'anarchia è questo ma non è mai funzionato non potrete crescere ed evolvervi finché avrete un governo che vi dice sempre che cosa fare eppure dio le società senza leggi sono società primitive dove vale soltanto la legge del più forte le regole sono il tentativo dell'uomo di assicurare che prevalga sempre la giustizia indipendentemente dalla forza o dalla debolezza senza un codice di comportamento comune come potremmo coesistere non sto consigliando di creare un mondo privo di codici di comportamento suggerisco soltanto che siano basati su una nozione più alta dell'interesse di ciascuno le vostre leggi ora salvaguardano soltanto gli interessi dei più potenti per esempio dicono che non potete coltivare e fumare la canapa indiana perché non fa bene alla salute ma sostengono che potete adoperare il tabacco non perché faccia bene alla salute ma semplicemente perché lo usate già da molto tempo in realtà una pianta è permessa e l'altra è proibita solo per ragioni economiche vale a dire di potere le norme che stabilite non riflettono ciò che la vostra società desidera essere ma dov'è il potere e qual'è la soluzione avere meno leggi possibile le norme sono soprattutto dei limiti la vera ragione per cui la canapa indiana è proibita è che altrimenti moltissimi grandi produttori di cotone nylon rayon e legname fallirebbero la canapa è uno dei materiali più versatili forti e resistenti che avete a disposizione non esiste una fibra migliore per produrre tessuti cordami e polpa da carta voi abbattete centinaia di migliaia di alberi ogni anno per produrre giornali sui quali leggete che le foreste del mondo stanno sparendo con la canapa si potrebbero produrre milioni di giornali senza abbattere un solo albero a un decimo del costo attuale questo è il punto se questa pianta miracolosa che tra l'altro possiede anche straordinarie proprietà medicinali potesse essere coltivata liberamente molte persone perderebbero denaro questa è la vera ragione per cui la marijuana è illegale in molti paesi allo stesso modo da molti anni possedete la tecnologia necessaria per produrre automobili elettriche per organizzare un'assistenza sanitaria migliore e più economica per impiegare l'energia solare come fonte di energia perché non sfruttate queste opportunità pensate a chi perderebbe denaro se ciò accadesse e avrete la risposta è questa la grande civiltà di cui siete tanto orgogliosi ogni volta che qualcuno menziona il bene comune tutti si mettono a urlare comunismo nella vostra società il bene dei molti è quasi sempre ignorato se non ne deriva un enorme profitto per alcuni dovete domandarvi se l'interesse comune dell'umanità può sostituire quello personale e se sì in che modo gli stati uniti hanno cercato di proteggere gli interessi comuni attraverso le leggi ed hanno miseramente fallito sono la nazione più ricca e potente della terra e hanno uno dei tassi più elevati di mortalità infantile come mai? perché i poveri non possono permettersi un'assistenza sanitaria di qualità e la vostra società è regolata esclusivamente sulla logica del profitto questo è solo un esempio ma la dice lunga su quali siano le priorità nel vostro sistema altri paesi hanno un'attenzione maggiore verso i malati gli indigenti e gli anziani voi producete servizi per i ricchi gli agiati per le persone influenti l'85% dei pensionati americani vive al di sotto della soglia di povertà molti di loro ricorrono alla struttura sanitaria solo in situazioni disperate e non ricevono alcun trattamento preventivo questo perché le persone che hanno poco da spendere garantiscono scarsi profitti e non sono utili a nessuno ecco la vostra grandiosa società eh certo stai dipingendo un quadro molto fosco in realtà l'america ha fatto molto per le classi meno privilegiate sia in patria sia all'estero è vero eppure in proporzione al prodotto interno lordo gli Stati Uniti forniscono ai paesi in via di sviluppo un aiuto molto inferiore a quello offerto dai paesi più piccoli e meno potenti vivete in una società decadente fondata sullo spreco tutti i vostri prodotti sono basati su quella che i tecnici definiscono obsolescenza pianificata le automobili costano tre volte di più di quanto costavano dieci o quindici anni fa e durano tre volte di meno i vestiti spesso sono da buttare via dopo pochi lavaggi approvate che ai calciatori e agli altri sportivi siano pagati stipendi assurdi mentre gli insegnanti e i ricercatori spesso vivono al limite della povertà gettate via ogni giorno più cibo di quanto ne basterebbe per sfamare mezzo mondo questo atteggiamento purtroppo non è tipico solo degli Stati Uniti ma ha preso piede in tutto il pianeta anche nei paesi meno privilegiati mentre i bambini pelle e ossa muoiono tra le braccia delle mamme i politici corrotti fanno in modo che gli aiuti forniti da altri paesi non raggiungano le masse bisognose nessuno sembra avere il potere di cambiare le cose ma la verità è che nessuno sembra avere la volontà di farlo e così sarà sempre finché non imparerete a considerare i bisogni degli altri come vostri ma perché non riusciamo a farlo come mai vediamo tante atrocità eppure permettiamo che tutto continui allo stesso modo perché in realtà non ve ne importa nulla dovete decidere su scala planetaria se davvero vi importa qualcosa degli altri per quale ragione non riusciamo ad amare i membri della nostra famiglia in realtà li amate solo che avete una visione molto limitata della famiglia non vi considerate parte della famiglia umana così i problemi di una gran parte della popolazione non vi appartengono e allora come possiamo eliminare il dolore e la sofferenza annullando la separazione tra voi costruendo un nuovo modello sociale radicalmente diverso da quello presente attualmente vedete il mondo come una serie di nazioni sovrane separate e indipendenti i problemi di questi paesi non sono considerati della collettività almeno finché i loro effetti non arrivano a influenzare tutta l'umanità o almeno i potenti se nessuno degli stati più attorevoli ha nulla da perdere un paese indipendente può andare in rovina e nessuno se ne cura migliaia di persone possono morire di fame o essere uccise nelle guerre civili i dittatori e le loro bande armate possono saccheggiare e violentare spogliando la gente dei diritti umani elementari e tutti gli altri stanno a guardare dicendo oh si tratta di problemi interni ma se le vostre sicurezze i vostri interessi i vostri investimenti sono minacciati allora intervenite immediatamente cercando di trascinare con voi il resto del mondo allora mentite dicendo di aver agito per ragioni umanitarie quando la verità è che state proteggendo i vostri interessi certo la politica del mondo dio è basata sull'interesse personale ma questo non è nulla di nuovo qualcosa dovrà essere nuovo se volete che il mondo cambi dovete ricostruire la vostra realtà globale e creare un sistema di governo che consideri i problemi di qualsiasi gruppo umano come propri vuoi dire un unico governo mondiale esatto capitolo 11 sapevo che avresti parlato di problemi geopolitici ma non credevo che ti saresti spinto tanto oltre è ora che il mondo smetta di ingannarci e si renda conto che l'unico problema dell'umanità è la mancanza d'amore l'amore produce tolleranza e la tolleranza genera pace l'intolleranza invece provoca la guerra e l'indifferenza verso le condizioni altrui l'amore non sa essere indifferente e il modo più immediato di amare tutta l'umanità è vedere ogni popolo e ogni paese come la propria famiglia per fare ciò dovete smettere di separarvi tutti gli stati e le nazioni che compongono il vostro mondo devono unirsi ma abbiamo già le nazioni unite che si sono più volte dimostrate impotenti allora qual è la tua proposta? io non ho proposte offro soltanto delle osservazioni basate su quello che scegliete di voler essere qual è la vostra scelta rispetto ai rapporti fra le persone e le nazioni sul vostro pianeta? beh Dio se fossi io a dover scegliere opterei senz'altro per una società basata sull'amore per l'umanità bene in tal caso il sistema migliore per ottenere tale risultato è la formazione di una nuova comunità politica mondiale in cui ogni stato abbia diritto di parola sui problemi mondiali e possieda una quota proporzionale delle risorse mondiali ma non funzionerà mai gli stati ricchi non cederanno mai la loro sovranità e le loro ricchezze a quelli più poveri e poi perché dovrebbero farlo? perché è nel loro interesse ma io non credo che lo capiscano e in realtà non sono sicuro di capirlo neppure io in America molta gente sostiene che non ha senso spendere per aiutare gli altri paesi mentre in casa nostra i problemi sono sempre maggiori la criminalità impazza l'inflazione priva la gente dei risparmi di una vita la disoccupazione cresce il governo sperpera e le scuole distribuiscono preservativi agli alunni chi sostiene questo è miope non capite che stanziando miliardi di dollari per aiutare i bisognosi provochereste un ritorno enorme sulla vostra economia e che se usaste tale ritorno per nutrire gli affamati vestire i bisognosi e garantire cure una vita dignitosa a tutti le cause della criminalità sparirebbero per sempre non comprendete che quando il denaro comincerà a fluire nella vostra economia i posti di lavoro si moltiplicheranno che il personale addetto al governo potrebbe essere ridotto perché ci sarebbe molto meno da fare beh dio suppongo che alcune di queste cose potrebbero accadere anche se non riesco a immaginare che i governi accetterebbero tagli al personale ma da dove arriverebbero tutti quei miliardi da nuove tasse imposte dal governo mondiale da nuovi balzelli che tolgono denaro a chi ha lavorato duro per darlo a chi è incapace di provvedere a se stesso e aspetta passivamente che ci pensino gli altri molti la vedrebbero in questo modo ne parleremo in modo approfondito più avanti per il momento dirò soltanto che quel denaro non deve necessariamente provenire da nuove tasse anche se in una società illuminata i membri della comunità sarebbero felici di donare spontaneamente il 10% del loro reddito al fine di provvedere ai bisogni collettivi anzi le tasse potrebbero addirittura essere ridotte tutti questi benefici risulterebbero dal mutamento della vostra visione del mondo dal semplice riordino della configurazione politica mondiale e in che modo scusa investendo il denaro che attualmente destinate al mantenimento della macchina bellica ah capisco vuoi eliminare le armi e gli eserciti sì in tutto il mondo ma non completamente basterebbe ridurli in modo drastico gli eserciti dovrebbero soltanto assicurare l'ordine all'interno dei singoli stati potreste rafforzare la polizia e allo stesso tempo ridurre gli stanziamenti destinati alle armi e agli apparati per la distruzione di massa io credo Dio che la tua stima di ciò che si potrebbe risparmiare in questo modo sia eccessiva inoltre penso che non riuscirai mai a convincere le nazioni a ridurre le proprie capacità difensive e allora esaminiamo un po' di cifre in questo momento i governi del mondo spendono un milione di dollari al minuto a scopo bellico le nazioni che spendono di più potrebbero reindirizzare quei soldi verso gli scopi di cui parlavo prima e vedrebbero che ciò è nel loro interesse ma non vogliono ridurre le difese per paura di essere aggredite dai paesi più poveri bramosi di appropriarsi delle loro ricchezze per eliminare questa minaccia ci sono due sistemi il primo è fare in modo che tutti i popoli possano avere una parte consistente della ricchezza mondiale così che nessuno abbia bisogno dei beni altrui il secondo è creare un sistema per sanare le discordie in modo da eliminare la necessità e perfino la possibilità della guerra oh ma la gente non lo farà mai l'ha già fatto davvero e quando è un grande esperimento politico che è ancora in corso ed è noto col nome di Stati Uniti d'America ma prima non hai detto che si tratta di un fallimento in senso assoluto lo è ma è il migliore esperimento in corso la tua nazione è stata la prima a trasformare con successo una confederazione libera di stati sovrani in un gruppo compatto e sottomesso ad un'autorità centrale all'inizio nessuno stato voleva accettare l'accordo tutti temevano di perdere la propria individualità e sostenevano che l'unione non avrebbe fatto gli interessi di nessuno si erano uniti in una confederazione inadeguata priva di un governo centrale incaricato di far rispettare le regole che tutti gli stati avevano sottoscritto ogni stato conduceva la propria politica estera firmando accordi commerciali con la Francia la Spagna l'Inghilterra e altri paesi inoltre commerciavano anche tra loro e malgrado la confederazione lo proibisse alcuni applicavano forti tassazioni alle merci provenienti dagli altri stati esattamente come se provenissero da oltreoceano esisteva un divieto per quel tipo di tasse ma poiché non c'era un governo centrale che lo facesse rispettare i commercianti non avevano altra scelta che pagare inoltre ogni stato aveva il proprio esercito nove avevano anche una propria marina militare e a volte entravano in guerra fra di loro la metà degli stati batteva moneta propria benché la confederazione avesse proibito anche questo in breve nonostante fossero uniti in una confederazione gli stati americani agivano esattamente come fanno oggi le nazioni indipendenti benché vedessero che gli accordi confederati non funzionavano si apponevano all'idea di creare un'autorità centrale che agisse in merito col passare del tempo tuttavia alcuni leader riuscirono a convincere la gente che creando una nuova confederazione ci sarebbe stato più da guadagnare che da perdere gli uomini d'affari avrebbero non solo risparmiato ma anche aumentato i profitti perché i singoli stati non avrebbero più potuto tassare le merci degli altri anche i governi avrebbero avuto margini di guadagno e avrebbero potuto dedicare allo sviluppo tutte le risorse che prima erano impiegate a proteggersi dagli stati confinanti la popolazione sarebbe stata più ricca e più sicura cooperando invece che combattendo e questo è esattamente ciò che è accaduto lo stesso potrebbe succedere con le 160 nazioni che compongono il mondo contemporaneo se riuscissero a raggrupparsi in una federazione ciò potrebbe davvero rappresentare la fine di tutte le guerre e come prima o poi nascerebbero senz'altro delle discordie certo almeno finché gli uomini resteranno attaccati alle cose materiali c'è un modo per eliminare la guerra e qualsiasi inquietudine ma si tratta di una soluzione spirituale mentre noi stiamo parlando di una realtà geopolitica il punto è saper combinare queste due soluzioni per cambiare l'esperienza della vita quotidiana la verità spirituale deve essere esperita nella pratica finché non avverrà questo cambiamento ci saranno sempre delle discordie e in questo hai ragione ma non necessariamente anche conflitti e decidi ci sono guerre tra la California e l'Oregon per l'acqua o tra il Maryland e la Virginia per i diritti di pesca no e perché non ci sono mai state discordie tra quegli stati sì penso di sì oh puoi scommetterci ma si sono accordati volontariamente per regolarsi secondo determinate leggi sui problemi comuni mantenendo il diritto di approvare decreti separati per i problemi specifici di ciascuno stato quando sorgono dispute tra due stati il problema è trattato da una corte cui entrambi i contendenti conferiscono l'autorità di risolvere la disputa se nemmeno così è possibile risolvere il disaccordo i stati inviano dei rappresentanti al governo centrale per trovare se non una soluzione almeno un ragionevole compromesso è così che funziona la vostra federazione certo il sistema ha urgente bisogno di essere migliorato ma ha funzionato per più di 200 anni ma Dio se è così semplice perché nessuno ci ha provato ci sono stati dei tentativi la Lega delle Nazioni è stata tra i primi le Nazioni Unite è l'ultimo ma uno è fallito e l'altro ha avuto un successo minimo perché i membri hanno paura di avere più da perdere che da guadagnare accettando una riconfigurazione mondiale i paesi ricchi sanno che un tale accordo produrrebbe un aumento di reddito per quelli poveri e temono di doverlo pagare a proprie spese e non è una paura giustificata dopo aver lottato tanto per raggiungere ciò che hanno innanzitutto non è necessario rinunciare al proprio benessere per dare di più a coloro che non hanno di che sfamarsi come ho già detto basterebbe utilizzare a tale scopo l'infinità di miliardi che il mondo spende ogni anno per scopi militari certo si potrebbe obiettare che tutti coloro i cui profitti sono basati sulla guerra perderebbero denaro e lavoro ma bisogna anche pensare che se il progresso del mondo dipende dai conflitti forse c'è qualcosa da riconsiderare questa dipendenza spiegherebbe come mai il vostro sistema resista ad ogni tentativo di creare una pace durevole per quanto riguarda la seconda parte della tua domanda voler mantenere ciò che hai combattuto a lungo per conquistare è ragionevole soltanto dal punto di vista del mondo esterno che cosa? se trai felicità da esperienze ottenibili soltanto nel mondo esterno ossia nel mondo fisico al di fuori di te non vorrai mai regalare neppure un grammo di ciò che hai accumulato allo stesso modo anche i poveri saranno in trappola finché penseranno che la loro infelicità sia il risultato della mancanza di beni materiali vorranno ciò che hanno i ricchi i quali a loro volta rifiuderanno di dividere ciò che possiedono per questo ho detto che l'unica via per eliminare definitivamente la guerra è spirituale qualunque problema planetario o personale è spirituale quindi deve esserlo anche la soluzione le guerre scoppiano perché qualcuno ha qualcosa che un altro desidera tutti i conflitti sorgono da un desiderio mal riposto l'unica pace durevole è la pace interiore quando la trovi scopri di non avere più bisogno delle contingenze del mondo esterno e ciò è una grande libertà innanzitutto dalla paura che esista qualcosa che non puoi avere ma anche dal timore di perdere ciò che hai e di essere infelice per questo inoltre ti libera dalla rabbia che è paura espressa se non hai niente da temere non hai ragione di provare rabbia quando non riesci ad avere ciò che vuoi non te la prendi perché il tuo desiderio è soltanto una preferenza non più un'esigenza quindi non hai paura di non ottenerlo e dalla mancanza di timore deriva l'assenza di ira non ti arrabbi quando gli altri non fanno ciò che desideri perché non hai bisogno che facciano o non facciano una determinata cosa non ti arrabbi quando qualcuno non è gentile con te perché non hai bisogno di essere trattato gentilmente non ti arrabbi se una persona è crudele con te o cerca di farti del male perché sai che non puoi essere danneggiato non ti arrabbi neppure se qualcuno cerca di ucciderti perché non temi la morte quando trovi la pace interiore la presenza o l'assenza di una persona di un oggetto di un luogo o una situazione non possono influenzare il tuo stato mentale o essere la causa della tua esperienza dell'essere ciò non significa rifiutare le esperienze corporee che anzi diventano deliziose come mai prima ma la tua partecipazione interiore è spontanea non forciata non hai più bisogno di provarle per sentirti felice o per giustificare la tristezza questo semplice cambiamento cercare e trovare la pace interiore può essere intrapreso da chiunque e permetterebbe di eliminare le guerre le ingiustizie portando nel mondo una pace infinita non esiste altra soluzione la pace nel mondo è un fatto personale non c'è bisogno di un cambiamento di circostanze ma di un cambiamento di coscienza ma Dio come possiamo trovare pace in noi se soffriamo il freddo e la fame o non provare rabbia quando vediamo morire senza ragione le persone che amiamo tu parli in modo molto poetico ma la poesia ha un valore pratico che cosa da dire la poesia alla madre etiope che vede il suo bambino morire per mancanza di cibo o all'uomo dell'america latina che muore crivellato di proiettili per aver cercato di fermare i soldati che volevano distruggere il suo villaggio o alla donna di Brooklyn violentata da un'intera banda o alla famiglia irlandese decimata da una bomba esplosa in chiesa la domenica mattina anche se è difficile da accettare io ti dico questo c'è perfezione in ogni cosa sforzati di vederla questo è il cambiamento di coscienza desidera tutto non mancare di nulla cogli tutto ciò che si manifesta vivi i tuoi sentimenti piangi ridi onora la tua verità ma quando le emozioni passano resta immobile e sappi che io sono dio in altre parole vedi la gloria anche nella tragedia anche mentre muori con un proiettile nel petto o mentre vieni malmenato so che sembra impossibile eppure se riuscirai a raggiungere la consapevolezza di dio ce la farai naturalmente non sei obbligato dipende da come preferisci sperimentare quel momento in un frangente terribile bisogna mettere a tacere la mente ed entrare profondamente nell'anima voi tutti lo fate automaticamente quando non avete il controllo della situazione hai mai parlato con qualcuno che è uscito di strada con la macchina o che si è trovato a fissare la canna di una pistola ti dirà che il tempo ha rallentato e di essere stato invaso da una calma strana che non lasciava spazio alla paura non temere io sono con te questo è ciò che la poesia ha da dire a chi si trova ad affrontare una tragedia nei momenti più bui io sarò la vostra luce il vostro conforto la vostra forza perciò abbiate fede perché io sono il vostro pastore nulla vi può mancare sui pascoli erbosi vi faccio riposare in acque tranquille vi conduco ristoro la vostra anima e vi guido lungo il giusto cammino per amore del mio nome e anche se camminate lungo la valle dell'ombra della morte non temete alcun male perché io sono con voi il mio bastone vi sosterrà preparo una mensa davanti a voi sotto gli occhi dei vostri nemici cospargo d'olio il vostro capo il vostro calice tra bocca felicità e grazia vi saranno compagne per tutti i giorni della vostra vita e dimorerete nella mia casa nel mio cuore per l'eternità capitolo 12 ciò che hai appena detto è meraviglioso come vorrei che il mondo riuscisse a comprenderlo e a crederci tu stai facendo la tua parte per tentare di sviluppare la coscienza collettiva è ciò che dovranno fare tutti possiamo passare ora ad un altro argomento credo sia importante parlare dell'opinione largamente diffusa secondo cui i poveri ricevono già abbastanza quindi bisogna smettere di tassare i ricchi che hanno lavorato duro per dare ai più bisognosi molti credono che i poveri siano tali perché vogliono esserlo non cercano neppure di uscire da questa condizione e si limitano a succhiare i sussidi statali invece di assumersi la responsabilità della propria vita le persone che propugnano questa idea credono nel detto ognuno per sé e se si fa loro notare che è un punto di vista spietato ribattono che le opportunità bussano alla porta di tutti se ce l'hanno fatta loro sostengono può riuscirci chiunque e se qualcuno non ce la fa è soltanto colpa sua a te questo sembra un atteggiamento ingrato e arrogante non è così? sì Dio ma tu cosa ne pensi? io non giudico si tratta semplicemente di un atteggiamento l'aspetto rilevante in questo come in ogni altro pensiero è se vi è utile adottarlo vi serve tenendo conto di chi siete e di chi volete essere? questa è la domanda che dovete porvi ci sono uomini nati in situazioni che voi definireste svantaggiose questo è vero ma dal punto di vista metafisico nessuno è svantaggiato perché ogni anima crea gli eventi e le circostanze per ottenere ciò che desidera voi scegliete ogni cosa i genitori il paese di nascita e nel corso della vita continuate a scegliere in modo da offrirvi le opportunità per conoscervi come realmente siete in altre parole nei termini di ciò che l'anima vuole realizzare nessuno è svantaggiato per esempio l'anima può desiderare di esistere in un corpo handicappato o in una società repressiva per produrre le condizioni necessarie a portare a termine ciò che ha deciso di fare in quella vita le persone affrontano difficoltà materiali ma in senso metafisico non esistono svantaggi ma allora Dio noi dobbiamo cercare di aiutare più svantaggiati o vederli semplicemente come ciò che hanno scelto di essere quindi permettere loro di seguire il proprio karma questa è un'ottima domanda innanzitutto ricorda che qualunque frase e azione sono un riflesso di ciò che hai deciso su te stesso ribadisco questo punto perché è l'unica cosa che state facendo qui l'anima non ha altri programmi state cercando di essere di sperimentare chi siete realmente e vi create in ogni momento dell'eterno presente quando vi imbattete in una persona che in termini relativi appare svantaggiata dovete chiedervi chi sono e chi scelgo di essere di fronte a questa situazione ogni volta che incontrate qualcuno in qualsiasi circostanza dovreste sempre domandarvi come volete agire in quel particolare frangente e non che cosa vuole fare l'altro è un'affermazione interessante ma va contro tutto ciò che mi è stato insegnato lo so ma il motivo per cui i vostri rapporti sono così difficili è che invece di chiedervi che cosa desiderate voi cercate continuamente di capire cosa vogliono gli altri poi dovete decidere se dare loro ciò che cercano o no e di solito operate una scelta sulla base di ciò che potrebbero darvi in cambio se non c'è qualcosa che vi interessa non c'è ragione per soddisfare le loro richieste ma se volete o pensate di volere in futuro qualcosa da loro entra in gioco l'istinto di sopravvivenza e vi impegnate a dare loro ciò che vogliono è un equilibrio delicato basato sul vecchio detto se tu dai una cosa a me io darò una cosa a te eppure lo scopo delle relazioni sacre individuali o collettive è totalmente diverso non è cercare di capire che cosa desiderano o di che cosa hanno bisogno gli altri ma domandarvi che cosa volete o di che cosa necessitate per crescere e diventare chi volete essere per questo ho creato i rapporti perché possiate ricrearvi e giungere a sapere chi siete realmente a tal fine vi ho fornito di numero 1 relatività un sistema in cui potete esistere come individui separati in rapporto a qualcos'altro numero 2 oblio un processo per cui vi sottoponete volontariamente a un'amnesia totale in modo da non ricordare che la relatività è soltanto un trucco e che siete tutto ciò che esiste numero 3 coscienza uno stato dell'essere in cui crescere fino a raggiungere la piena consapevolezza diventando veri dei viventi capaci di modellare e sperimentare la realtà cambiandola e ricreandola a mano a mano che allargate i limiti della coscienza fino a raggiungere una condizione priva di limiti in questo senso la coscienza è tutto ciò di cui siete realmente consapevoli è la base di ogni verità quindi di ogni vera spiritualità ma Dio che senso ha tutto ciò ci fai dimenticare chi siamo solo perché poi possiamo ricordarlo non esattamente lo faccio perché possiate decidere chi siete e chi volete essere questo è Dio io sono io attraverso voi questo è il senso della vita attraverso di voi io sperimento chi e che cosa sono senza di voi potrei saperlo ma non esperirlo sapere sperimentare sono due cose diverse e la seconda è estremamente importante ma Dio mi pare che abbiamo perso di vista la mia domanda te l'ho detto è difficile mantenere Dio su un solo argomento in ogni modo per tornare alla questione dei meno fortunati prima di tutto decidete chi siete in relazione a loro poi se decidete di agire con amore e compassione chiedetevi come è meglio farlo e notate che il vostro comportamento non dipende da ciò che gli altri sono o fanno a volte per esempio il modo migliore di amare qualcuno e lasciarlo solo oppure aiutarlo ad aiutarsi ricordate che il più grande sostegno che possiate offrire agli altri è svegliare la loro coscienza ricordando loro chi sono realmente a volte è necessaria una piccola spinta altre è meglio lasciare che seguano il loro cammino senza interferire questa per esempio è una scelta che fa soffrire tutti i genitori la cosa migliore che possiate fare per i meno fortunati e non considerarli tali altrimenti anche loro si vedranno così Gesù ci ha insegnato a vedere ognuno per ciò che è rifiutando di credere alle apparenze a rispettare le scelte altrui a non chiedere di abbracciare le sue idee offrendole solo come un invito Cristo era compassionevole e se qualcuno sceglieva di vedersi come un essere bisognoso di aiuto lui non glielo rifiutava ma gli permetteva di amare la propria realtà assistendolo con amore perché sapeva che a volte la via più breve per scoprire chi sei è capire chi non sei Gesù non negava il suo conforto a nessuno se alcuni cercavano l'illuminazione dava loro la forza il coraggio e la saggezza per raggiungere lo stadio successivo li incoraggiava a seguire il suo esempio e se non potevano fare altro chiedeva solo di credere in lui molti hanno avuto fede e ancora oggi Gesù aiuta tutti coloro che invocano il suo nome perché la sua anima è impegnata a risvegliare chi vuole vivere in me Cristo aveva misericordia di coloro che non credevano in lui e per questo ha sempre rifiutato di giudicare come suo padre Gesù sapeva che aiutare gli altri dando loro ciò che chiedevano invece di ciò che lui voleva offrire significava dare loro il potere che erano pronti a ricevere così hanno fatto e fanno tutti i grandi maestri spirituali ora Dio io sono un po' confuso allora a volte offrire sostegno ostacola la crescita dell'altro invece di favorirla proprio così ciò accade quando l'aiuto è dato in modo da creare dipendenza invece che una rapida autonomia quando permettete a un altro in nome della compassione di contare su di voi invece che su se stesso è una distinzione molto sottile e a volte non sapete neppure di star creando una dipendenza perché siete sinceramente convinti di star facendo del vostro meglio per aiutare un'altra persona ma analizzatevi sempre per essere certi di non tentare semplicemente di assumere un valore perché quando permettete ad altri di considerarvi responsabili per loro lasciate che vi considerino potenti e ciò vi fa sentire importanti un tale genere di aiuto è una sorta di placebo per i deboli mentre lo scopo è sostenerli perché diventino forti questo è il problema di molti programmi assistenziali governativi che spesso mirano più a giustificare la propria esistenza che ad alleviare i disagi dei diseredati coloro che comandano sanno che l'aiuto conferisce potere per questo offrono ampia assistenza perché più persone aiutano più persone aiuteranno loro allora Dio non deve esserci una ridistribuzione della ricchezza il manifesto del partito comunista è opera del diavolo ribadisco che satana non esiste ma capisco che cosa vuoi dire l'idea di prendere da ciascuno secondo le sue possibilità e dare a ciascuno secondo i suoi bisogni è di per sé bellissima è come dire sarai il sostegno di tuo fratello è la messa in atto della teoria che può diventare orribile la divisione equa dei beni deve essere una scelta volontaria non un'imposizione ma allora Dio siamo sempre allo stesso punto il governo nelle sue forme migliori è espressione del popolo e impone che ognuno divida con gli altri ciò che ha perché altrimenti come dimostra la storia chi ha di più non spartirebbe mai i suoi beni con chi è meno fortunato i contadini russi avrebbero potuto aspettare fino al giorno del giudizio che la nobiltà ridistribuisce le sue ricchecce accumulate in gran parte proprio sfruttando chi coltivava le terre dalla consapevolezza che i privilegiati non avrebbero mai dato qualcosa spontaneamente nacque prima la rivoluzione poi un governo in grado di assicurare che tutti fossero trattati equamente è l'atteggiamento menefreghista dei ricchi che portò Maria Antonietta a dire non hanno pane allora date loro delle brioche a provocare le rivoluzioni e la nascita di regimi totalitari i governi che prendono ai ricchi per dare ai poveri sono ritenuti dittature ma sono quelli che non fanno nulla per evitare che i più abbienti sfruttino i miserabili a essere repressivi pensa ai contadini messicani il Messico è nelle mani di non più di 20 o 30 famiglie mentre 20 o 30 milioni di persone vivono in completa povertà così all'inizio del 1994 i contadini hanno organizzato una rivolta per costringere il governo ad aiutare la popolazione a vivere dignitosamente i governi creati dalla gente per la gente non sono stati pensati come rimedio all'egoismo di chi ha di più non è questa la causa delle leggi contro gli sfratti o il lavoro minorile come possiamo conciliare l'avversione al controllo esercitato sulla nostra vita e l'incapacità di fare qualsiasi cosa per gli altri se non siamo obbligati per esempio prima che il governo costringesse i proprietari delle miniere ad assicurare condizioni migliori i minatori lavoravano in circostanze terribili perché allora non è successo prima spontaneamente perché avrebbe inciso sui loro profitti se non fosse stato imposto il salario minimo le aziende avrebbero continuato a pagare salari da schiavi certo quelli che vorrebbero tornare ai bevecchi tempi diranno e allora almeno davano lavoro a tanta gente chi si assume tutti i rischi in fin dei conti il lavoratore no l'imprenditore quindi è giusto che abbia anche i profitti maggiori e quando un governo eletto dalla gente si muove per risolvere problemi che i ricchi e i potenti rifiutano di affrontare viene definito oppressivo questo è evidente nella questione dell'assistenza medica nel 1992 il presidente degli stati uniti e sua moglie decisero che era ingiusto che milioni di americani non avessero accesso all'assistenza sanitaria ne nacque un dibattito che riguardò anche la stessa professione medica e le assicurazioni il punto non è decidere se la soluzione migliore fosse quella del governo o quella dell'industria privata ma perché le aziende non avevano mai avanzato proposta in merito è semplice perché non erano obbligate a farlo nessuno si lamentava e gli industriali non avevano motivo di ridurre i propri profitti per migliorare l'assistenza sanitaria dei dipendenti profitti profitti e profitti si lamentiamo tanto dei nostri governi ma la verità è che forniscono vie d'uscita a problemi che il privato è deciso ad ignorare possiamo anche dire che le autorità lavorano contro i desideri della popolazione ma i governi eletti dal popolo come per esempio quello degli Stati Uniti d'America continueranno a cercare e trovare soluzioni ai problemi sociali perché i più non sono ricchi e potenti quindi appoggiano leggi e governi che garantiscano ciò che la società non darebbe mai spontaneamente solo nei paesi in cui il governo è controllato da una minoranza si fa poco o nulla contro le ingiustizie ma come decidere quando un governo agisce troppo o troppo poco? ehi non ti avevo mai sentito parlare tanto beh Dio avevi detto che in questo libro avresti trattato questioni di grande importanza per l'umanità mi sembra di averne appena affrontata una e con molta eloquenza devo dire è un problema che tanti hanno cercato di risolvere da Toynbee a Jefferson a Marx già e qual è la tua soluzione Dio? Ti ripeto che io non propongo soluzioni perché non considero nessuna situazione problematica tutto è com'è e io non ho preferenze in merito mi limito a descrivere ciò che è evidente che chiunque può vedere con i suoi occhi D'accordo ma allora potresti offrirmi qualche osservazione? Sì il mondo è ancora lontano dal concepire un sistema di governo capace di fornire una soluzione globale benché gli Stati Uniti siano la nazione che finora è arrivata più vicina a questo obiettivo la difficoltà risiede nel fatto che equità e bontà sono problemi morali e non politici i governi sono il tentativo umano di assicurare a tutti un trattamento giusto ma la correttezza e l'amore possono nascere solo nel cuore nella mente e nell'anima dell'uomo non si può raggiungere la moralità per mezzo delle leggi sarebbe assurdo promulgare un decreto che ordini a tutti di amarsi l'un l'altro abbiamo già affrontato questo argomento ma non importa se mi ripeto l'importante è cercare di arrivare al nocciolo del problema allora Dio ti pongo la stessa domanda le leggi non sono solo il tentativo dell'uomo di codificare dei concetti morali non rappresentano il compromesso comune su ciò che è giusto e ciò che non lo è esatto e alcune norme sono necessarie nella vostra società primitiva vi trovate ancora a dover risolvere questioni semplicissime dovete fermarvi prima di attraversare la strada dovete comprare e vendere secondo certi termini sono necessarie alcune restrizioni nel comportamento con gli altri ma in realtà anche le leggi più elementari che proibiscono di uccidere danneggiare truffare o attraversare col rosso non sarebbero necessarie se seguiste la legge dell'amore vale a dire la legge di Dio avete bisogno di un'evoluzione della coscienza non dei governi insomma Dio se ci limitassimo a seguire i comandamenti andrebbe tutto benissimo come ho già spiegato nel primo volume non esiste alcun comandamento la legge di Dio non è una legge io non ordino e non chiedo molti non crederanno a quest'ultima affermazione consiglia loro di leggere il libro precedente dove è spiegato tutto ma ciò che suggerisci al mondo non è forse l'anarchia totale io non suggerisco osservo e non mi sembra che l'anarchia cioè l'assenza di limiti e regole possa funzionare in una società poco avanzata come quella umana è necessario che stabiliate delle regole almeno finché non vi evolverete fino al punto di fare spontaneamente ciò che è naturalmente giusto perché i governi impongono tante norme e limiti la risposta risiede nella vostra coscienza separata vale a dire Dio il fatto che ci consideriamo separati gli uni dagli altri sì esattamente ma se non siamo separati allora siamo uno il che rende responsabili gli uni degli altri esatto ma questo non ci impedisce di raggiungere le mete individuali più alte se sono responsabile per tutti gli altri allora il manifesto del partito comunista aveva ragione infatti è un'idea molto nobile ma la sua nobiltà scompare quando viene fatta rispettare con la forza il problema del comunismo non è la teoria ma la sua attuazione infatti molti sostengono che bisognava farla rispettare con la forza perché andava contro la natura umana è proprio questo il punto bisogna cambiare la natura dell'uomo è su quello che dovete lavorare per giungere al cambiamento di coscienza sì esattamente ma questo non toglierebbe potere all'individuo se i bisogni primari di ogni persona sul pianeta fossero soddisfatti se la maggior parte della gente potesse vivere senza dover lottare per vivere non si aprirebbe all'umanità la via verso mete più nobili credi davvero che garantire l'esistenza a tutti sopprimerebbe la grandezza individuale e che genere di grandezza è quella ottenuta a spese degli altri se i ricchi dicono di non voler aiutare gli affamati e i senza casa per non privarli del diritto di provvedere a se stessi sono degli ipocriti l'evoluzione di una società si misura da come tratta i suoi membri più deboli la meta come ho detto è trovare il giusto equilibrio tra un vero aiuto e un aiuto che danneggia quando siete in dubbio sbagliate sempre per eccesso di compassione per capire se state aiutando danneggiando qualcuno chiedetevi se grazie al vostro sostegno la persona o le persone in questione risultano più forti o più deboli più o meno capaci ma Dio si dice che se un individuo riceve tutto ciò di cui ha bisogno sarà meno propenso a lavorare per procurarselo e perché una persona deve essere obbligata a lavorare una vita dignitosa non è un diritto di tutti fin dalla nascita o almeno non dovrebbe esserlo se si cerca più della sussistenza più cibo case più grandi vestiti più belli beh allora è giusto lavorare per ottenerlo ma perché molti devono lottare semplicemente per vivere su un pianeta dove c'è più che abbondanza per tutti non si tratta di rendere tutti uguali ma di garantire a ciascuno un'esistenza dignitosa in modo che possa scegliere liberamente se vuole qualcosa in più molti sostengono che alcune persone non si servirebbero di quella possibilità neppure se la ricevessero gratis questo è vero e solleva un'altra domanda è giusto offrire altre opportunità a chi non le sfrutta beh Dio io dico di no se io avessi avuto questo atteggiamento sareste tutti perduti nel mondo di Dio la compassione e la pazienza non hanno mai fine solo in quello dell'uomo la bontà è limitata nel mio è infinita anche se non la meritiamo la meritate sempre anche se la rifiutiamo soprattutto allora se qualcuno ti schiaffeggia porgi l'altra guancia se un uomo ti chiede di accompagnarlo per un chilometro accompagnalo per due quando rifiutate la mia bontà rinfacciandomela lo so che si tratta di un errore dovuto al fatto che non sapete ciò che è nel vostro interesse e ho compassione perché il vostro sbaglio è basato sull'ignoranza non sulla cattiveria ma Dio alcuni di noi sono intrinsecamente malvagi chi te l'ha detto è una mia osservazione allora la tua visione non è corretta ti ripeto che nessuno fa niente di male secondo il proprio modello di mondo in altre parole ognuno fa del suo meglio in ogni momento le azioni di una persona dipendono dai dati che ha a disposizione ma Dio quando qualcuno ci danneggia ci ferisce o ci uccide per raggiungere i propri fini non è malvagio? anche a questo ho già risposto ogni attacco è una richiesta d'aiuto nessuno desidera davvero fare del male agli altri coloro che lo fanno compresi i vostri governi sono spinti dall'idea errata che sia l'unico modo per ottenere ciò che vogliono la soluzione a questo problema è che non vogliate nulla che abbiate preferenze e non bisogni ma questo è uno stato di coscienza molto elevato proprio dei maestri dimmi perché non cooperate per soddisfare i bisogni fondamentali di tutti? stiamo cercando di farlo è il massimo che puoi dire dopo migliaia di anni di storia umana? il fatto è che vi siete voluti ben poco e operate ancora sulla base di una mentalità primitiva quella dell'ognuno per sé saccheggiate e violentate la terra sfruttate le sue risorse e le sue popolazioni e tutto questo soltanto perché avete sviluppato uno stile di vita che non potete sostenere altrimenti dovete abbattere milioni di alberi ogni anno altrimenti non potreste leggere i giornali distruggere lo strato di ozono che circonda il vostro pianeta altrimenti non avreste deodoranti e lacche per capelli dovete inquinare in modo irreversibile mari e fiumi altrimenti le industrie non potrebbero produrre sempre di più dovete sfruttare i più sfortunati tra voi altrimenti non potreste vivere nel lusso infine dovete negare di star facendo tutto questo altrimenti non potreste vivere con voi stessi non siete disposti a fare vostro il motto vivi semplicemente in modo che gli altri possano semplicemente vivere dopo tutto avete lavorato tanto per ottenere ciò che avete figuriamoci se siete disposti a rinunciarci e non vi importa se il resto della razza umana compresi i figli dei vostri figli dovrà soffrire per questo voi avete fatto ciò che potevate per vivere per arrivare e loro possono fare altrettanto no? esiste Dio un modo per sfuggire a questa trappola? sì lo ripeterò ancora una volta un cambiamento di coscienza non potete risolvere i problemi che affliggono l'umanità con i mezzi politici ci avete provato per migliaia di anni in vano il mutamento che deve avvenire potrà verificarsi soltanto nel cuore degli uomini potresti riassumere questo cambiamento in una frase sola? dovete smettere di considerare Dio separato da voi e voi separati dagli altri nell'universo nulla è diviso da tutto il resto ogni cosa è connessa alle altre come parte interdipendente interattiva del tessuto della vita ogni governo ogni politica devono essere basati su questa verità questa è l'unica speranza per il vostro pianeta come funziona la legge dell'amore di cui parlavi prima? l'amore dà tutto e non chiede nulla ma come possiamo non chiedere nulla? se ognuno di voi desse tutto che cosa vi resterebbe da chiedere? l'unico motivo per cui chiedete è che qualcuno non dà smettete di non dare però Dio questo funzionerebbe solo se lo facessimo tutti infatti è necessaria una coscienza collettiva ma d'altra parte in che modo possiamo provocare un tale cambiamento? qualcuno deve pure iniziare questa è la tua opportunità tu puoi essere la fonte di questa nuova coscienza puoi esserne l'ispiratore anzi devi esserlo proprio io non sto forse parlando con te? capitolo 13 Dio come posso iniziare? sii una luce per il mondo e non danneggiarlo cerca di costruire non distruggere riporta a casa la mia gente e come? con il tuo esempio cerca il divino di la verità agisci con amore vivi con la legge dell'amore ora è sempre dai tutto e non chiedere mai non accettare l'inaccettabile insegna la mia parola a chiunque voglia conoscerla rendi ogni istante della tua vita un dono d'amore usa ogni momento per pensare il pensiero più elevato per dire la parola migliore ed eseguire l'azione più alta così facendo glorifichi il tuo sacro io quindi glorifichi me porta la pace sulla terra e offrila a tutti coloro le cui vite toccano la tua sii la pace senti ed esprimi in ogni momento il tuo legame divino con il tutto con ogni persona luogo o oggetto non sfuggire le circostanze assumiti tutte le colpe dividi tutte le gioie contempla ogni mistero perdona ogni offesa comprese le tue guarisci ogni cuore rispetta la verità di ognuno onora il dio di ogni persona proteggi i diritti e la dignità di tutti promuovi gli interessi di ciascuno provvedi ai bisogni di chiunque vedi la santità in tutti sii un esempio vivente della verità più elevata che risiede in te parla umilmente di te stesso per evitare che la tua verità sia scambiata per vanteria parla piano perché qualcuno non pensi che vuoi soltanto attirare l'attenzione parla gentilmente in modo che tutti possano conoscere l'amore parla pubblicamente perché qualcuno non pensi che hai qualcosa da nascondere parla con franchezza in modo da farti sempre comprendere parla spesso così che la tua parola possa penetrare davvero parla con rispetto per non offendere mai qualcuno parla con amore in modo che ogni sillaba possa risanare parla di me con ogni parola che pronunci rendi la tua vita un dono ricorda sempre che tu sei il dono e tale devi essere per tutte le persone che ti circondano non entrare nella vita di qualcuno se non riesci a essere un dono lo sei sempre ma a volte non ne sei consapevole quando qualcuno entra inaspettatamente nella tua vita cerca di capire quale dono è venuto a ricevere da te oddio che modo straordinario di dirlo per quale altra ragione una persona dovrebbe venire da te se non per ricevere un regalo e così facendo ti ha fatto a sua volta un dono quello di permetterti di comprendere e realizzare chi sei se capisci questa semplice verità scoprirai la più grande verità io vi mando soltanto angeli capitolo 14 sono confuso mio dio prima hai sostenuto che a volte il modo migliore di aiutare qualcuno è lasciarlo in pace poi hai detto che non dobbiamo mai rifiutare il nostro supporto a chi ne ha bisogno non c'è una contraddizione tra queste due affermazioni chiariamo subito non offrire mai il tipo di aiuto che toglie potere e non insistere nell'offrire il sostegno di cui tu pensi che l'altro abbia necessità lascia che le persone vedano tutto ciò che hai da dare poi ascolta ciò che vogliono e ciò che sono pronte a ricevere offri l'aiuto che ti viene richiesto a volte qualcuno ti dirà o ti farà capire con il suo comportamento che vuole soltanto essere lasciato in pace in tal caso nonostante tutto ciò che ti piacerebbe dare il più grande regalo che puoi fare a quella persona è onorare la sua volontà stai sempre attento a non dare qualcosa che tolga forza e provochi dipendenza in verità c'è sempre un modo di aiutare che conferisce potere invece di toglierlo ma non devi ignorare le richieste di aiuto perché fare troppo poco è come fare troppo se vuoi sviluppare una coscienza elevata non puoi lasciare che gli altri cuociano nel loro brodo sostenendo che quello è il dono più prezioso che tu possa fare loro si tratta di un atteggiamento di superiorità e arroganza che serve soltanto a giustificare il tuo rifiuto di essere partecipe come ha spiegato Gesù dirò alle anime alla mia destra venite figli miei siate gli eredi del regno che ho preparato per voi poiché avevo fame e mi avete nutrito avevo sete e mi avete dato da bere ero senza tetto e mi avete trovato una casa ero nudo e mi avete vestito ero malato e mi avete visitato ero in prigione e mi avete portato conforto e loro diranno signore quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo nutrito quando avevi sete e ti abbiamo dato da bere quando abbiamo visto te in prigione e ti abbiamo confortato e io risponderò in verità in verità vi dico tutto ciò che avete fatto per l'ultimo dei miei fratelli lo avete fatto a me questa è la mia immutabile ed eterna verità capitolo 15 Dio io ti amo lo sai sì e io amo te capitolo 16 visto che stiamo parlando di questioni planetarie vorrei farti qualche domanda sull'ambiente è vero che lo stiamo distruggendo o si tratta semplicemente delle fantasie di un gruppo di verdi fuori di testa la risposta a entrambe le tue domande è sì che cosa scherzo rispondo sì alla prima domanda e no alla seconda quindi lo strato di ozono si è davvero assottigliato e le foreste pluviali sono in via di sparizione sì ma non si tratta solo di questi effetti tra i più evidenti ci sono altri problemi importanti anche se meno ovvi per esempio sul vostro pianeta cominciano a scarseggiare le terre coltivabili ciò accade perché il terreno ha bisogno di tempo per rigenerarsi mentre le vostre aziende agricole non vogliono aspettare vogliono che la terra produca 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 perciò la pratica millenaria di alternare le colture è stata abbandonata ricorrendo ad agenti chimici per rendere velocemente fertile la terra il risultato è che lo strato di terreno nutritivo è sempre più sottile arrivando in alcuni luoghi addirittura a uno spessore di pochi centimetri in altre parole state coltivando i vostri cibi su terreni sempre più poveri di ferro e sostanze minerali inoltre i prodotti che mangiate sono pieni di fertilizzanti chimici i danni prodotti al vostro corpo non sono visibili a breve termine ma alla lunga ne scoprirete gli effetti il problema dell'erosione del suolo benché ignoto alla massa non è un parto della fantasia di alcuni ambientalisti visionari è una questione di vastissime proporzioni ed è solo uno tra molti esempi di come state danneggiando ed esaurendo vostra madre la terra che vi dà la vita senza tenere in alcun conto i suoi bisogni e i processi naturali vi interessa soltanto soddisfare le vostre passioni saziare i vostri appetiti spesso esagerati e inseguire il desiderio di avere sempre di più e allora Dio perché non ascoltiamo gli ecologisti perché non prestiamo attenzione ai loro segnali d'allarme come per tutte le altre questioni che riguardano lo stile di vita sulla terra c'è una tendenza evidente ad accumulare sempre maggiori ricchezze e allora come possiamo sperare di risolvere questi problemi se dobbiamo combattere contro insidie del genere è semplice eliminate il denaro eliminare il denaro sì o almeno eliminate nell'invisibilità non capisco Dio quasi sempre nascondete le cose di cui vi vergognate o che non volete far sapere per questo celate la vostra sessualità e anche il denaro che considerate una cosa estremamente privata questo è il problema se ognuno fosse al corrente della situazione finanziaria di tutti gli altri scoppierebbe una rivoluzione planetaria senza eguali che assicurerebbe giustizia equità ed onestà attualmente questo non è possibile perché è troppo facile nascondere il denaro e ciò rende possibile un'infinità di ingiustizie un'azienda per esempio può pagare a due persone stipendi molto diversi per svolgere esattamente lo stesso lavoro soltanto perché quella che guadagna di più possiede qualcosa che l'altra non ha vale a dire un pene oh già probabilmente il fatto di avere un pene rende l'impiegato migliore dell'altro più intelligente rapido e capace non ricordo di avervi creato con capacità così diverse oh lo hai fatto e mi sorprende che non lo rammenti su questo pianeta lo sanno tutti questo è il motivo per cui le donne non possono essere sacerdotesse nella chiesa cattolica né in quella mormone non possono mostrarsi dalla parte sbagliata del muro del pianto a gerusalemme non possono ottenere gli impieghi più prestigiosi nelle grandi aziende né oh sì sei stato chiaro in ogni modo la discriminazione negli stipendi sarebbe molto più difficile da nascondere se tutte le transazioni monetarie fossero visibili immagini che cosa succederebbe se tutte le aziende del mondo fossero costrette a rendere pubblica la retribuzione concessa a ciascun dipendente sparirebbe il concetto di occhio non vede cuore non duole insieme con molti altri dello stesso tipo pensateci non credete che sapere esattamente quanti soldi possiede o guadagno ognuno di voi e come li usa potrebbe cambiare la situazione se la gente sapesse che cosa succede nel mondo non sopporterebbe più molte cose la società non potrebbe più giustificare una distribuzione sproporzionata del denaro e men che mai i mezzi attraverso i quali il denaro viene accumulato o il modo in cui viene usato per produrre altra ricchezza per questo le leggi sulla cosiddetta trasparenza hanno aiutato a ripulire almeno in parte il vostro sistema politico e finanziario ora è il momento di fare chiarezza anche su come trattate le retribuzioni e tu allora Dio che cosa suggerisci non si tratta di un suggerimento ma di una sfida vi sfido a gettare via tutto il vostro denaro e a ricominciare da zero sviluppate un sistema monetario internazionale totalmente aperto visibile affidabile stabilite un sistema salariale mondiale che dia alla gente crediti per i servizi o i prodotti forniti e debiti per quelli usati tutto potrebbe essere basato su questo sistema investimenti eredità premi di produzione stipendi mance nulla potrà essere acquistato senza crediti e i redditi di ciascuno sarebbero sotto gli occhi di tutti in tal modo potreste sapere quanto pagano e spendono le aziende e il costo di produzione di un oggetto oltre al suo prezzo riuscite a immaginare che cosa accadrebbe se le aziende fossero obbligate ad attaccare due cartellini su ogni oggetto uno con il prezzo di vendita e l'altro con il costo di produzione i prezzi scenderebbero e il commercio diventerebbe più equo potreste stabilire di trattenere il 10% dei guadagni di coloro che richiedessero volontariamente tale detrazione senza imporre tasse sul reddito e poiché tutto sarebbe pubblico chiunque saprebbe chi ha scelto di offrire il 10% per il bene collettivo e chi no questa trattenuta volontaria potrebbe essere usata per finanziare i programmi e i servizi del governo eletto dal popolo ma Dio il mondo non accetterà mai un sistema del genere ovviamente no e sai perché? perché renderebbe impossibile nascondere tutto ciò che ora è occultato vivete in un sistema sociale fondato sul maggior guadagno possibile sulla legge del più forte e sulla cosiddetta sopravvivenza del più adatto quando la meta della vostra società sarà garantire l'esistenza e il bene di tutti la necessità della segretezza e gli affari sporchi spariranno ti rendi conto che un modello del genere potrebbe eliminare la corruzione? la parola chiave è visibilità che bella idea Dio non vedo come potrebbe rivelarsi sbagliata perché non hai nulla da nascondere ma i ricchi e i potenti del mondo griderebbero dalla disperazione se ogni loro mossa acquisto vendita negoziato salariale fossero sotto gli occhi di tutti nulla produce l'equità più rapidamente della trasparenza visibilità è sinonimo di verità conosci la verità e la verità ti renderà libero i governi le multinazionali le persone al potere lo sanno bene e per questo non accetteranno mai un sistema politico sociale o economico fondato sulla verità nelle società illuminate non ci sono segreti perché nessuno vuole ottenere qualcosa a spese degli altri sono affascinato dal concetto di visibilità potrebbe essere steso oltre le questioni finanziarie e irregolare anche i rapporti personali o sarebbe auspicabile ma sul vostro pianeta la maggior parte delle persone ha ancora troppe cose da nascondere anche nelle relazioni personali certo anche in quelle avete sempre paura di ciò che potreste perdere scoprendo i vostri lati nascosti eppure i rapporti migliori soprattutto quelli d'amore sono quelli in cui ognuno sa tutto dell'altro e in cui visibilità non è soltanto la parola chiave ma l'unica in cui non ci sono segreti e non bisogna indovinare nulla ma se tutti conoscessero ogni nostro pensiero non sto suggerendo di abolire la privacy mentale ma di essere aperti e onesti nei rapporti interpersonali basta dire la verità e non tacere ciò che dovrebbe essere detto basta non manipolare e distorcere mentalmente o verbalmente la verità basta fare in modo che tutte le persone interessate sappiano tutto ciò che c'è da conoscere su un determinato argomento ciò non significa che ogni singolo pensiero ogni paura ogni brutto ricordo ogni giudizio opinione o reazione debbano essere sottoposte all'esame degli altri questa non sarebbe visibilità ma follia stiamo parlando di una comunicazione semplice franca aperta un concetto ancora poco popolare oddio puoi dirlo forte ma è un'idea magnifica sei sicuro che funzionerebbe metà dei mali del mondo sparirebbe in un batter d'occhio preoccupazioni conflitti rabbia frustrazione certo all'inizio la gente si infurierebbe scoprendo in che modo è stata usata spremuta manipolata e truffata ma la visibilità risolverebbe tutto in un paio di mesi vi invito ancora una volta a riflettere che cosa avete da nascondere quante bugie raccontate e quante verità tacete la menzogna diretta o per omissione vi ha portati a vivere come volete la manipolazione vi ha davvero recato benefici che cosa accadrebbe se tutti potessero vedere tutto questo è proprio il vostro più grande timore quando pensate all'incontro finale con dio avete paura del momento in cui la partita finirà e tutti gli inganni grandi e piccoli saranno scoperti eppure non c'è nulla da temere nessuno vi giudicherà nessuno vi dirà che avete sbagliato nessuno vi getterà tra le fiamme eterne dell'inferno i cattolici non andranno neppure in purgatorio e i mormoni non resteranno intrappolati per sempre nel paradiso inferiore senza poter mai accedere a quello più alto né saranno ritenuti figli della perdizione ed esiliati eternamente in regni sconosciuti ognuno di voi nella cornice della propria religione si è costruito un'idea del castigo di Dio ebbene il castigo divino non esiste forse quando smetterete di temere che la vostra esistenza sia messa a nudo al momento della morte perderete anche la paura di renderla visibile mentre la vivete oh sarebbe davvero bello Dio già in ogni modo questa è la formula per cominciare tornate all'inizio di questo libro e rileggetevi i cinque stadi del dire la verità memorizzateli e metteteli in pratica cercate la verità ditela vivetela ogni giorno fatelo con voi stessi e con tutte le persone che entrano nella vostra vita non abbiate timore di esporvi beh questo mi fa davvero un po' paura Dio prova a pensare perché beh perché ho paura di rimanere solo di non piacere più alle persone vedi sei convinto di dover mentire per piacere agli altri no non proprio solo non credo sia il caso di svelare tutto ricorda ciò che ho detto non si tratta di raccontare ogni più piccolo pensiero idea o timore ma di essere sincero mostrandoti senza veli non ti vergogni di mostrare il tuo corpo nudo alle persone che ami vero? no non mi vergogno perché allora non ti scopri anche emotivamente? perché è molto più difficile lo capisco ma ti raccomando di provare perché la ricompensa è grande hai esposto delle idee molto interessanti signore abolire secondi fini costruire una società basata sulla visibilità dire sempre la verità a tutti su ogni cosa beh le società illuminate sono state fondate su questi principi e io però non ne ho mai conosciuta una non parlavo del vostro pianeta e neppure del vostro sistema solare ah no? ma non c'è bisogno di lasciare la terra e neppure la propria casa per sperimentare questo nuovo sistema di pensiero e iniziate dalla vostra famiglia se avete un'attività autonoma dite a tutti coloro che lavorano per voi quanto guadagnate quanto spendete e qual è lo stipendio di ogni dipendente se tutti i datori di lavoro agissero così nelle aziende si instaurerebbe una reale giustizia spiegate ai vostri clienti quanto vi costa fornire un prodotto o un servizio potete essere fieri del risultato temete che qualcuno possa accusarvi di spennarlo se il rapporto tra costi e prezzi dei vostri prodotti fosse di dominio pubblico se è così cercate di modificare tale rapporto per riportarlo nel regno dell'equità invece di mirare a sempre maggiori profitti vi sfido a farlo dovete cambiare radicalmente il modo di pensare e preoccuparvi degli altri come di voi stessi potete cominciare oggi stesso a costruire questa nuova società la scelta aspetta a voi potete continuare ad alimentare il vecchio sistema oppure decidere di essere i pionieri di un mondo nuovo applicate i nuovi principi a tutto non limitatevi agli affari o ai rapporti personali alla politica all'economia a un singolo aspetto della vita siate questa nuova via e potrete dire sinceramente io sono la verità e la vita seguitemi capitolo 17 ora per favore parlami ancora di come le nazioni potrebbero accordarsi per eliminare le guerre ci saranno sempre contrasti tra gli stati perché il disaccordo è un segno salutare dell'individualità ma la risoluzione violenta delle differenze di opinione è indice di una grande immaturità nelle culture primitive come la vostra la quantità di vite distrutte in ogni conflitto non è sufficiente a produrre la volontà di cambiare finché crederete di poter avere la meglio in una discussione discuterete e finché crederete di poter vincere una guerra la combatterete e qual è allora la soluzione a tutto questo io non ho risposte ma solo oh lo so lo so hai solo osservazioni esatto come ti ho accennato una buona idea sarebbe instaurare un governo mondiale con una corte delegata a risolvere le dispute e una forza di pace in grado di garantire che nessuna nazione indipendentemente dalla potenza possa aggredirne un'altra ovviamente all'inizio la forza di pace probabilmente sarà obbligata a usare la forza per impedire a qualcun altro di usarla ma come ho spiegato nel primo libro non fermare un despota vuol dire conferirgli potere a volte per evitare una guerra è necessario fare la guerra questa apparente contraddizione è parte della dicotomia divina secondo cui in certi casi l'unico modo di essere una cosa per esempio la pace è non esserlo almeno in un primo momento in altre parole spesso per sapere chi siete realmente dovete comprendere ciò che non siete del resto è ormai evidente che il potere non può restare ancora a lungo concentrato nelle mani di pochi soltanto così il mondo potrà vivere finalmente in pace solo in questo modo le nazioni più piccole non dovranno più dipendere dagli aiuti di quelle più grandi svendendo le loro risorse o offrendo le terre migliori per impiantare bagi militari straniere finalmente con il nuovo sistema nessuno più violerebbe i diritti o le terre altrui inoltre non esisterebbero i ricatti economici da parte delle nazioni più ricche e quelle più povere non dovrebbero più rientrare in determinati parametri per poter ricevere gli aiuti umanitari questo modello rafforzerebbe l'indipendenza degli stati invece di minarla come temono alcuni proprio per questo le nazioni più grandi la cui indipendenza è assicurata dal potere e non dalla legge o dalla giustizia ne hanno paura infatti non potrebbero più fare i loro comodi ma dovrebbero sottoporsi al giudizio di tutti gli altri paesi e non potrebbero più accaparrarsi le risorse del pianeta ma sarebbero costretti a distribuirle più equamente quando le nazioni ricche affermano che quelle povere devono essere lasciate libere di svilupparsi non ammettono di controllare tutte le risorse di cui gli altri avrebbero bisogno per incrementare il proprio sviluppo a proposito della ridistribuzione della ricchezza Dio se le persone che vogliono di più e sono disposte a lavorare duramente per ottenerlo sapessero di dover dividere i loro beni con chi non è altrettanto desideroso di impegnarsi che incentivo avrebbero? non è questione di aver voglia di lavorare ma di avere un'opportunità perciò il primo passo verso la ristrutturazione dell'ordine sociale è far sì che ogni persona e ogni nazione abbiano uguali possibilità ciò non accadrà mai finché coloro che possiedono e controllano la maggior parte delle ricchezze e delle risorse mondiali non rinunceranno ai loro privilegi prima ho fatto l'esempio del Messico che mi pare molto eloquente da 40 anni un'oligarchia gestisce le ricchezze di un'intera nazione le elezioni democratiche sono una farsa perché le stesse famiglie controllano il partito al potere e fanno in modo che non esista una vera opposizione il risultato è che i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri la manodopera costa poco e chi detiene il potere realizza enormi profitti all'estero sostenendo in pari tempo di creare grandi opportunità di lavoro per i poveri questo è il motivo per cui gli industriali statunitensi trasferiscono le loro fabbriche in Messico dove pagano salari da schiavi gli operai lavorano in condizioni di totale insicurezza con gravi rischi per la salute ma il governo messicano impone pochissime regole inoltre spesso i lavoratori vivono in baracche di cartone vicino alle industrie senza acqua corrente senza bagni una tale mancanza di considerazione per le esigenze della popolazione crea una massa che non può permettersi di comprare ciò che produce ma questo ai proprietari delle aziende non interessa possono infatti inviare le merci in altre nazioni dove la gente ha abbastanza soldi per acquistarle sono convinto che presto o tardi questa spirale produrrà conseguenze devastanti non solo in messico ma ovunque gli esseri umani sono sfruttati le rivoluzioni le guerre civili e i conflitti internazionali saranno inevitabili finché chi ha continuerà a sfruttare chi non ha fingendo di offrire nuove opportunità l'attaccamento alla ricchezza signore è ormai così istituzionalizzato da essere accettato anche dalle persone con una mentalità aperta che lo considerano semplicemente una caratteristica dell'economia di mercato la verità è che solo il potere di coloro che detengono le ricchecce mondiali rende possibile mantenere un'illusione di equità la verità è che ai paesi poveri viene impedito perfino di provare a ottenere ciò che i potenti hanno già il sistema che ho descritto prima cambierebbe radicalmente le cose eh ma questo è proprio quello che i privilegiati temono signore sì un nuovo governo mondiale sarebbe una buona soluzione ai problemi del vostro pianeta avete avuto leader abbastanza coraggiosi e aperti da proporre principi più equi per esempio George Bush o Mikhail Gorbachev il primo capo di uno stato comunista ad aver vinto il Nobel per la pace o il presidente americano Carter che anche dopo la fine del mandato ha contribuito a evitare diverse guerre affermando una semplice verità nessun punto di vista è meno degno di un altro nessun essere umano ha meno valore di un altro è interessante che questi personaggi coraggiosi non siano stati riconfermati nel loro incarico proprio dalle persone che cercavano di sensibilizzare popolari in tutto il mondo sono stati rifiutati a casa propria si dice che nessuno è profeta in patria e questa è sempre stata la sorte di ogni leader che ha osato sposare la causa degli oppressi e così sarà sempre o almeno finché non prenderà piede l'unica vera soluzione a lungo termine una nuova consapevolezza una nuova coscienza la consapevolezza di essere uno e la coscienza dell'amore l'incentivo ad avere successo a realizzare tutto il possibile nella propria vita non dovrebbe essere solo di natura economica questa priorità ha creato tutti i problemi di cui stiamo trattando quando la sicurezza economica e i bisogni fondamentali saranno garantiti a tutti l'incentivo non scomparirà sarà soltanto diverso aumenteranno la forza e la determinazione e ciò produrrà una vera grandezza ma Dio vivere meglio per assicurare un buon futuro ai nostri bambini ai nostri figli non è un buon incentivo lo è senz'altro ma che cosa rende la vita migliore che cosa vuol dire migliore e che cosa significa vita se migliore significa avere sempre più denaro potere sesso e beni e se la vita è semplicemente il lasso di tempo che separa la nascita dalla morte in una determinata esistenza allora non state facendo nulla per uscire dalla trappola degli schemi in base ai quali vivete se invece migliore vuol dire avere un'esperienza più vasta del vostro essere e la vita è un processo infinito e continuo dell'essere forse troverete una via di scampo non è l'accumulo dei beni che rende una vita migliore la maggior parte di voi lo sa tutti sostengono di capirlo eppure la vostra esistenza ruota principalmente attorno alle cose lottate per ottenerle lavorate per comprarle e quando finalmente riuscite a mettere le mani su quello che volevate non lo mollate più al momento il vostro incentivo più forte è avere tutto ciò che il mondo ha da offrire perciò vivete conducendo una battaglia perpetua milioni di persone lottano per la sopravvivenza fra ansia e disperazione domandandosi se avranno cibo a sufficienza se troveranno un riparo migliaia di persone muoiono di fame ogni giorno molti altri hanno la vita assicurata ma lottano per avere qualcosa di più una casa modesta ma dignitosa un domani migliore lavorano duro e si preoccupano di andare avanti la mente è occupata da questioni urgenti un esiguo numero di individui ha tutto ciò che desidera ma curiosamente vuole di più e si preoccupa di mantenere ciò che ha e di accrescerlo oltre a questi gruppi ne esiste un altro realmente minuscolo che si è distaccato dal bisogno dei beni materiali e persegue la verità e la crescita spirituale le persone di questo genere considerano la vita un viaggio dell'anima e rispondono ad ogni evento secondo questo principio il loro impegno è orientato alla ricerca di dio alla realizzazione del sé all'espressione della verità a mano a mano che si evolvono la lotta si trasforma in un processo di autodefinizione e non di scoperta di sé di crescita e non di apprendimento di essere e non di fare mentre prima la ragione principale per cui combattevano lavoravano duramente tutta la vita era assicurarsi il possesso delle cose ora è approfondire la spiritualità prima si preoccupavano essenzialmente del corpo ora dell'anima è cambiato lo scopo della vita quindi è cambiata la vita stessa l'incentivo per diventare grandi è diventato un altro il valore di una persona non si misura da quanto ha accumulato le risorse del mondo sono ritenute proprietà di tutti la terra possiede risorse capaci di soddisfare i bisogni fondamentali di tutti i suoi abitanti e le esigenze basilari di tutti saranno soddisfatte forse un giorno tutti vorranno vivere così non ci sarà più bisogno di imporre le tasse ma ognuno donerà parte del suo reddito per aiutare chi ha di meno non resterete a guardare gli altri morire di inedia il giorno in cui modificherete l'incentivo a diventare grandi molte oscenità morali comunissime nella vostra società primitiva saranno cancellate per sempre il nuovo incentivo sarà diventare ciò per cui io vi ho creato l'immagine fisica della divinità quando sceglierete di essere chi siete realmente cioè Dio incarnato non agirete più in maniera non divina capitolo 18 hai descritto Dio un mondo regolato da principi di uguaglianza ed equità dove tutte le nazioni rispondono a un governo mondiale e le ricchezze sono distribuite fra tutti ricorda che per uguaglianza intendo quella di opportunità un'uguaglianza di fatto non sarà mai raggiunta ed è meglio così perché perché uguale significa essere lo stesso e l'ultima cosa di cui il mondo ha bisogno sono miliardi di automi che ricevono identiche concessioni da un grande fratello io parlo di una società in cui siano garantiti i bisogni fondamentali e la possibilità di arrivare più in alto nonostante tutta la vostra ricchezza avete intrappolato milioni di persone sul gradino più basso della scala socio economica costruendo un sistema che le tiene incatenate in quella condizione non avete ancora smesso di uccidervi l'un l'altro state a guardare mentre i bambini muoiono di fame e ammazzate altri esseri umani solo perché non la pensano come voi siete primitivi già e invece pensiamo di essere tanto progrediti credersi avanzati è tipico di una società primitiva come si riconosce una coscienza primitiva dal fatto che si ritiene illuminata riassumendo la via verso l'evoluzione passa attraverso due cambiamenti uno politico e uno spirituale datevi un governo mondiale con un tribunale che risolva le dispute internazionali e una forza di pace delegata a far rispettare le leggi che vi siete dati il governo centrale dovrebbe avere un congresso delle nazioni dove ogni paese abbia due rappresentanti e un'assemblea popolare costituita in modo proporzionale alla popolazione di ciascuna nazione beh il governo degli stati uniti è strutturato in questo modo ha due camere una in cui la rappresentanza è proporzionale e l'altra che garantisce uguale diritto di parola a tutti gli stati sì la costituzione degli stati uniti è stata ispirata da dio lo stesso equilibrio di potere dovrebbe essere portato nella costituzione del mondo nuovo ovviamente sarebbero necessari un potere giudiziario e uno esecutivo proprio come accade negli stati che costituiscono gli stati uniti d'america ogni paese avrebbe la sua polizia interna ma tutti gli eserciti nazionali sarebbero smantellati per costruire una forza di pace unica le nazioni si riserverebbero il diritto di formare e chiamare alle armi un proprio esercito solo in caso di necessità inoltre ogni paese avrebbe il diritto avvalendosi dei voti popolari di decedere dalla federazione mondiale a beneficio dei meno recettivi ripeti ancora una volta che cosa comporterebbe questo sistema numero uno la fine delle guerre e la scomparsa dell'abitudine di risolvere le dispute uccidendo l'antagonista numero due la fine della povertà della morte per inedia e dello sfruttamento in massa di persone e risorse naturali numero tre la fine della distruzione sistematica dell'ambiente numero quattro una via d'uscita dalla lotta per avere sempre di più numero cinque un'opportunità realmente uguale per tutti di elevarsi fino alla più alta espressione dell'io numero sei l'eliminazione dei limiti e delle discriminazioni politiche lavorative sessuali e personali che impediscono agli esseri umani di progredire ma questo mondo nuovo richiederebbe una ridistribuzione della ricchezza non richiede nulla ma produrrà una ridistribuzione spontanea e automatica delle risorse a tutti sarà offerto un buon grado di istruzione e saranno liberi di usarla per intraprendere la carriera che preferiscono a tutti sarà garantita l'assistenza sanitaria a tutti sarà assicurata una vita dignitosa in modo che nessuno debba più preoccuparsi della sopravvivenza anche se non fanno nulla per guadagnarsi tutto ciò la convinzione che queste cose si debbano guadagnare deriva dall'idea che bisogna conquistarsi il paradiso invece non potete guadagnarvi la grazia di Dio perché l'avete già quando imparerete a dare vale a dire ad amare incondizionatamente saprete anche ricevere incondizionatamente la vostra vita è lo strumento per sperimentare tale verità cercate di comprendere che tutti hanno il diritto di esistere anche se non offrono nessun contributo vivere dignitosamente è uno dei vostri diritti fondamentali e io vi ho dato risorse a sufficienza per garantirlo a tutti dovete imparare a dividere ma in tal caso che cosa impedirebbe alla gente di sprecare la vita senza fare nulla ozziando e vivendo di sussidi innanzitutto non sta a te stabilire se e quando una vita è sprecata se una persona ozia per 70 anni pensando alla poesia e alla fine produce un solo sonetto che risveglia la coscienza di migliaia di persone ha sprecato la sua vita o se qualcuno mente truffa manipola e danneggia gli altri per anni ma poi ricorda la sua vera natura e si evolve si tratta di una vita sprecata non aspetta a te giudicare il viaggio di un'altra anima devi soltanto decidere chi sei tu non chi è o non è un altro la risposta alla tua domanda su che cosa impedirebbe alle persone di dissipare la vita nell'ozio è nulla ma credi davvero che funzionerebbe non pensi che coloro che lavorano per il bene comune se la prenderebbero con chi non fa nulla sì se non è illuminato altrimenti guarderebbe a chi non contribuisce con compassione senza rancore compassione sì perché saprebbe che quelle persone stanno perdendo la più grande opportunità la gloria più eccelsa quella di sperimentare chi sono realmente questo è di per sé un castigo sufficiente per la pigrizia anche se in realtà non è necessaria nessuna punizione ma quelli che si danno da fare per la collettività non si arrabbierebbero vedendo il frutto del loro lavoro in mano a degli scansafatiche non mi ascolti a tutti sarebbe garantita la sopravvivenza a chi ha di più verrebbe data la possibilità di donare il 10% del proprio reddito per rendere possibile tale progetto sarebbe il libero mercato a determinare il valore di ciascun contributo proprio come accade oggi nel tuo paese ma allora avremmo ancora i ricchi poveri questa non è uguaglianza è uguaglianza di opportunità perché chiunque potrebbe vivere con dignità senza doversi preoccupare dei bisogni fondamentali e tutti avrebbero uguali opportunità di acquisire le conoscenze sviluppare le capacità e usare le doti naturali nel luogo della gioia il luogo della gioia così si chiamerebbe il posto di lavoro ma non ci sarebbero ancora invidie sì ma non gelosia l'invidia è un'emozione naturale che spinge una persona a sforzarsi per raggiungere un risultato migliore è motivante è desiderio puro la gelosia invece è guidata dalla paura è il desiderio che gli altri abbiano meno proviene dalla rabbia e porta alla rabbia e può anche uccidere mentre l'invidia crea agli invidiosi sarebbe data la possibilità di avere successo a modo loro nessuno sarebbe discriminato per ragioni economiche politiche sociali razziali o sessuali non sarebbe più tollerata alcuna forma di discriminazione ci sarebbero ancora i ricchi e i poveri ma non più gli indigenti e le persone private dei loro diritti sarebbe eliminata soltanto la disperazione non l'incentivo e che cosa garantisce che ci sarebbero abbastanza contribuenti per mantenere chi non lavora la grandezza dello spirito umano davvero contrariamente a ciò che credi la maggioranza delle persone non si accontenterebbe di aver garantita la sussistenza inoltre quando avrà luogo la trasformazione spirituale l'incentivo alla grandezza muterà e che cosa causerà questo cambiamento non è avvenuto in duemila anni in due miliardi di anni d'accordo quindi perché dovrebbe accadere adesso perché eliminando il bisogno di avere successo per potersi sentire sicuri non ci sarà altra ragione per diventare magnifici se non l'esperienza stessa della magnificenza e sarà una motivazione sufficiente lo spirito umano non cade di fronte a una vera opportunità l'anima cerca sempre un'esperienza più alta di se stessa non una più bassa e che cosa mi dici allora del potere in questo nuovo ordine ci saranno ancora individui enormemente ricchi e potenti i profitti saranno limitati allora Dio puoi spiegare come dovrebbe funzionare prima che io spieghi perché non accadrà certo si stabiliranno un limite minimo e uno massimo per i redditi una sorta di tassa egualitaria nella vostra società e in quest'epoca dovrà assumere la forma di una tassa perché non siete ancora sufficientemente illuminati per comprendere che una donazione volontaria per il bene di tutti è nel vostro stesso interesse ma quando il cambiamento di coscienza avrà preso piede la riterrete un'offerta libera e logica posso interromperti Dio? prego non avrei mai creduto che tu mi raccomandassi determinate posizioni politiche come farò a convincere la gente che Dio è a favore delle tasse? sei tu che la consideri una tassa ed è comprensibile dato che l'idea di offrire spontaneamente una parte del tuo reddito ti è estranea ma perché ti è difficile credere che io possa avere idee in merito? credevo che Dio non giudicasse non avesse alcuna opinione o preferenza nell'altra nostra conversazione che tu chiami il primo volume ho risposto a molte domande sui rapporti personali su come vivere meglio perfino sull'alimentazione in che cosa differisce da questa? beh non lo so mi sembra diversa hai davvero un'opinione politica? preferirei che tu fossi apolitico lo sono più o meno come Bill Clinton questa è buona mi piace l'umorismo non mi aspettavo che Dio avesse il senso dell'umorismo o quello della politica ho nessun altro aspetto umano vero? io non ho alcuna preferenza su come decidete di condurre la vostra vita il mio unico desiderio è che possiate realizzarvi pienamente come esseri creativi in modo da comprendere chi siete realmente beh questo lo capisco continuo pure ogni domanda a cui ho risposto in questo libro come nell'altro va inserita nel contesto di ciò che voi come esseri creativi affermate di voler fare sì ma mi è difficile credere che Dio si possa esprimere così forse ti è più difficile essere d'accordo con alcune mie affermazioni beh ecco se non lo sei non c'è problema vuoi dire che non importa se non la penso come Dio naturalmente e che cosa dovrei fare schiacciarti come un insetto no non intendevo una soluzione così radicale ascolta il mondo è stato in disaccordo con me fin dall'inizio da quando è cominciata tutta questa storia quasi nessuno ha seguito le mie idee se lo aveste fatto seguendo le centinaia di maestri che io vi ho inviato il mondo ora sarebbe un posto molto diverso quindi se non sei d'accordo con me non preoccuparti oltretutto potrei anche sbagliarmi che cosa ho detto che potrei sbagliarmi non starai prendendo ogni mia parola come una sorta di vangelo vero allora non dovrei credere che questo dialogo abbia un valore partiamo dall'inizio tu stai inventando questa conversazione ma io per un po' ho creduto davvero di ricevere delle linee guida l'unica guida che hai è il tuo cuore ascolta la tua anima quando ti presento un punto di vista non sei obbligato a farlo tuo se non lo ritieni giusto va benissimo è proprio questo lo scopo dei nostri dialoghi non si tratta di sostituire la tua dipendenza da tutto il resto con la dipendenza da questo libro ma di cominciare a pensare a pensare da solo ed ecco chi sono io adesso sono te che pensi ad alta voce vuoi dire Dio che questo materiale non proviene dalla fonte più elevata ma certo che sì ma ancora non riesci a capire che sei tu la fonte più elevata sei tu che crei tutto tutta la tua vita qui e ora tu tu stai creando tutto non io tu alcune mie risposte alle domande sulla politica non ti piacciono cambiale subito prima di considerarle un nuovo Vangelo prima di credere che il tuo ultimo pensiero su una qualsiasi questione sia più importante e valido del successivo ricorda è sempre il pensiero più recente a determinare la realtà vorresti rivedere qualche punto della nostra discussione politica no Dio non proprio sono abbastanza d'accordo con te solo che non so che cosa fare di tutto questo usalo come vuoi non capisci è ciò che fai con tutta la tua vita d'accordo credo di aver capito vorrei continuare questa conversazione anche solo per sapere dove andrà a finire che cosa stavi dicendo stavo per affermare che nel nuovo sistema di cui abbiamo parlato ognuno guadagnerebbe solo fino a un certo limite e quale? un limite sul quale tutti siano d'accordo e il profitto in eccesso? sarebbe utilizzato per contribuire al bene del mondo specificando il nome del donatore in modo che l'umanità sappia chi l'aiuta i benefattori potrebbero controllare direttamente il 60% del loro contributo destinandolo a progetti a loro scelta il rimanente 40% sarebbe destinato a iniziative varate e amministrate dalla federazione mondiale ma Dio se le persone sapessero di essere private di tutti i guadagni oltre un certo tetto perché dovrebbero continuare a lavorare? perché non fermarsi una volta raggiunto il limite? alcuni lo farebbero infatti e allora? è che si fermino pure il denaro risparmiato sulla produzione di armi sarà più che sufficiente a coprire i bisogni fondamentali di tutti la donazione volontaria di parte del reddito eleverà tutta la società e la eleverà a un nuovo grado di dignità e benessere e il contributo derivante dal denaro guadagnato oltre il limite stabilito produrrebbe una tale quantità di opportunità e di soddisfazioni che la gelosia e la rivalità sociale non esisterebbero più alcuni smetterebbero di lavorare specialmente coloro che vedono la vita come un lavoro ma coloro che considerano la loro attività come gioia assoluta non smetterebbero mai ma non tutti possono avere un'occupazione che li soddisfi totalmente non è vero tutti possono non dipende dalla funzione ma dallo scopo la madre che si sveglia alle 4 del mattino per cambiare il pannolino al figlio lo capisce perfettamente canta e parla dolcemente al bambino e nessuno pensa che lei stia lavorando sono l'atteggiamento e lo scopo dell'azione a renderla una gioia sì sì Dio me ne rendo conto ma che senso ha limitare i guadagni non priva l'esperienza umana di una delle sue più gloriose avventure avrete comunque l'opportunità e il gusto di guadagnare cifre astronomiche solo la parte che sceglierete di tenere per voi sarà limitata il resto sarà investito in progetti e servizi utili all'umanità il tetto massimo al guadagno individuale sarà un riflesso del cambiamento di coscienza del pianeta la consapevolezza che lo scopo più alto della vita non è accumulare più ricchezze possibile ma fare più bene possibile la concentrazione del potere economico è il fattore più rilevante nella nascita dei problemi sociali e politici del mondo l'opportunità di accumulare ricchecce illimitate è la pietra angolare del sistema capitalistico che è basato sulla libera impresa e sulla concorrenza che ha prodotto la più grande civiltà conosciuta dall'uomo il problema è che tu ci credi davvero in questo no io personalmente no ma l'ho detto in nome di chi ci crede coloro che la pensano così si ingannano e rifiutano di vedere la realtà attuale del vostro pianeta solo negli stati uniti l'uno e mezzo per cento della popolazione possiede più ricchezze del restante 98 e mezzo e allora hanno lavorato duro per ottenere ciò che hanno voi americani tendete a considerare la posizione sociale come una funzione dello sforzo individuale alcuni ce l'hanno fatta quindi dessumete che tutti possano farcela è un'idea semplicistica fondata sulla convinzione che tutti abbiano pari opportunità quando ciò non è affatto vero in america proprio come in messico i ricchi lottano per mantenere e incrementare il loro potere e che cosa c'è di sbagliato in questo dio lo fanno eliminando sistematicamente la concorrenza riducendo al minimo le possibilità altrui e controllando il flusso del denaro per riuscirci usano ogni genere di espedienti dallo sfruttamento delle masse nei paesi più poveri alla libera concorrenza intesa in modo da minimizzare e distruggere l'opportunità che un nuovo venuto entri a far parte dell'oligarchia tentano di controllare la politica e i governi in tutto il mondo per assicurarci che le masse restino sottomesse beh io non credo che tutti i ricchi si comportino così forse è una piccola parte è un gruppo di cospiratori in molti casi non sono gli individui a farlo ma i sistemi sociali e le istituzioni che essi rappresentano riparandosi dietro tali sistemi e istituzioni i singoli possono lavarsi le mani di ogni irresponsabilità personale per le condizioni che opprimono le masse e favoriscono i ricchi insomma chi detiene il potere economico resiste estrenuamente a ogni tentativo di cambiare le strutture sociali in modo da fornire reali opportunità a tutti molti presi individualmente sono brave persone ma provate a parlare di porre un limite anche altissimo ai profitti e cominceranno a strillare lamentando l'usurpazione dei loro diritti e la perdita di incentivi ma che cosa dire del diritto di tutti gli esseri umani a vivere dignitosamente senza morire di fame o di freddo e che cosa dire del diritto a un'assistenza sanitaria adeguata del diritto di non dover soffrire o addirittura a morire a causa di complicazioni mediche di poco conto che i ricchi possono superare senza sforzo le risorse del vostro pianeta compresi i proventi del lavoro delle masse sfruttate appartengono a tutti e non solo a chi è abbastanza ricco e potente da permetterci di sfruttare gli altri ecco come funziona lo sfruttamento i vostri industriali si recano in un paese o in una zona dove la gente vive in totale povertà costruiscono una fabbrica e offrono lavoro a volte richiedendo un impegno di 10 12 e perfino 14 ore al giorno con salari da fame non danno ai loro dipendenti abbastanza perché possano abbandonare i villaggi infestati dai topi ma abbastanza per poter vivere proprio in quel modo allora dicono stanno meglio di prima abbiamo migliorato le loro condizioni hanno lavoro noi abbiamo dato loro delle opportunità assumendoci tutti i rischi ma che rischio c'è nel pagare una persona pochi spiccioli per fabbricare un paio di scarpe da tennis che sarà venduto a 100 200 volte tanto non si tratta di puro e semplice sfruttamento queste cose possono accadere soltanto in un mondo motivato dall'avidità in cui la prima considerazione è il margine di profitto e non la dignità umana invece di elevare quelle persone a una diversa condizione gli industriali danno ai poveri del mondo il minimo indispensabile per renderli dipendenti e mai abbastanza da renderli davvero potenti perché quando un paese ha il potere economico può influenzare il sistema ma questa è l'ultima cosa che i privilegiati vorrebbero e così la cospirazione del silenzio va avanti continuate a non denunciare la vergogna di un sistema che paga miliardi a un dirigente che ha aumentato le vendite di una bevanda che milioni di persone non possono permetterci il lusso di bere continuate a non vedere chiamate questo sistema economia di mercato e dite a tutti quanto ne siete orgogliosi è scritto se vorrai essere perfetto vendi ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in paradiso ma quando il giovane udì queste parole si allontanò pieno di dolore perché aveva grandi possedimenti capitolo 19 non ti avevo mai sentito così indignato Dio non si indigna quindi questa è la prova che tu non sei Dio Dio è tutto e può provare qualsiasi emozione tutto ciò che Dio prova lo prova attraverso di voi l'indignazione che senti è la tua hai ragione Dio infatti sono totalmente d'accordo con te sappi che ricevi ogni pensiero che ti invio attraverso il filtro della tua esperienza della tua verità e della tua comprensione attraverso le tue decisioni e le tue affermazioni su chi sei e chi scegli di essere stai dicendo che nessuna di queste idee è tua e che tutto questo libro potrebbe essere sbagliato che questa esperienza potrebbe essere soltanto un elenco dei miei pensieri e sentimenti su ogni argomento considera la possibilità che io ti stia mandando i tuoi pensieri e sentimenti su vari temi da dove credevi che ti arrivassero che stia costruendo con te le tue esperienze decisioni e dichiarazioni considera la possibilità che abbia scelto te insieme con molti altri come mio messaggero ben prima dell'esistenza di questo libro è difficile da credere lo so ne abbiamo già parlato nel primo volume eppure io parlo al mondo attraverso i miei insegnanti e i miei messaggeri oltre che in molti altri modi e in questo volume affermo che l'economia la politica i sistemi sociali e religiosi del mondo in cui vivete sono primitivi anche se avete l'arroganza di pensare che siano i migliori vedo che la maggior parte di voi resiste strenuamente ad ogni cambiamento che potrebbe costare qualcosa indipendentemente da quante persone potrebbe aiutare ma tu sei dio se non ti piace come stanno le cose perché non le cambi come ti ho spiegato fin dall'inizio ho deciso di darvi la libertà di creare la vostra vita come volete non potete conoscere voi stessi come creatori se sono io a dirvi che cosa creare e come e poi vi costringo a farlo in tal caso avrei fallito lo scopo ma ora guardiamo che cosa fate e vediamo se non vi indigna almeno un po' prendiamo uno dei vostri giornali in un giorno qualsiasi d'accordo aprilo a caso che cosa leggi ecco ecco dio il titolo è i paesi in via di sviluppo discutono i diritti dei lavoratori l'articolo parla di un vecchio scisma rispetto ai diritti dei lavoratori tra le nazioni industrializzate e quelle in via di sviluppo i capi di alcune di queste ultime temono che una campagna per aumentare i diritti dei lavoratori potrebbe avere l'effetto collaterale di escludere i loro prodotti a basso costo dal mercato delle nazioni ricche che li consumano continuo affermando che i negoziatori ufficiali per il Brasile la Malesia l'India Singapore e altre nazioni in via di sviluppo hanno rifiutato di creare un comitato permanente all'interno dell'organizzazione del commercio mondiale che dovrebbe incaricarsi di stilare una carta dei diritti dei lavoratori e di quali diritti parla l'articolo dice i diritti elementari dei lavoratori quali la proibizione del lavoro forzato l'adozione di misure di sicurezza e la garanzia di poter negoziare collettivamente e perché le nazioni in via di sviluppo non vogliono tali diritti innanzitutto mettiamo in chiaro che non sono i lavoratori a opporsi a una politica a loro favore i negoziatori dei paesi in via di sviluppo sono le stesse persone che possiedono le fabbriche oppure sono dei loro alleati come accadeva in occidente prima che venissero fondati i sindacati dei lavoratori sono coloro che traggono i maggiori benefici dallo sfruttamento della forza lavoro può essere certo che ricevono massicci aiuti in denaro dagli Stati Uniti e da altre nazioni ricche i cui industriali acquistano fabbriche locali o costruiscono impianti proprio nei paesi in via di sviluppo dove i diritti dei lavoratori non sono ancora protetti ma l'articolo dice che è proprio il nostro governo a spingere di più per l'approvazione di un accordo mondiale sui diritti dei lavoratori il vostro attuale presidente Bill Clinton è un uomo che crede nei diritti dei lavoratori e sta lottando coraggiosamente contro gli interessi dei grandi capitalisti altri leader americani e non sono stati uccisi per molto meno Stai dicendo che Bill Clinton sarà assassinato? Diciamo solo che ci saranno pressanti tentativi di rimuoverlo dall'incarico Clinton come Kennedy 30 anni prima di lui sta prendendo iniziative che i grandi capitalisti osteggiano per esempio crede che chiunque abbia diritto all'assistenza sanitaria anche se non può permettersi di pagare i prezzi esorbitanti richiesti dalle assicurazioni Clinton sostiene che vanno ridotti e ciò non lo ha reso popolare tra molti potentati a cominciare dalle case farmaceutiche e dalle assicurazioni e fino alle corporazioni mediche agli industriali che dovrebbero garantire un'assistenza medica decente ai loro dipendenti molti di quelli che guadagnano eccessivamente dovranno ridurre i loro profitti perché i poveri degli Stati Uniti possano ricevere una buona assistenza sanitaria e questo come ho detto rende Clinton piuttosto in viso eh Dio immagino che tu abbia ragione c'è un altro titolo interessante la recessione provoca rabbia in Germania il sottotitolo recita con la disoccupazione ai massimi storici dal dopoguerra aumenta il divario tra ricchi e poveri e che cosa dice l'articolo? che c'è grande agitazione tra i lavoratori licenziati ingegneri professori scienziati operai falegnami e cuochi la nazione sta affrontando un periodo duro per l'economia e c'è la sensazione diffusa che i sacrifici non siano stati distribuiti equamente spiega anche la causa di tanti licenziamenti? sì certo dice che i licenziati sono persone i cui datori di lavoro si sono spostati in paesi dove la mano d'opera è più economica ah mi chiedo quanti lettori abbiano notato il collegamento tra i due articoli il giornalista aggiunge che quando arrivano i licenziamenti le prime a restare senza lavoro sono le donne naturalmente come ho detto il vostro sistema sbandierà i quattro venti di dare uguali opportunità a tutti ma in realtà non lo fa avete bisogno di credere alle vostre menzogne per continuare a trovarvi delle giustificazioni e odiate chiunque provi a indicarvi la verità la vostra è una società di struzzi che cos'altro c'è nel giornale? un pezzo che annuncia nuove pressioni federali per abolire la discriminazione negli affitti spiega che l'ufficio federale per gli alloggi sta preparando un piano che rappresenta lo sforzo maggiore mai compiuto per eliminare il problema domandati perché è necessario tanto sforzo ma addio noi abbiamo una legge che vieta la discriminazione negli affitti per ragioni di razza colore religione sesso composizione familiare o handicap ciò nonostante molte comunità locali non hanno fatto molto per eliminare tali parzialità tanti in questo paese sono convinti che una persona abbia tutti i diritti di fare ciò che vuole con le sue proprietà tra cui quello di affittare gli immobili a chi preferisce eppure in questo modo interi segmenti di popolazione finirebbero con l'essere sistematicamente esclusi da ogni opportunità di trovare posti decorosi in cui vivere e ciò permetterebbe ai grandi proprietari di chiedere cifre sorbitanti per dimore miserabili soprattutto nelle zone più malfamate i ricchi sfruttano le masse anche così in questo caso appellandosi al diritto alla proprietà ma i proprietari devono pur avere dei diritti quando i diritti di pochi violano quelli di molti questa è la domanda a cui si è sempre trovata di fronte ogni società civile arriva un momento in cui il bene di tutti travalica i diritti individuali la società ha una responsabilità nei confronti di se stessa le vostre leggi sugli affitti danno una risposta affermativa e l'incapacità di farle rispettare è il modo dei ricchi di rispondere no l'unica cosa che conta sono i nostri diritti è vero Dio l'articolo dice che l'amministrazione Clinton ha effettuato più indagini sulla discriminazione degli affitti di quante ne siano state condotte nei dieci anni precedenti ed è così che il vostro presidente si è fatto altri nemici tra le persone influenti beh in effetti la pressione contro di lui sta aumentando il giornale dice qualcos'altro c'è la foto di un leader politico russo con i pugni sollevati Girinovsky aggredisce un collega in parlamento spiega che Vladimir Girinovsky è stato ieri protagonista di un'altra rissa ha preso a pugno un avversario politico gridando ti farò marcire in prigione ti strapperò i peli della barba uno a uno esiste il segretario di un partito che si sente in obbligo di provare la propria virilità prendendo a pugno i suoi avversari in parlamento e ti meravigli che le nazioni poi ci facciano la guerra la vostra è una razza primitiva che comprende soltanto la forza sul vostro pianeta non c'è una vera legge la vera legge è quella naturale che è osservabile e non ha bisogno di essere spiegata o insegnata è la legge in base alla quale le persone decidono liberamente di farsi governare perché quello è l'unico modo naturale la loro quindi non è tanto una scelta ma il mutuo riconoscimento di ciò che è le regole di questo tipo sono rispettate da tutti a causa delle loro innegabili conseguenze per fare un esempio gli esseri evoluti non si danno una martellata in testa perché fa male e per la stessa ragione non la danno a qualcun altro gli esseri evoluti hanno notato che se colpisci qualcuno con un martello gli fai male se continui a colpirlo si arrabbia e se lo fai infuriare prima o poi prenderà anche lui un martello e ti restituirà le botte gli esseri evoluti quindi sanno che colpire un altro con un martello è come ferire se stessi non importa se il tuo martello è più grosso prima o poi sarai a tua volta colpito d'altra parte anche gli esseri non evoluti osservano tutto ciò ma a loro non importa gli esseri evoluti non hanno voglia di giocare a chi ha il martello più grosso vince quelli primitivi invece non conoscono altro gioco incidentalmente si tratta di un passatempo soprattutto maschile poche donne hanno voglia di dare martellate perciò Dio le donne sono più evolute degli uomini la verità come la legge naturale è sempre osservabile ed evidente solo ciò che non è evidente di per sé quindi non è naturale deve essere spiegato per diventare comprensibile ci vogliono persone molto decise per convincere la gente di ciò che non emerge a prima vista a questo scopo avete inventato i politici e il clero gli scienziati non parlano molto se conducono un esperimento con successo mostrano ciò che hanno fatto se invece falliscono non hanno nulla da dire non è necessario perché la ragione del loro lavoro è evidente i politici invece parlano molto anche se falliscono anzi spesso più grande è il fallimento e più sono loquaci e altrettanto vale per le religioni ma la verità e i Dio sono nello stesso luogo nel silenzio quando hai trovato Dio e la verità non è necessario parlarne è un fatto evidente se parli molto di Dio probabilmente perché lo stai ancora cercando va benissimo non c'è problema solo renditi conto di dove ti trovi ma i maestri parlano continuamente di Dio e noi ne stiamo parlando tantissimo in questo libro la gente insegna ciò che ha scelto di imparare ed è vero che questo libro parla di me oltre che della vita infatti hai deciso di scrivere queste conversazioni perché stai ancora cercando sì è vero e questo vale anche per le persone che lo stanno leggendo mi hai chiesto come mai se non mi piace ciò che vedo sulla terra non faccio nulla per cambiarlo io non giudico ciò che fate lo osservo e a volte come adesso lo descrivo ma dimentica le mie osservazioni e poniti una domanda che cosa provi rispetto a ciò che hai osservato sul tuo pianeta hai sfogliato un solo quotidiano e hai scoperto che le nazioni rifiutano di riconoscere i diritti più elementari dei lavoratori a causa della depressione economica in Germania i ricchi diventano più ricchi e i poveri più poveri il governo è costretto a obbligare i proprietari di case a rispettare la legge sugli affitti un leader politico russo prende a pugni un collega in parlamento c'è qualcos'altro che quel giornale può mostrarmi a proposito della vostra società civile c'è un articolo Dio è intitolato sono i civili a soffrire di più per la guerra in Angola il sottotitolo recita i capi vivono nel lusso mentre migliaia di persone muoiono di fame basta così per favore i vostri sistemi economici politici sociali e religiosi sono primitivi ma io non farò nulla per cambiare questa situazione è necessario che esercitiate il libero arbitrio per raggiungere la meta che vi ho posto vale a dire conoscervi come creatori non vi indigna vedere di esservi evoluti pochissimo in migliaia di anni fortunatamente di tanto in tanto la civiltà si rivolge a me per un consiglio dove abbiamo sbagliato chiedete come possiamo migliorare il fatto che abbiate sistematicamente ignorato i miei suggerimenti non mi impedisce di offrirveli di nuovo come un buon genitore che continua ad amare i propri figli anche se questi lo ignorano e che cosa potrebbe causare questo radicale cambiamento di coscienza di cui parli è un lavoro lento stiamo scheggiando poco per volta il blocco di granito dell'esperienza umana come scultori che vogliano svelare la bellezza della statua nascosta nel marmo stiamo sì tu e io attraverso questi libri e attraverso molti altri messaggeri scrittori artisti produttori televisivi e cinematografici musicisti sciamani guru perfino alcuni politici avvocati ne esistono di sinceri medici madri e padri nonni e nonne in america e nel resto del mondo siete i portabandiera e per merito vostro la coscienza di molte persone sta mutando beh signore ma dovrà verificarsi una calamità planetaria come sostengono alcuni bisogna che la terra si sposti sul proprio asse o sia colpita da un enorme meteorite perché la gente ascolti dobbiamo essere invasi dagli extraterrestri perché ci rendiamo conto che siamo tutti uno oh eventi così drammatici non sono indispensabili ma potrebbero accadere e succederanno credi sia possibile predire il futuro nemmeno dio può farlo ti dico che potete costruire il vostro futuro quindi createlo come volete ma prima hai detto che il futuro non esiste che tutto accade nello stesso istante nell'eterno presente è vero allora i terremoti le inondazioni e i meteoriti stanno squassando la terra proprio adesso o no non dirmi che non lo sai vuoi che queste cose accadano ovviamente no ma tu hai detto che ogni cosa che avverrà in futuro è già successa e sta accadendo ora esatto ma il momento dell'eterno presente cambia in continuazione è come un mosaico che è sempre lì ma muta non appena ti distrai io sono in costante trasformazione e che cosa ti fa cambiare le tue idee su di me i vostri pensieri modificano il mosaico in un istante a volte il cambiamento è sottile quasi inavvertibile ma quando c'è un pensiero intenso o collettivo allora l'effetto è tremendo insomma ci sarà o no una catastrofe di proporzioni mondiali non lo so siete voi a decidere ricordate che state scegliendo la vostra realtà io scelgo che non accada alcun disastro allora non succederà a meno che non accada naturalmente siamo da capo un'altra volta sì devi imparare a vivere nella contraddizione e devi apprendere la verità più grande nulla importa nulla importa spiegherò questo concetto nel terzo volume va bene anche se preferirei non aspettare per conoscere la risposta hai già tante nozioni da assimilare datti tempo sento che stai per lasciarmi parli sempre così quando hai deciso di andartene ho ancora delle domande da porti per esempio esistono altre forme di vita nello spazio ne parleremo nel prossimo libro dammi almeno un'anticipazione vuoi sapere se esiste vita intelligente nell'universo a parte voi ovviamente sì sono primitivi come noi alcuni altri lo sono anche di più mentre altri sono più evoluti siamo già stati visitati dagli extraterrestri sì molte volte per quale motivo per indagare a volte per aiutare e come di tanto in tanto vi danno una piccola spinta sicuramente avrai notato che la terra ha fatto più progressi tecnologici negli ultimi 75 anni che in tutto il resto della storia sì è vero e immagini che tutto questo dalle apparecchiature per la tacca al concorda e microchip capaci di regolare il battito cardiaco provenga dalla mente umana certo e allora perché l'uomo non li ha inventati migliaia di anni fa non lo so forse non c'erano i mezzi necessari una cosa porta all'altra in un continuo processo evolutivo non trovi strano che in un processo evolutivo che dura da milioni di anni all'improvviso 75 o 100 anni fa ci sia stata un'esplosione di comprensione non ti pare che un passo avanti di proporzioni così consistenti sfidi la logica che cosa stai cercando di dirmi di prendere in considerazione la possibilità che siete stati aiutati e allora perché non riceviamo anche aiuti spirituali perché non ci viene data assistenza anche sul cambiamento di coscienza ma l'avete che cosa credi che sia questo libro beh ecco provocare un cambiamento di coscienza in un intero pianeta è un processo lento ci vogliono tempo e pazienza intere vite generazioni ma lentamente poco per volta ci state arrivando e tu dici che in questo siamo stati aiutati da esseri provenienti dallo spazio certamente molti di loro sono tra di voi e vi sostengono da anni e perché non si fanno riconoscere non renderebbe più incisivo il loro contributo il loro scopo è aiutarvi nel cambiamento che molti di voi desiderano ma non di crearlo o di forzarlo se si rivelassero sareste obbligati a dare grande rilevanza alle loro parole invece è meglio che le persone trovino la propria saggezza la saggezza che viene da dentro non è facile da scartare come quella imposta dall'esterno riusciremo mai a vedere questi extraterrestri per ciò che sono certo arriverà un momento in cui la vostra coscienza si acuirà e la paura diminuirà allora gli extraterrestri si riveleranno alcuni di loro si sono già fatti riconoscere da pochissime persone e che cosa mi dici Dio della teoria sempre più popolare che gli esseri provenienti dallo spazio siano in realtà malvagi ce ne sono davvero alcuni che vorrebbero danneggiarci esistono altri esseri umani che desiderano fare del male agli altri e come forse potreste ritenere malvagi alcuni di quegli esseri i meno evoluti ma vi ricordo di non giudicare nessuno fa mai qualcosa di scorretto secondo il proprio modello dell'universo alcune forme di vita sono avanzate tecnologicamente ma non spiritualmente anche la vostra ma se questi esseri malevoli sono più progrediti di noi che cosa impedisce a loro di distruggerci siete protetti davvero sì vi è stata data l'opportunità di vivere fino al compimento del vostro destino la vostra stessa coscienza determinerà il risultato che cosa significa che in questo come in tutto il resto ciò che pensate è ciò che ricevete ciò che temete è ciò che attraete ciò a cui fate resistenza persiste ciò che affrontate scompare dandovi la possibilità di ricreare tutto se lo desiderate oppure di eliminarlo per sempre dalla vostra esperienza ciò che scegliete è ciò che sperimentate non mi sembra che la mia vita vada così perché dubiti del potere dubiti di me probabilmente non faccio bene assolutamente no capitolo 20 perché dio le persone dubitano di te perché dubitano di se stesse e perché dubitano di se stesse perché così è stato insegnato loro da chi da altri che sostenevano di rappresentare me non capisco per quale ragione perché era ed è l'unico modo di controllare la gente devi dubitare di te altrimenti potresti decidere di reclamare tutto il tuo potere e ciò non farebbe affatto piacere a chi detiene il potere e sa che l'unico modo per mantenerlo è quello di sviare ogni tentativo da parte del mondo di vedere e quindi eliminare alla radice i problemi principali dell'umanità che sarebbero la maggior parte dei problemi e dei conflitti se non tutti potrebbe essere risolta se abbandonaste il concetto di separazione e adottaste quello di visibilità non consideratevi mai più divisi gli uni dagli altri e da me dite sempre soltanto la verità e non accettate altro che la vostra più grande verità su di me la prima scelta porta alla seconda perché se capite di essere uno con tutti non potete mentire o non essere totalmente visibili perché sapete che è nel vostro interesse certo per questo cambiamento c'è bisogno di saggezza coraggio e determinazione perché la paura cercherà di colpire al cuore questi concetti e farli sembrare falsi e tenterà di erodere queste magnifiche verità svuotandole eppure non potrete avere la società che avete sempre sognato finché non riuscirete a vedere con chiarezza la verità principale che ciò che fate agli altri lo fate a voi stessi e ciò che non fate per gli altri non lo fate nemmeno per voi stessi che il dolore degli altri è il vostro e la gioia degli altri è vostra e ogni volta che rifiutate una parte di tutto ciò rifiutate una parte di voi è il momento di reclamare voi stessi di vedervi come siete realmente e quindi rendervi di nuovo visibili perché quando voi e la vostra relazione con Dio diventate visibili noi diventiamo indivisibili e nulla potrà mai dividerci anche se continuerete a vivere nell'illusione della separazione usandola come uno strumento per creare voi stessi da quel momento vi muoverete attraverso le vostre incarnazioni come esseri illuminati vedendo l'illusione per ciò che è e adoperandola con gioia per sperimentare ogni aspetto di chi siamo senza però accettarlo come una realtà non dovrete più perdere la memoria per ricrearvi ogni volta da capo ma userete la separazione in modo consapevole scegliendo di manifestarvi come ciò che è separato per uno scopo preciso e quando sarete totalmente illuminati potrete scegliere di tornare alla vita fisica non più per creare o sperimentare nuovi aspetti dell'io ma per aiutare gli altri a ricordare allora sarete portatori della luce sarete parte del risveglio altri lo hanno fatto sono venuti qui per aiutarci a ricordare chi siamo sì sono anime illuminate che non cercano l'esperienza più alta di se stesse perché l'hanno già avuta il loro unico desiderio è indirizzarvi verso quell'esperienza vi mostreranno la via e la vita di Dio diranno io sono la via e la vita seguitemi voi e io siamo sempre uniti non potrebbe essere diversamente eppure voi non siete coscienti di questa unione tuttavia è possibile vivere in un corpo fisico in unione cosciente con tutto ciò che è esprimendo consapevolmente chi siete realmente quando lo fate divenite un modello per gli altri che hanno dimenticato e li aiutate a non perderci per sempre nell'oblio questo è l'inferno smarrirci per sempre nell'oblio ma io non lo permetterò non lascerò che si perda una sola pecora manderò un pastore anzi ne invierò molti e tu puoi scegliere di essere uno di loro anche adesso Dio sul nostro pianeta ci sono esseri come questi sì ce ne sono sempre stati e ce ne saranno sempre non vi lascerò mai senza maestri sul vostro pianeta come in molte altre parti dell'universo ne esistono molti e in alcuni luoghi vivono insieme in continua comunione esprimendo costantemente la verità più alta sono le società illuminate di cui ti parlavo sono reali e vi hanno mandato degli emissari vuoi dire che Buddha Krishna e Gesù venivano dallo spazio lo hai affermato tu non io è così è la prima volta che lo senti dire no ma è vero tu credi che prima di venire sulla terra quei maestri siano esistiti altrove e vi siano tornati dopo la cosiddetta morte se sì e dove credi che sia quel posto ho sempre pensato che si trattasse del paradiso e dove immagini che sia il paradiso non lo so in un altro regno credo in un altro mondo sì ma io definirei un mondo spirituale non un pianeta infatti è il mondo spirituale che cosa ti fa pensare che gli spiriti santi non possano scegliere di vivere in un luogo qualsiasi dell'universo proprio come hanno fatto quando sono apparsi nel vostro mondo non ci ho mai pensato allora Gesù era un uomo venuto dallo spazio non ho detto questo o insomma lo era o no sì paziente figlio mio corri troppo ci sono molte altre cose da dire prima abbiamo ancora da scrivere un libro intero dovrò aspettare il terzo volume per saperlo te l'ho detto fin dall'inizio ci saranno tre libri il primo si occuperà delle verità e delle difficoltà della vita individuale il secondo discuterà le verità del vivere come una famiglia su questo pianeta e il terzo svelerà le verità più grandi che hanno a che fare con le eterne domande nel prossimo libro saranno rivelati i segreti dell'universo o forse no oh non sopporto più questo gioco sono stanco di vivere nella contraddizione come dici tu voglio che ciò che è in un modo sia in quel modo allora così sarà eh a meno che non sia così eh esatto hai capito ora comprendi la dicotomia divina tutto ciò che è stato che è adesso e che sarà esiste proprio in questo istante quindi tutto ciò che è è tuttavia quell'essere è in costante cambiamento perché la vita è un processo di creazione continua dunque ciò che è non è l'essere non è mai lo stesso il che significa che l'essere non è ma allora come può una cosa qualsiasi avere un significato non ce l'ha ma stai di nuovo bruciando le tappe ogni cosa a suo tempo figlio mio questo e altri grandi misteri saranno chiariti dopo il terzo volume a meno che eh a meno che non lo siano precisamente d'accordo ma prima o meglio per le persone che forse non leggeranno mai quel libro quali sono qui e ora i modi per tornare alla saggezza alla chiarezza a Dio dobbiamo rivolgerci alla religione è quello l'anello mancante tornate alla spiritualità lasciate perdere la religione questa affermazione Dio farà arrabbiare molti un sacco di gente reagirà con rabbia a tutto quello che è scritto a meno che non lo faccia perché dici di lasciar perdere la religione perché non è un bene per voi per avere successo una fede organizzata deve convincere le persone di averne realmente bisogno e per credere in qualcosa di esterno le persone devono perdere la fede in se stesse quindi il primo compito di ogni religione è farvi perdere la fede in voi stessi il secondo è farvi vedere che possiede le risposte che a voi mancano il terzo scopo il più importante è indurvi ad accettare quelle risposte senza fare domande per fare domande bisogna pensare e se pensate cominciate a tornare alla fonte interiore la religione non può permettere che ciò accada perché potreste trovare risposte diverse da quelle stabilite perciò la religione deve farvi dubitare di voi stessi e della vostra capacità di pensare ma questa è un'arma a doppio taglio perché se non potete accettare i vostri stessi pensieri senza metterli in dubbio come potete non dubitare anche delle idee su Dio che la religione vi ha fornito dopo un po' dubiterete perfino della mia esistenza cosa di cui prima delle religioni non avevate mai dubitato quando vivevate seguendo le vostre intuizioni forse non avevate un'immagine precisa di me ma eravate certi della mia esistenza è stata la religione a creare gli agnostici è stata la religione a riempire il cuore degli uomini con il timore di Dio quando una volta l'uomo amava ciò che è in tutto il suo splendore è stata la religione a ordinare all'uomo di prostrarsi mentre prima gli esseri umani si elevavano gioiosamente verso Dio è stata la religione a riempire l'uomo di preoccupazioni rispetto all'ira divina quando una volta l'uomo cercava Dio per alleggerire il proprio fardello è stata la religione a dire all'uomo di vergognarsi del proprio corpo e delle sue funzioni naturali quando una volta l'uomo le celebrava come il più grande dono della vita è stata la religione a insegnarvi che avete bisogno di un intermediario per poter raggiungere Dio quando una volta potevate raggiungermi semplicemente vivendo la vostra esistenza con bontà e sincerità dovunque si sia diffusa la religione ha creato separazione che è l'opposto di Dio la religione ha diviso l'uomo da Dio e dagli altri uomini e donne alcune religioni sostengono perfino che l'uomo sia superiore alla donna avallando così ogni tipo di soprusi ai danni di metà della specie umana Dio non è superiore all'uomo e l'uomo non è superiore alla donna questo non è il naturale ordine delle cose ma quello che gli uomini desideravano quando fondarono le loro religioni maschili la religione relega ancora oggi le donne a una parte spirituale di seconda classe considerandole inadatte a insegnare la parola di Dio o a celebrare rituali ti dico questo nessuno è più adatto di un altro essere un mio sacerdote ognuno di voi lo è ma molti sono affamati di potere e non amano spartirlo così hanno costruito l'immagine di un Dio avido che ama soltanto esercitare la sua autorità eppure ti dico che il più grande dono di Dio è la divisione del suo potere io vorrei che tutti voi foste come me ma è impossibile Dio questo sarebbe blasfemo la cosa davvero blasfema è che vi siano state inculcate idee del genere voi siete stati fatti a immagine e somiglianza di Dio questo è il destino che siete venuti a compiere non siete venuti a dibattervi a lottare per non arrivare mai alla meta non vi ho inviati a compiere una missione impossibile credete nella bontà di Dio e nella vostra bontà in quanto creature di Dio e in questo libro Dio hai detto una cosa che mi ha intrigato e mi piacerebbe tornarci sopra hai affermato il potere assoluto non chiede assolutamente nulla è questa la natura di Dio adesso hai capito io ho detto Dio è ogni cosa e diventa ogni cosa non c'è nulla che Dio non sia e tutto ciò che Dio sperimenta lo sperimenta attraverso di voi nella mia forma più pura io sono l'assoluto sono assolutamente ogni cosa quindi non voglio non chiedo e non mi serve mai qualcosa a partire da questa forma purissima divento tutto ciò che mi fate divenire ma qualunque cosa facciate di me non posso dimenticare e tornerò sempre alla mia forma più pura tutto il resto lo avete inventato voi c'è chi vuole fare di me un Dio geloso ma come potrebbe essere geloso un essere che ha e che è tutto alcuni vogliono trasformarmi in un Dio iracondo ma che cosa potrebbe generare in me l'ira se non posso essere danneggiato in nessun modo altri ancora mi considerano un Dio vendicativo ma su chi mi dovrei vendicare se tutto ciò che esiste è me e perché vi avrei creato vi avrei dato il potere di agire la libertà di scegliere ciò che desiderate fare solo per punirvi per l'eternità se fate la scelta sbagliata ti dico questo non farei mai una cosa simile e in questa verità risiede la vostra liberazione da un Dio tiranno non c'è alcuna tirannia se non nella vostra immaginazione potete tornare a casa quando volete possiamo essere di nuovo insieme in ogni momento potete conoscere di nuovo l'estasi dell'unione con me se soltanto lo decidete basta un alito di vento sul vostro viso o il canto di un grillo sotto il cielo stellato in una notte estiva potete essere uno con me guardando un arcobaleno udendo il primo strillo di un neonato guardando l'ultimo raggio di sole al tramonto o esalando l'ultimo respiro sarò sempre con voi fino alla fine dei tempi la vostra unione con me è completa lo è sempre stata e sempre lo sarà voi e io siamo uno ora e sempre andate e rendete la vostra vita un'affermazione di questa verità fate che i vostri giorni e le vostre notti siano il riflesso della vostra idea più elevata permettete ai vostri momenti di colmarsi dell'estasi di vedere Dio manifestarsi attraverso di voi fatelo attraverso l'espressione del vostro amore eterno incondizionato per tutti coloro che sfiorano la vostra vita siate una luce nelle tenebre ma non maledite le tenebre siate portatori della luce lo siete così sia grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti